buongiorno a tutti benvenuti ben ritrovati eh siamo qui oggi eh in presenza e anche con una numerose eh numerose colleghi collegati come anche ieri poi man mano vedremo nella giornata quanti appunto si collegheranno eh io sono Elisabetta Balestro e mi occupo in azienda ospedale Università di Padova di malattierare del polmone e soprattutto ho l'opportunità ho avuto l'opportunità da più di un anno di far parte del dipartimento funzionale malattierare dell'azienda ospedaliera di Padova preseduto dal professor Perilongo che ci tengo molto a eh ringraziare come è avvenuto già anche ieri per queste giornate e soprattutto per eh il il cuore e l'anima che mette a questo tipo di iniziative riguardanti le malattie rare. Eh oggi il viaggio continua eh e attraverserà quello che è già stato citato ieri ossia eh il capitolo ERN European Reference Network. Siamo in una cornice storica e eh la cornice storica che oggi ci accoglie permette proprio di affrontare quella che è tutta l'evoluzione riguardante eh le malattie rare. Eh le ERN eh di cui facciamo parte anche noi come azienda ospedaliera di Padova e in particolare ben ventuno rappresentanti dell'azienda ospedaliera di ventiquattro ERN permettono oggi effettivamente di affrontare quelle che sono le tematiche in maniera trasversale e infatti avremo l'opportunità di ascoltare un intervento eh dal punto di vista europeo e degli interventi soprattutto dal punto di vista eh di come è avvenuto il coordinamento a livello italiano da referenti che abbiamo qua l'opportunità di ascoltare e da referenti che invece vengono da eh realtà europee che sono qua oggi con noi e che condivideranno quello che è avvenuto dal lancio dell'ERN cinque anni fa e quelle che saranno le prospettive future. Eh ora lascio la parola alla mia collega Nora Cazzagonna che avrà il piacere di introdurre il nostro ospite in collegamento. Buongiorno a tutti mi eh presento sono Nora Cazzagonna sono una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche di questa università e lavoro in gastroenterologia ehm nell'azienda eh ospedale Università di Padova. Eh oggi il mio faccio parte anch'io come Elisabetta e molti di voi del Dipartimento Funzionale delle Malattie Rare e oggi il mio compito è quello di introdurre il Dr. Giuseppe Valverde. So today is my aim to introduce Dr. Valverde, our first speaker. Dr. Valverde is the project officer at the unit B3 of the European Reference Network and Digital Health in the European Commission. Is the member of the ERN team with tasks related to the public and health quality evaluation monitoring and clinical guidelines. And also is as well as he has task on the coordination and implementation aspect. But before that he was medical doctor. He is a medical doctor and he specialised in emergency and mass casualty medicine and also family and community medicine. And he has very long experience in clinical experience management on the Andalusian emergency service. Where he also had important tasks on the Spanish Health Administration. In fact he was director of the Andalusian Health Technology Assessment department and also the first director general of the Spanish National Centre for Accessibility Technologies. So today he will give us a lecture about what is the balance of the five year period after the launch of the project of ERN that was held in Vilnius in 2017. And he will he will give us effectively a lecture on the interaction and the balance and the future development of the ERN and the different national health system. So he will give a talk about the European point of view. So please Dr. Valverde. Good morning. Thank you very much for the invitation. My name is Jose Valverde. I have to say thank you very much for the invitation to Professor Perilon to the city of Padua, to the Regione di Veneto and the university and the hospital. Sorry, this is the interpreter speaking. Since I am from the room, do you mind doing a sort of sentence-by-sentence work? And now I will introduce you and then we will go on. Thank you. Thank you. I will try to speak slowly and first I will start sharing my screen to give you an overview of the last five years of the event. Can you see my screen now? Can you see the screen? Not yet, if I can say. The technical things. Probably a few seconds. Yeah, it will, it will. Could you please stop your sharing of the screen and then we start again? Okay. Thank you. Yeah. Okay. Perfect. Now. Now it's okay. We can see it. Okay. Thank you. So let me introduce what is our unit. Unit B3 depends from DigiSante and it is in care of the implementation and the more practical aspects on the European Referent Networks. In any case, we should not forget that ERNs are really important and other aspects on rare diseases. So in Sante there is also another unit, B5, taking care of orphan drugs. Also in Sante, unit C1 takes care of the strategy on rare diseases. L'unità C1, parte sempre di DigiSante, si occupa delle strategie relative alla gestione delle malattie rare. And of course, in DigiRT research, they take care of the aspects related to Horizon Europe, previously to Horizon 2020, funding different products on rare diseases. L'unità RTD, che si occupa appunto della ricerca presso la Commissione, si occupa del programma Horizon Europe, che precedentemente era il programma Europa 20. So let's start first with a glimpse into what has been done up till now. Vediamo ora cosa è stato fatto fino ad oggi. So, from 2017, with the starting of the 24th first year ENDS, we managed to create a clear legal basis and an institutional framework. Dal 2017 abbiamo creato la base giuridica per questa struttura. In 5 years, the governance has been consolidated in a structure that works on everyday capacities and the networking capacity has been multiplied. Da quella data è stata istituita anche la struttura che si occupa della governance della rete, che si occupa della gestione rutinaria della rete e la rete è stata notevolmente ampliata. Clearly, from the Horizon, sorry, the Health Program and also the EU for Health Program, the European Union funding sources are fully available for the year ENDS. Grazie alla Costituzione del Terzo Programma Sanitario e al Programma Europe for Health sono disponibili fondi comunitari per il finanziamento della rete. La cosa importante è sottolineare che la titolarità di questa rete è congiunta, quindi è suddivisa tra le autorità degli Stati Uniti, le associazioni dei pazienti, i professionisti di sanità, gli ospedali e le istituzioni europee. In questo modo, in 2019, tre anni dopo la creazione, gli Stati membri hanno costituito gli hub nazionali. Nel 2022 è stato il primo grande ampliamento di questa rete che ora può contare su circa 1.500 specialisti e operatori clinici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un altro riquadro, le azioni e esiti del lavoro di questa rete sui quali ci soffermeremo più avanti nel corso del mio intervento. Per dare una breve panoramica possiamo dire che sono state create appunto i CPMS, si è sviluppata la formazione, l'istruzione, si è diffusa la consapevolezza sulla tematica, sono stati definiti degli orientamenti e delle linee guida pratiche e via dicendo. Questi sono i quattro punti cardine di cui poi potremmo fare durante la tavola rotonda, magari ampliando le tematiche e ve le leggo brevemente, ampliamento, finanziamento, valutazione e monitoraggio e azioni future. So, let's start with the enlargement, which is the last big action and which we'll have quite an impact, I will say, hopefully, in the patients first, in the professionals, but also on the governments of the whole system. Stiamoci ora sull'aspetto allargamento che è molto importante e che avrà un notevole impatto sui pazienti e sulla professione in generale. So, this is, as I was explaining before, the timelapse we have in these five years. So, in 2009, we made the call for applications for the member, and then the independent assessment took care. But, of course, the COVID crisis introduced an external variant that took us almost a double of the time. In questa diapositiva vediamo l'orizzonte temporale che ho citato prima. Nel 2019 ci siamo occupati di pubblicare un bundle per ricevere nuove richieste di appartenenza alla rete che sono state sottoposte a una valutazione indipendente e che ha portato nel 2022 all'allargamento. Andiamo a dire che in tutto questo è intervenuto un fattore esterno che è il COVID, che ha imposto un rallentamento sul progredire dello sviluppo. So, from 846 original members in 2017, we have increased by 2019 in 288 affiliated partners, including national hubs. And now, we are, from the beginning of this year, from 1st January, 620 new clinical units. Questi sono i nostri numeri passati dagli 846 membri cosiddetti storici a più 288 membri affiliati nel 2019 e ad oggi, a partire dal primo gennaio di quest'anno, abbiamo 620 nuovi membri che sono unità cliniche. Quindi, in totale, oggi annoveriamo 1.500 membri che sono costituiti da unità cliniche. in Europa, ma non solo nel territorio dell'Unione Europea, perché è compresa anche la Norvegia. E quindi, in questo modo, siamo in grado di dare una copertura dell'88% del territorio dell'Europa. So, you see, this time, we have been carrying out certain actions from the European level. So, to manage the enlargement has not been taken into account that the IT infrastructure has to follow. Also, the support to certain actions on knowledge generating, like clinical guidelines. The support to research activities. Also, the integration of these networks into the national systems. And, of course, to demonstrate during this time that year ends really add value to the situation. And this has been and is going to be done through the evaluation of the networks and the continuous monitoring. In questo periodo abbiamo svolto notevoli attizioni a livello europeo, perché, come si comprenderà bene, l'alpiamento non è stato facile, anche perché i sistemi informatici hanno dovuto, gioco forza, adeguare a livello europeo dell'assigliamento della rete. Abbiamo sviluppato e redatto nuove linee guida. Abbiamo dato sostegno alle attività di ricerca. Abbiamo integrato le reti nel sistemi sanitari nazionali. E, in questo modo, siamo riusciti a dimostrarne il notevole valore aggiunto nella valutazione e nel monitoraggio. Grazie. Let me just add to this, that this 620 members is a real challenge for the current networks. They have been demanded, or it has been demanded some months to integrate them. So until April this year, little by little, this new member has been cooperating the current networks. I must admit that the inclusion of these 620 new members represents a real and real challenge for the network. There have been months to continue the integration, and we expect that for April this year, their integration in the network will be complete. Sorry, I passed too quickly. The next step into the presentation is funding, and I would like here to speak on the EU for Health Programme. A questo punto rapidamente al finanziamento, e in particolare al EU for Health Programme. You know, this is a very important aspect of the new horizon for the European Union and for the European Health Union. It was adopted on the 27th of March last year, and it is for the whole framework 21-27. Questo programma è stato adottato il 27 marzo del 2021 nell'ambito del programma Horizon, che riguarda anche gli aspetti sanitari e fa parte della pianificazione finanziaria pluriannale del periodo 2021-2027. The total funds are up to 5.3 billion euros for actions that include from the creation of the new HERA authority to the funding of the ERNs, which are specifically in the objectives of the program. Fra gli obiettivi del programma, nello specifico, abbiamo la creazione di una nuova autorità sanitaria di investimenti nell'ambito delle reti per un importo totale di circa 5,3 miliardi di euro per interventi che possono avere un valore aggiunto dalla dimensione europea. È importante ribadire che l'ERN sono uno degli obiettivi specifici ed espressi di questo programma. Ora descriviamo i finanziamenti nello specifico e vi invito a seguire gli elementi di questa diapositiva. In passato avevamo tre fondi di finanziamento, il CEF, cioè Connecting Europe, i registri e il coordinamento. Da quest'anno e a concludere con dicembre del 2022 avremo una nuova forma di finanziamento in una sovvenzione diretta che costituerà un ponte tra il vecchio regime e quello nuovo. Quindi mi correggo, non andranno a chiudersi a dicembre di quest'anno, ma ad agosto del 2022. Dopodiché si passerà a una nuova forma di sovvenzioni dirette di tipo consolidato fino al 2027. Quali sono le caratteristiche di questi finanziamenti diretti? Essi sono della stessa tipologia degli attuali fondi di coordinamento ENS e godranno delle stesse regole finanziarie e di riportazione amministrativa. Una cosa molto importante è che questi sono costi ammissibili al 100% e non più al 50% come evidenza. La caratteristica principale di questi fondi è che essi hanno valenza retroattiva. Quindi a decorrere dal primo marzo di quest'anno, anche se saranno ancora in corso, la presentazione delle richieste e la loro approvazione. Avranno valore durata per 18 mesi per un bilancio totale di 26 milioni di euro per tutte le 24 ERM. Non si tratta di bandi che hanno un valore competitivo, ma tutte e 24 le reti potranno accadere alle opportunità di finanziamento e bando attraverso il portale. Naturalmente il bilancio dipenderà dall'evoluzione. Le caratteristiche di ogni rete e la divisione non sarà uguali per tutti, in quanto alcune reti godranno ancora dell'erogazione dei fondi in vigore con il vecchio sistema. Parliamo ora di valutazione e monitoraggio. Altro aspetto molto importante, di sicuro molte reti ERM hanno partecipato al progetto Amequis negli ultimi anni. Questo progetto non è specificamente dedicato alla valutazione, ma piuttosto al miglioramento della qualità e alla sua valorizzazione. Amequis significa, appunto, secondo la parola inglese, valutazione e monitoraggio e valutazione, che è la parte che rientra nell'ambito di gestione della governance. Naturalmente la parte che riguarda la valutazione delle reti è descritta nella decisione delegata che risale al 2014. Il monitoraggio delle prestazioni è fatto su continua e sulla scorta dei KPI, che sono i Key Performance Indicators. Ce ne sono 18 e sono concordati tra le reti. La valutazione è stata effettuata mai, però è previsto che lo si effettui ogni cinque anni o comunque a seguito di un'altra valutazione. Il ciclo di qualità, per quanto riguarda appunto l'elemento qualità, è quello tipico che prevede i diversi elementi nell'ambito del sistema Amequis, cioè pianificazione, azione, controllo, intervento e ripianificazione. Siamo ora della valutazione a cinque anni, attalmente in corso. Amequis ha provided us with a new way of tackling this aspect. Amequis si è dotato di una metodologia per effettuare la valutazione che ha portato alla sigla di un contratto quadro per la valutazione del programma del programma stesso nei prossimi anni. Come sono pianificate quindi? Quali sono i programmi per quest'anno? Riteniamo che questo programma quadro sarà siglato entro l'1-2022. As it is a contract in cascade, we think that the independent assessment and evaluation body would be contracted by end of July, beginning of August. Riteniamo quindi a seguito della sigla del contratto che sarà messo sotto contratto un organismo di valutazione Quindi probabilmente la valutazione inizierà dopo la fine di agosto e quasi sicuramente comunque entro la fine dell'estate. Quindi per far partire questa valutazione è auspicabile che i team delle RN si preparino per avviare questa valutazione. Quindi auspicchiamo che i rapporti di valutazione finale predisposti da ciascuna rete, da ciascuna unità clinica, possano essere predisposti per l'anno prossimo. For sure there will be a final report of the whole evaluation of the ERN system and what impact has had during the last five years. Sicuramente ci sarà un rapporto finale di valutazione su quanto è stato fatto dalle ERN e dal loro impatto. Non dimenticate che nel contempo stiamo facendo anche la valutazione della direttiva sanità trasfrontaliera. Questa direttiva deve essere sottoposta a valutazione e si è stata approvata nel 2011 e dopo questo periodo essa deve essere soggetta alla valutazione politica conforme alla normativa UE sui principi della better regulation e a dieci anni dall'aduzione della stessa. E naturalmente questo avrà un impatto perché è stato grazie a questa direttiva che sono state create le ERN. La valutazione è stata avviata nel gennaio del 2021, sono state avviate delle consultazioni pubbliche nell'estate del 2021. organizzando un certo numero di workshop e di indagini con tutti i portatori di interesse. Stiamo finalizzando questa valutazione e ci aspettiamo la pubblicazione di un rapporto finale nella seconda metà di quest'anno. Parliamo ora del nostro futuro, quali sono le nostre idee e sapranno che già diversi interventi sono già stati avviati. Parliamo ora dei nuovi strumenti informatici, indubbiamente i nuovi cpms. Strici? Parliamo ora di questo nuovo programma di passare a livello mobile, di essere meno struttura, to be able to carry out the consultations that certain networks were not able to do previously and finally to do an open source that can be transformed, adapted to each of the national systems. Fra i nuovi progetti c'è anche quello di muoversi su mobile quindi diventare meno fisici, meno dati a delle strutture fisiche in modo che sia possibile fare anche dei teleconsulti che alcune reti non erano in grado di fare in precedenza e passando anche a un sistema open source che possa essere adattato ad ogni sistema nazionale. Vediamo qui menzionata l'Academy che è una pandemia virtuale che è in fase di sviluppo da parte dei nostri informatici e che sarà molto simile all'IU Academy. A continuous training we have already in place two programs very important the first one is the clinical practice guidelines program which is in the middle of the development. Per quanto riguarda la formazione continua abbiamo due programmi il primo di questi è a metà del sviluppo e riguarda la redazione di linee guida pratiche cliniche. Il secondo programma è il programma di mobilità e questo programma è ora è stoppato perché della crisi con il Covid e speriamo che nel prossimo mese sarà rioperto che si stanno muovendo ma devo dire che già alcuni professionisti e rappresentanti dei pazienti o dei pazienti hanno profitto Il secondo programma riguarda la mobilità professionale che purtroppo si è dovuto fermare a causa della pandemia speriamo che nei prossimi mesi esso possa ripartire anche se so che si stanno muovendo diversi professionisti e rappresentanti dei pazienti. Naturalmente dobbiamo ringraziare i colleghi delle altre DG per la collaborazione questo nell'ambito dell'attività di ricerca e dei registri abbiamo un rapporto di stretta collaborazione con i colleghi della direzione generale in particolare con l'ambito Erika e EJP per ribadire le sfide ma anche soprattutto le opportunità del nuovo spazio dati sanitario europeo che sarà importantissimo per il futuro e devo dire che le reti saranno uno dei primi importanti esempi della validità di questo spazio dati sanitari europeo l'ultimo punto riguarda l'integrazione l'integrazione è rivolta agli stati membri quindi non alle RN nello specifico e riguarda un'azione congiunta per l'integrazione nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali ed è dotata di un fondo di 11 milioni di euro e sarà avviata nel 2022 possiamo dirci soddisfatti in quanto questa richiesta di integrazione proviene ormai da anni da parte delle e dai portatori di interesse una richiesta ormai annosa è importante perché l'integrazione non è importante solo a livello europeo ma soprattutto a livello di sistemi sanitari nazionali and this is all thank you very much if you have questions please and in any case you have my email and please contact me contact us thank you very much con questo e vi ringrazio moltissimo se avete delle domande sono disponibili e naturalmente potete scrivermi anche indirizzo e-mail grazie so thank you very much dr valverde your lecture was very clear and i think that we got more insight about what we are doing now in the next months to prepare our evaluation and to work with the coordinator of the year ends so thanks very very much so i would like to know if anyone in the audience would like to pose some questions to dr valverde or in the chat as well i would be able probably to thank you for your excellent review you gave us very important information one question two questions how much the each national authorities have agreed on this program i mean how much can we count on the support of our national health system in moving towards what you have done i mean are the national health system in europe committed to do what actually the europe is actually going to say and the second question what is the ultimate aim of all this or let me try to ask you are we looking forward to an European integrated health system did you get my questions so thank you very much for your two questions i will start with the first one the joint action that support the integration of the national health care systems is right now being developed so some key elements were published in the EU for health program of this year of 2022 but some of the elements have to be more developed and of course it will be very important because this is an open competition that each member state proposes what they want to do however of course there will be a common part which will be taking a look at best practices how things are being organized in some European countries detect the gaps between one system and the other and propose and recommend actions but then each can will have the opportunity to organize themselves because what it is clear is that there is heterogeneity in the organization at the national level some countries have a very well developed strategy reference paths pathways for the patients and for the different units others prefer not to have a general strategy for rare diseases and have left to the more practical organization but we think that in the end to create really a European network you need to have national networks that connect on the second question well we are talking now about a health union and this is something to be developed and this is something I think that most European citizens are wishing and of course professionals we have a look on that but we have many steps to cover member states have the responsibility today for health care provision and this is clear thank you thank you very much now we have to move forward to the next lecture and the next discussion and so I invite the next chair women professor Christina Basso and professor Raffaella Colombatti thank you buongiorno a tutti e benvenuti a queste due tavola risolte direi erne bilancio e prospettive a cinque anni dal loro lancio erne e servizio sanitario nazionale la prima è con esperti italiani io sono raffaella colombatti sono pediatra ematologo presso il dipartimento della salute della donna e del bambino sono corresponsabile del centro regionale per la malattia drepanocitica in età pediatrica e rappresentante della cross border health care per la erne europea la mia co-chair è la professoressa cristina basso prorettrice con delega alle relazioni internazionali dell'università di padova e rappresentante della erne heart e della rete guard per le malattie cardiologiche cristina a te la parola buongiorno a tutti è un piacere essere qui a partecipare a questa tavola rotonda che è dedicata al punto di vista italiano ovviamente sulla rete sulle reti erne abbiamo quattro partecipanti alla tavola rotonda due da remoto e due in presenza prima di tutto volevo dirvi che siamo molto contenti in particolare gli organizzatori della presenza non sono in sala che cominciamo a vedere le sale un po' piene di gente ma anche da remoto perché abbiamo dicono quasi 500 collegati via facebook e mi pare che siamo arrivati a 90 partecipanti via zoom quindi direi che è un ottimo risultato veniamo invece ai contenuti della tavola rotonda e sono con noi oggi simona bellagambi che ha iniziato la collaborazione del 2004 come volontaria come uniamo alla federazione italiana per le malattie in particolare il suo ruolo è quello di collegare il livello nazionale ed europeo rappresentando l'eleanza italiana per le malattie rare uniamo FIM nel consiglio delle eleanze di Euroordis e nel 2012 è stata letta per la prima volta nel consiglio di amministrazione di Euroordis e adesso ha il suo terzo mandato poi abbiamo da remoto Marta Mosca che è coordinatore ERN Reconnect docente di reumatologia presso l'università di Pisa responsabile dell'unità di reumatologia presso l'azienda pisana è membro del comitato consultivo scientifico di Lupus Europe l'associazione europea dei pazienti affetti dall'ESSE dal 2017 è coordinatrice della rete europea di riferimento sulle rare enderizzate di connective musculoskelet disease e riconnetta appunto supportata dalla commissione europea sempre da remoto abbiamo Luca Sangiorgi che è coordinatore della rete ERN Bond attualmente a capo del dipartimento di malattie ortopediche rare della Rizzoli istituto ortopedico di Bologna è coordinatore del centro malattie rare Rizzoli coordina l'Emilia Romagna regiona Abba e Spoke Network su strutture ossei rari è coordinatore di 5 registri delle malattie rare di biogene la biobanca delle malattie osse rare dell'istituto Rizzoli ed infine qui con noi a destra nel tavolo abbiamo il professor Scarpa Morizio Scarpa docente del dipartimento di pediatria questa di Padova direttore del centro di riferimento regionale per le malattie rare a Sue di Udine coordinamento europeo per l'attività di diagnostica assistenza diagnostica assistenza clinica trasfrontaliera nel campo delle malattie rare metaboliche ereditarie per il generatore di MetaBern Metabolic ERN Bene Quindi cominciamo con una serie di domande che adesso noi poniamo a tutti i nostri colleghi e ospiti appunto di questa tavola rotonda io comincio con una prima raffica di domande che poi tutti dovranno cercare di rispondere va bene allora abbiamo sentito questa introduzione importante e quello che adesso noi chiediamo a livello appunto dei coordinatori italiani qual è stata la missione che la commissione europea ha affidato ai coordinatori delle ERN qual era il mandato finale ehm se il mandato era una sorta di mandato filantropico eh si è pensato chi sono stati considerati i principali beneficiari delle ERN ovvero i pazienti, i dottori, le istituzioni, i sistemi nazionali chi sono i veri eh target per cui sono state pensate insomma queste rete ERN da qui cominciamo in ordine di apparizione di presentazione quindi alla mia sinistra Simona. Allora buongiorno a tutti grazie per l'invito grazie per essere qua e credo sia risultato chiaro che io rappresento i pazienti. I pazienti sono stati nominati come possibili beneficiari? Sì sì sono contenta mi sono tolta la mascherina perché come Marta voglio sorridere perché è con grande entusiasmo perché ritengo riteniamo tutti che le reti siano state il più siano il maggiore il più grande risultato per il momento sulla carta non solo perché ci stiamo avvicinando ottenuto per aumentare la qualità il livello dell'assistenza e quindi migliorare la vita delle persone con le malattie rare non facendo viaggiare le persone ma facendo viaggiare la competenza avendo degli strumenti che permettono a questa competenza la conoscenza che è frammentata ed è ovunque nel mondo di superare le barriere e di arrivare di arrivare dove vicino a dove la persona vive quindi adesso non voglio andare ulteriormente ai dettagli ci sono altre risposte ma le reti europee di riferimento sono assolutamente un'opportunità che non possiamo noi persone anche il nostro il nostro stato ovviamente perché comunque un miglioramento un'ottimizzazione delle risorse se ben utilizzate se ben strutturate se ben integrati nei sistemi sanitari è un'occasione dei clinici che si avvantaggiano dell'expertise non ci possiamo permettere di sprecare quindi chi sono i beneficiari certo siamo noi le reti promettono di assistere curare informare condividere fare ricerca tutto questo al nostro beneficio ma beneficio dei signori che vedete qui accanto a me dei dei clinici che ovviamente fanno e si avvantaggiano di questa di questa condivisione ripeto è a beneficio ultimo di un sistema sanitario nazionale che se riuscirà a continuare questo supporto ottenuto dall'europa e quindi a integrarlo nel modo giusto e questo è un lavoro che dobbiamo fare insieme riuscirà a ottimizzare le risorse e quindi anche avere delle risorse da utilizzare in in altri settori mi fermo qua per il momento eccomi qua sì intanto buongiorno a tutti è un piacere essere con voi la presentazione che ci è stata fatta prima sulle reti ci ha fatto vedere quale sia il grande invento dell'europa su queste reti di riferimento e simona ci ha già detto tanto allora io vorrei dire quello che ho sentito essere il mandato da coordinatore quando ho iniziato questa avventura e certamente il mandato chiaro è quello assistenziale le reti nascono per assicurare una cura equa e anche sostenibile alle persone con malattie rare una diagnosi precoce e questo non solo nel nostro paese ma veramente ogni angolo dell'europa quindi è un'ambizione di fare interagire centri con maggiore e minore espertisi in tutta europa però proprio come diceva simona questo è un evento a cascata perché voler portare una migliore assistenza al paziente poi ha avuto una serie di ricadute di cui abbiamo sentito di cui parleremo perché è da curare bene nasce la necessità di conoscere di avere di avere cultura di educare di diffondere quindi cerca se vogliamo di promuovere trial clinici e quindi ogni network ma anche l'insieme dei network ha lavorato su questo qui sono credo che simona ci abbia proprio chiarito il fatto che c'è una ricaduta a cascata che parte però da quello che è il mandato che io ho sentito all'inizio cioè quello clinico assistenziale perché non possiamo negare che in un certo senso un po per questo nasceva questa esigenza vorrei dire proprio forse anche per quei paesi meno fortunati dell'italia noi siamo dei privilegiati poi alla fine abbiamo tante cose che critichiamo ma vorrei ricordare a tutti che l'italia è un paese che in realtà fa tanto ha fatto tanto e ha una storia sulle malattie rare e tanti centri italiani sono nelle reti europee perché eravamo preparati ma ci sono anche paesi europei molto meno fortunati noi quindi pazienti e devo dire che c'è una comunità di pazienti che va oltre i confini e i pazienti erano molto più avanti di noi in questo e ci hanno insegnato molto in questa esperienza di erna buongiorno a tutti tutto grazie per l'invito scusatemi se mi palese in remoto e spero la prossima volta che ci sia veramente l'opportunità di vedersi di persona perché insomma dopo due anni non se ne può più dopo questa brevissima introduzione condivido tutto quello che è stato detto da Simona e da Marta mi permetto di fare una piccola sottolineatura su quello che ha accennato già Marta sono partite con un mandato all'ottanta novanta per cento sulla parte di assistenza ed è giusto così ed era molto importante per noi garantire la migliore qualità assistenziale possibile in base a quel principio di equanimità che Marta ha già accennato adesso quindi rendere possibile e rendere reale un'assistenza dei pazienti in vicino possibile a casa anche per quelle situazioni e per quei contesti in cui questo non era possibile perché non c'erano magari dei centri di expertise così diciamo così formati per poter garantire ai pazienti questa qualità della vita per fare questo è fondamentale svolgere una buona ricerca io l'assistenza che noi possiamo avere è molto legata anche a una buona ricerca e se la ricerca non ha una ricaduta su quelli che sono i miglioramenti della qualità della vita dei nostri pazienti è una ricerca che alla fine è un po' sterile a mio avviso e non possiamo dire che allo stato attuale dei fatti hanno un mandato a 50 e 50 cioè fondamentalmente garantire una buona qualità della ricerca per poi poter fornire la migliore assistenza possibile ai nostri pazienti un altro dei mandati che abbiamo anche ascoltato nella relazione che ci ha preceduto quello di fare quello che è l'embedding come viene detto nel sistema nazionale gli erne che fanno parte degli erne non sono solo attore d'avorio sono dei centri che devono formare aiutare fare al massimo quello che chiamiamo l'eccellenza scusate magari ce la tiriamo un po troppo ma la migliore qualità dell'assistenziale possibile e quindi coinvolgere ed essere coinvolgenti essere aperti essere disponibili per coinvolgere al massimo gli altri healthcare provider gli altri centri che magari non hanno non hanno voluto applicare non hanno le competenze sufficienti ma che però questa ricaduta questa cascata deve essere fondamentale per migliorare la qualità assistenziale di tutto il paese in cui siamo incardinati di tutti i paesi in realtà in cui siamo incardinati che speravo di trovare qua meglio così allora il mandato degli erne è scritto nell'articolo 12 della direttiva cross border cioè della direttiva trasfrontaliera e devo dire la verità gli erne di per se stessi sono una delle diciamo dei pochi successi di questa direttiva trasfrontaliera che dopo dieci anni è fortemente criticata in quanto nell'attività diciamo di servizio nei confronti del paziente non ha avuto tutti gli effetti eh voluti perché ci sono state tutta una serie di burocrazie che hanno anche a volte rallentato eh diciamo la possibilità di pazienti di trovare in altri paesi quando non è possibile nel proprio diagnosi e terapie mentre l'articolo 12 è stato praticamente eh soddisfatto in pieno si è riusciti come abbiamo visto eh a creare ventiquattro retti sulle ventuno che erano previste si è riuscito a creare in un network più di mille cinquecento unità e quattrocento ospedali in Europa e questo tipo di azione non è mai stata fatta in nessun'altra parte del mondo sono passati cinque anni generalmente eh i progetti europei durano quattro cinque anni dopodiché se si è riusciti ad avere un buon risultato si continua in qualche maniera altrimenti poi ci si scioglie questo è un programma non è un progetto cioè questo è un programma che viene rinnovato ogni cinque anni stiamo chiudendo in questi giorni i primi cinque e stiamo scrivendo come ha detto anche José che almeno questo bridging eh grant che ci servirà a finanziare il primo anno e mezzo dei successivi cinque quindi secondo me questa è la manifestazione che fare rete è possibile parlare tra diciamo gli stati membri è possibile adesso abbiamo con l'ultimo allargamento praticamente completato i ventisette membri dell'Unione Europea e siamo in tutti i paesi e non abbiamo escluso l'Inghilterra anche se politicamente c'è la Brexit dal punto di vista scientifico nessuno di noi ha ovviamente eh eh estromesso eh gli inglesi quindi non siamo più virtuali come era previsto dal dal primo statement siamo delle realtà e siamo delle realtà che sono riuscite anche a creare un gruppo importante che è il gruppo dei coordinatori fortunatamente nessuno dei coordinatori è stato cambiato per il secondo quinquennio quindi adesso ci sarà una continuità ci avremo dieci anni di attività questo vuol dire che abbiamo eh contribuito a creare una governance a livello europeo di come vengono condotti questi questi network e adesso abbiamo cinque anni molto operativi quindi secondo me eh gli ERN sono probabilmente il più grande successo di DigiSante e lo ha detto anche José da quando è stata fondata perché effettivamente dà delle opportunità di interagire con i pazienti ogni ERN ha decine di associazioni con i quali lavora collaboriamo con uniamo con uniamo qui in Italia ma con Eurordis e con tutte le altre grandi agenzie anche di rappresentanza dei pazienti e eh poi magari ne parleremo stiamo veramente anche agendo a livello di politica sanitaria perché siamo praticamente l'organismo eh con la maggiore esperienza e anche autorevolezza sul campo perché per diventare un membro ERNA prima di tutto non si diventa personalmente lo si diventa come ospedale ma c'è tutta una serie di eh diciamo griglie valutative eh nelle quali ovviamente qualcuno è anche rimasto un po' imbrigliato quindi eh dal punto di vista diciamo eh di importanza soprattutto per il fatto che ci siano ventiquattro coordinatori che si trovano praticamente una settimana sì prima settimana no per decidere che cosa è necessario a livello europeo da sviluppare questa è una cosa che nell'ambito delle malattie rare può servire anche come esempio per altri casi e mi fermo qua se no non ci invietano di usare i microfoni mi sembra ok perfetto eh allora entriamo ancora di più nel vivo con la prossima serie alla fine sì sì alla prossima serie di domande in in che modo ognuno di voi ha interpretato il ruolo di coordinatore di una ERN e quali erano le priorità che ciascuno di voi ha fissato per il suo mandato ovviamente mai passo questa domanda non essendo un coordinatore ERN e devo dire anche sollevata di non esserlo per cui rimando a chi mi ha eh l'onere e l'onore va bene allora chiedo no in Eurold sì qui stiamo parlando di coordinatori di rete e esattamente come è stato detto nel primo nel primo intervento come già adesso hanno citato sia Maurizio che Marta e Luca eh credo che anche a chi eh insomma non è proprio tutto chiaro questi meccanismi soprattutto dalla parte anche di chi ne deve beneficiare ehm credo che appaia sempre più chiaro il doppio triplo triplo ruolo dei coordinatori cioè che sono coloro che effettivamente devono indirizzare come ha detto Maurizio incontrarsi continuamente devono indirizzare incontrarsi a livello europeo ma tutto questo indirizzare poi anche le attività eh la ricaduta a livello nazionale per il beneficio dei pazienti perché se no ripeto rimango rimane tutto qualcosa di molto astratto sono sono tutti dei clinici lavorano dovrebbero lavorare quindi vedono pazienti lavorano dentro una un un ospedale e quindi quanti sono come devono fare on on the top o quello che quello che è il loro lavoro hanno questo onere e onore che è veramente estremamente credo eh time consuming il consumo veramente tanto tempo soprattutto quando stiamo parlando perché affinché come eh come rete si abbia un impatto e si integri a livello nazionale si deve integrare con il territorio con il sistema locale per cui ecco credo che ne abbiano veramente tanto quindi sì è vero che ho coordino altri aspetti questi sono meramente squisitamente di non solo attività clinica ma proprio di coordinamento e lascio bene a loro la parola su questo allora Marta chiedo di rispondere per prima grazie dunque vorrei dire che mh la situazione delle reti all'inizio era molto in se ci tengo a sottolineare questa cosa siamo partiti ehm con delle eh diciamo delle fondamenta differenti quindi la situazione di Reconnect era eh era che non c'era nulla non avevamo nessuna collaborazione con società europee o strutture già preesistenti altre reti magari erano un pochino più avanti di noi quindi quello che ora parlo proprio della mia esperienza volendola condividere il successo il Reconnect è che abbiamo davvero iniziato dall'inizio infatti mi piace pensare che in questi cinque abbiamo costruito eh un'infrastruttura eh sulla quale nei prossimi cinque continueremo a lavorare e eh che la che abbelliremo ancora di più e magari fuori delle altre quindi questo è stato il mio lavoro allora eh devo dire come lo è come l'abbiamo interpretato il Reconnect tante cose che volevamo fare eh dall'educazione sulla quale siamo partiti molto velocemente la discussione dei casi clinici però visto che il nostro mandato era era per noi molto forte quello della cura del paziente devo dire che la gran parte del della prima fase di vita di Reconnect è stata dedicata all'interazione con i pazienti alla costruzione forte integrazione a livello europeo a livello italiano perché abbiamo tutta la rete non solo delle diciamo associazioni di pazienti italiani ma abbiamo Italia che si è costituito ehm abbiamo Uniamo quindi noi abbiamo cercato di capire come lavorare con i pazienti e come intero i pazienti all'interno di Reconnect eh quindi mh e questo vi devo dire che non è per niente eh ovvio nel senso che Simone ha detto che noi lavoriamo on top ma anche i pazienti lavorano on top perché eh anche il rappresentante del paziente lo fa fa altre cose nella sua vita quindi capire come lavorare come fare per noi forse è stata veramente una delle prime cose in questo eh mi pregio di dire dati fortunati ed è uno dei nostri come Reconnect risultati che più belli perché abbiamo davvero imparato a lavorare insieme oggi eh la forza della nostra rete è che spesso noi proponiamo ai pazienti i pazienti ci rispondono i nostri EPAG ci ci danno suggerimenti e e ci spronano a fare cose quindi mh come dire volendo scegliere una cosa tra le tante io direi che questa è stata quella veramente su cui all'inizio ovviamente poi nei cinque abbiamo fatto altro ci siamo concentrati però penso che i miei colleghi abbiano altre esperienze quindi lascio la parola a loro soltanto un piccolo inciso perché Marta ha eh parlato ha nominato gli EPAG e gli EPAG sono appunto i rappresentanti dei pazienti quindi il ruolo importante e ringrazio Marta e come lei gli altri di sottolineare quindi credo che sia importante spendere però un momento in questa collaborazione e in questa rappresentanza che inizialmente non era prevista eh dalla dalla Commissione Europea c'è stato un addendum che ha previsto proprio la il coinvolgimento della rappresentanza dei pazienti che come tutte le cose si svolge in modo diverso in ogni rete ma il cui valore aggiunto è assolutamente ormai dimostrato e la partecipazione dei rappresentanti dei pazienti è trasversale nei vari comitati della rete e questo ringrazio Marta eh per averlo menzionato e volevo sottolinearlo poi magari ne abbiamo modo di parlare. Grazie allora prima di cedere la parola a Luca posso dirvi che sono novantotto collegati in Zoom e quattrocento novantatré eh via altri social quindi insomma salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Luca prego. Mi sento un po' inibito dopo questi numeri. Eh dunque eh la esperienza dei primi cinque anni si può dire che è stata quella del work in progress cioè fondamentalmente il lavoro in corso. Eh è stata un creare o creare per essere più precisi ehm la commissione i professionisti e i pazienti che sono stati citati adesso un'infrastruttura completamente nuova di cui non c'erano precedenti. Eh Maurizio l'ha anche praticamente negato ma ognuno di noi che è stato coordinatore ricordo bene i primi incontri eh che si facevano a Bruxelles in cui nascevano eh anche dai coordinatori spontaneamente. Ricordo benissimo che con Maurizio abbiamo proposto abbiamo proposto ad esempio la creazione da coordinator group. La commissione inizialmente non aveva previsto che ci fosse un gruppo di coordinatori che proponeva attività alla eh board degli stati membri. Quindi da questo punto di vista in questi cinque anni posso dire che di strada ne è stata fatta veramente tanta. E si stanno creando questi sistemi chiamiamolo così misti eh in cui abbiamo professionisti pazienti eh policy decision maker che lavorano assieme per cercare di costruire un modello a mio avviso molto innovativo e credo che potrà essere un modello come è stato detto anche prima che potrà fornire indicazioni non solo per le malattie rare. Eh ci sentiamo un po' delle piccole cavie da esperimenti da questo punto di vista. Cioè siamo un po' delle persone stiamo stiamo cercando di creare qualcosa che è un po' diverso rispetto alla precedente. Ehm vorrei sottolineare che questo vale non solo per la parte eh diciamo così eh in considerazione delle opinioni di eh il nostro ERNA e credo che fosse sia l'unico ha nello stile incommitti nel comitato decisionale rappresentanti di pazienti che hanno voce in capitolo per decidere tutte le attività come i eh coloro che governano i working group del nostro ERN. Eh come diceva anche Marta adesso sì noi lavoriamo ma facciamo lavorare anche tantissimo i nostri paghi perché tutti i nostri paghi sono inseriti in ogni working group e stanno dando un anche nella parte di scrittura del programma eh dando i loro contributi in maniera molto chiara e molto precisa. Quindi è veramente se posso usare eh una sintesi quello che si sta vedendo in cinque anni è stato un meccanismo di co-costruzione a livello dei professionisti sanitari due grandi fra le tipologie di professionisti sanitari eh endocrinologi, aspetti del metabolismo osso eh con e con i genetisti e due mondi che prima del nostro ERNA non si parlava. Eh stiamo creando una nuova classificazione che tenga in considerazione i due mondi tra virgolette classificativi che erano stati considerati fino adesso. Quindi anche dal punto di vista dei professionisti una rivoluzione. Ma la rivoluzione dei pazienti che entrano tra virgolette nella stanza dei bottoni e che decidono e che eh prendono la decisione assieme. La rivoluzione del fatto che noi parliamo con eh di Gisante e suggeriamo, cambiamo, come diceva Maurizio, ormai c'è un dialogo praticato, c'è un telefono che squilla in continuazione fra il coordinato del gruppo e di Gisante. Eh e credo che anche i prossimi cinque anni non saranno tanto adesso, saranno ancora un work in progress. Scusate se ho parlato troppo. Maurizio? Io credo che l'unica cosa, perché sono assolutamente d'accordo con tutti gli amici, quanto è stato detto. Abbiamo avuto in questi cinque anni. Avvicinati. Cioè in questi cinque anni abbiamo cercato di convincere che era possibile fare una cosa del genere. Eh prima di tutto perché ovviamente essendo dei dei network eh molto corposi, cioè il mio network ha cento e tre ospedali. Eh la maggior parte di noi non si non ci si conosceva. Anche perché malattie rare sono tante e se uno lavora in malattie rare non può essere un tuttologo e quindi lavora nel proprio campo. Però si è trovato a dover organizzare dei network non per un gruppo di malattie ma per un settore di malattie metaboliche del polmone, del cuore, eccetera. Quindi nessuno doveva essere escluso. E questa è stata una grande novità perché generalmente un network veniva fatto su un gruppetto omogeneo di malattie o addirittura su una malattia. Tutti venevamo da questa da questa esperienza. Abbiamo anche lavorato molto per insegnare ed imparare ma insegnare ai pazienti come lavorare tra di loro. Nel senso che le associazioni sono molto focalizzate sulla loro malattia, vedono i loro bisogni e raramente parlano con altre associazioni, pur all'interno del stesso gruppo di malattie. Qui invece bisognava disteglare una serie di bisogni comuni da poter soddisfare con delle operazioni trasversali. Abbiamo anche dovuto convincere le società scientifiche che non eravamo dei competitor. Questo forse non è stato per tutte le società scientifiche perché la metabolica è stata e non è ancora diciamo una situazione facile ma per la società metabolica internazionale noi siamo un competitor. Quindi non abbiamo avuto tempo facile con alcune associazioni, anzi hanno cominciato a lavorare sui registri, hanno dato anche finanziamenti. Altre come la nostra invece ci ha tenuto a distanza nonostante abbiamo tentato di diciamo contatti di tutti i tipi e nonostante noi tutti si sia associati a questa società. Anche questo se posso diciamo permettermi da coordinatore regionale lo abbiamo dovuto fare anche con gli stati membri perché gli stati membri non diciamo al momento non credevano effettivamente che noi saremmo stati in grado a sostenere per un periodo così lungo dei network così diversi ma che poi alla fine sono diretti da 24 persone che sembrano 24 cloni perché stranamente ci siamo trovati a fare con le stessa visione più o meno le stesse cose. Io mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Luca nel gennaio 2016 prima ancora che venisse fuori la call, ci siamo trovati per caso, stavamo parlando e abbiamo detto ma perché a questo punto non andiamo in cerca di chi sta mettendo insieme gli altri network per creare il primo gruppo di diciamo coordinatori in pectore e quella è stata la nostra fortuna perché abbiamo trovato la maniera di non creare 24 network di formi ma più o meno tutti quanti con la stessa idea e il fatto che noi siamo 24 ha superato le aspettative della Commissione Europea che aveva anche finanziato questo programma con dei soldi che erano diciamo sufficienti per un 7-8 earn e ce ne sono trovati 24 quindi abbiamo avuto uno start up veramente infimo rispetto alla cosa necessaria. Quindi secondo me è stata un'operazione di grande sforzo perché nessuno di noi ha preso un euro su questo stiamo tutti lavorando il doppio perché abbiamo oltre alla clinica anche questo tipo di attività ma secondo me abbiamo messo delle basi per cambiare il sistema sanitario almeno nelle malattie rare e quindi applicare le leggi che in Italia si stanno facendo le implementazioni eccetera. Adesso c'è bisogno di entrare nella fase operativa. grazie a tutti voi per queste risposte. Allora entriamo nel legame tra il sistema sanitario e le earn. Che tipo di supporto ha ciascuno di voi chiesto al proprio istituto per fare questo? Ne ha ricevuto uno e che tipo di supporto sarebbe necessario per fare tutte queste cose? Ricomincio da Marta. Poi se volete cambiare l'ordine è perfetto eh. Comunque direi che dunque da un punto di vista di supporto del nostro ospedale il nostro ospedale ci ha messo a disposizione la parte amministrativa. Infatti tutto quello che è stata la gestione del grant, la struttura che serve per eh spendere i soldi che sono arrivati con minimo grant in effetti che è arrivata dalla commissione. Tutta quella parte lì eh ci ha supportato l'azienda ospedaliera universitaria pisana che in questo caso ha supportato ricorda eh nel fare che cosa? Essenzialmente con i soldi che sono arrivati in questi primi cinque anni pagare delle persone, dei project manager che portassero avanti. Ci tengo a sottolineare che è un lavoro enorme quello che la commissione richiede nella gestione delle reti da un punto di vista burocratico anche quindi tutto quello che è la l'avete sentito no? Tutte le attività, il monitoraggio, il lavoro con i centri quindi è una cosa che noi non avremmo mai potuto fare soli eh è stato necessario e questa è stata l'altra priorità se devo dire creare un l'infrastruttura, le persone che portassero avanti cose perché io come clinico da sola non lo avrei mai potuto fare. Diciamo che volendo cominciare a parlare di integrazione questo è il clou eh e che è un pochino quello che ha detto Maurizio eh diciamo che per ora la nostra attività è stata un'attività in aggiunta a ciò che noi facevamo d'abitudine noi tre siamo tre medici e e quindi abbiamo fatto i dottori abbiamo fatto se le nostre attività di responsabilità gestionale in ospedale i professori universitari e i coordinatori ERNA quindi probabilmente questo va un po' rivisto nei prossimi cinque anni quella che è perché anche voglio dire l'integrazione dell'attività dell'ERNA nasce anche da un'azione della struttura quindi cosa vuol dire per un ospedale avere dei centri ERNA e non parlo solo di coordinamenti attenzione ancora di più parlo di il coordinamento e comunque svolge delle attività ora ricordiamo no voi siamo siamo tutti in un ERNA eh come membri HCP o altro parte lo mettiamo al nostro lavoro istituzionale che è quello di fare ricerca di fare educazione ma questo è molto di più quindi è un'opportunità è un onere ed è un onore quindi eh la mia istituzione ci ha aiutato e supportato da un punto di vista amministrativo non da un punto di vista diciamo di eh di lavoro diretto però devo dire che le persone che in amministrazione ci hanno supportato in qualche modo erano in più quindi di questo ringrazio l'azienda ospedaliera universitaria a nome di Reconnet devo dire pronto? ecco ti eh ok ehm il corso è anche questo un work in progress se mi posso permettere cioè nel senso che stiamo costruendo ci stiamo lavorando devo dire la verità eh le risposte che stiamo ottenendo sono molto interessanti cito solo per quel che ricorda allora condivido quello che ha appena detto Marta anche per la no anche per la nostra amministrazione è stata abbastanza una situazione cioè doversi trovare a gestire questa enorme quantità di richieste che ci arrivano eh non è stata una passeggiata di salute ma questo credo che sia abbastanza normale eh la cosa che invece è sembrata molto interessante a me è stata un'esperienza che noi abbiamo fatto come con il nostro N durante il periodo eh covid nel senso che c'è stata la necessità di attivare una specie di help line che ha avuto devo dire la verità un discreto successo come numero di chiamate ehm per tutti i nostri pazienti affetti da malattie rare soprattutto nella prima e nella seconda ondata che erano piuttosto disorientati e in questo abbiamo coinvolto i sette centri italiani che erano già parte del nostro ERN e anche quelli che come ha spiegato José Valverde prima avevano già fatto domande nel 19 e che erano un po' in stand by ehm abbiamo creato questa rete e questa rete è stata in grado con diverse specialità, specialità, capacità eh a seconda delle domande che venivano di gestire un migliaio di richieste eh che provenivano da tutti. Eh molto semplice e molto banale da un certo punto di vista ma devo dire la verità anche molto apprezzata da tante vere e a seguito di questo sono nati dei webinar sempre a livello nazionale ehm organizzati assieme alle associazioni dei pazienti che ne abbiamo fatti proprio per affrontare tutti quanti i diversi problemi legati alle problematiche della pandemia. Eh quindi quello che stiamo e tutto questo mutuato dall'esperienza di fare rete che eh avete sentito e che stiamo descrivendo che abbiamo che avevamo sperimentato a livello europeo. Quindi credo che eh da questo punto di vista ci sia una grande voglia, una grande volontà da parte di tutti i centri a a fare questo tipo di attività. Devo dire la verità è stato molto bello anche vedere che i centri che non erano già del nostro ERNA e che non ne erano neanche fra virgolette in lista di attesa chiamiamole così eh hanno voluto partecipare e hanno dato la loro disponibilità e hanno fornito le loro expertise. Quindi credo che su alcuni aspetti pratici e su alcuni aspetti eh così legati molto all'assistenza dei pazienti e alla collaborazione con le associazioni dei pazienti eh ci sia ampio spazio a margine e ampia volontà di iniziare a lavorare insieme. Eh si inizierà poi a lavorare anche a livello interistituzionale ma spero che nel nuovo piano nazionale tirare questo tipo di collaborazione troverà anche una sua formalizzazione in una maniera più chiara e precisa o perlomeno ci stiamo provando. Maurizio? Sì io eh mi soffermerò perché è già stato detto tutto già da Luca e da Marta sul tentativo di integrazione perché ho una fortuna che è unica tra i coordinatori il fatto di essere coordinatore ERN e coordinatore di una regione e quindi eh cercare di fare un esperimento pilota integrando la rete regionale che abbiamo formato con i centri ERN che sono già parte della rete regionale ma per i quali verrà riservata una attività ulteriore. E il ventiquattro marzo abbiamo la prima riunione regionale dei centri ERN in regione per creare un nocciolo di discussione per la rete regionale. Quindi eh questo è secondo me in attesa di quello che sarà il piano nazionale malattierare e in attesa anche diciamo del riconoscimento da parte del testo unico che è stato pubblicato a novembre di integrazione della 279 del 2001 che eh presuppone nell'articolo 4 la presenza proprio degli ERN come ambito sanitario eh nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se sei un centro ERN o comunque un membro ERN devi spenderti di più e devi portare in Italia quello che l'Europa indica. Allora quali sono le attività che noi eh diciamo eh facciamo negli ERN? Ha già detto cos'è? Linee guida, ricerca, interazione con i pazienti. Eh Marta ha ha un programma importantissimo di clinical pathway. Noi abbiamo un programma eh molto importante di education e lo stiamo facendo nell'ERN Academy gestito proprio da noi. Eh Luca è all'interno del programma ricerca. Quindi il fatto di avere la fortuna di conoscere il proprio Stato e di essere a contatto con l'Europa. Quindi noi dovremmo essere il ponte di allineamento dell'Italia all'Europa, il mantenimento dell'Italia nella nella eh diciamo priorità che ha e anche è stato un paese diciamo pioniere per quello che riguarda leggi o anche lo screening eh diciamo neonatale e quindi è un'opportunità importantissima. Anche perché si parla di integrazione nel sistema sanitario nazionale ma noi siamo integrazione, siamo noi il sistema sanitario nazionale. Io sono un operatore di sistema sanitario, non sono una company. Quindi è un po' una tautologia. Comunque quello che è importante è eh a questo punto fare cioè sfruttare questo questo canale privilegiato che abbiamo per beneficiare dell'Europa in maniera diretta e non attraverso altri. E credo che questo sia eh diciamo il piano che noi dovremmo sviluppare e che lo Stato dovrà diciamo sviluppare perché in Italia ci sono qualcosa come circa quattrocento membri ERN. È un numero enorme cioè l'Italia è il paese più rappresentato dei 27 Stati membri all'interno delle reti ERN. Non abbiamo avuto un soldo finora dall'Italia, credo che neanche mai lo avremmo. Però se appunto eh si cominciasse a studiare una nuova forma di interazione con i pazienti, una nuova forma di interazione con gli ospedali e una nuova forma di collaborazione tra ospedali all'interno dello stesso Stato qui parlo dell'Italia ecco avremmo già secondo me fatto molto di quello che manca perché adesso ognuno lavora in un piccolo giardino. No? Io adesso in regione Florianenza Giulia quello che sto cercando di fare è fare l'ospedale di territorio allargato. Cioè il burlo non può lavorare soltanto col burlo, deve lavorare con Udine, deve lavorare col Pordenone, deve lavorare contro il mezzo, deve lavorare con tutti. Quindi il fatto di dire ognuno all'interno di una regione è parte di un grande dipartimento che è il dipartimento regionale. Anche questa è una forma di integrazione che ci viene da bene. Ora è più facile farla in regioni puntiformi come la regione dove sono io adesso, più difficile in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna o in Toscana. Eh però è un piccolo diciamo inizio di collaborazione che secondo me è più facilitato proprio dai 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 membri di gruppi. Eh se permettete scusate ma è vero che non non ho questo tipo né di competenza né di ruolo però credo che anche proprio per noi persone che ehm che viviamo con una malattia rara sia estremamente chiaro come passate un gergo calcistico la palla adesso dall'Europa è passata a livello nazionale. Quindi era ci sono state date eh la possibilità un'opportunità e Maurizio, Luca e Marta l'hanno espresso benissimo con differenze a seconda di quelle che erano le preesistenti collaborazioni che ogni che ogni rete aveva avuto ma credo che quello che emerga chiaramente che è l'opportunità di creare dei modelli organizzativi che per rispondere a quelle che che era l'obiettivo iniziale che ho menzionato è quello di far arrivare la competenza l'assistenza alla persona senza far muovere la persona ora è chiaro poi ci sono tutti il distinguo ma questo è il una un'assistenza di qualità che porta ovviamente eh questi signori a e le reti e le unità operative avere questi centri avere anche un ruolo di formazione di collegamento grazie anche alle infrastrutture che adesso eh ci sono e che il covid che il covid ha messo in evidenza il loro valore e come si possono utilizzare al meglio e tutto questo secondo me dovrebbe proprio a un dirigente ospedaliero dovrebbe fare proprio la domanda che si dovrebbe porre è il beneficio che ne trae il mio ospedale ad essere un health care provider e quali sono i benefici che ne hanno le persone che afferiscono al mio ospedale e la cittadinanza come posso migliorare quale tipo di modello organizzativo come posso supportare questi clinici quali infrastrutture di quali infrastrutture posso dotarli ma come abbiamo sentito e noi e lo dico sempre lasciatecelo dire perché in teoria sono delle cose bellissime e e stiamo migliorando tanto ma se queste strutture non investono in risorse umane se questi centri invece di essere dei centri sono delle persone sono delle persone che a cui auguriamo lunghissima vita lunghissima vita ma che non riescono perché non non ci sono questi tipi di investimenti ad avere uno staff strutturato che possa continuare e ovviamente al momento anche attuare questa questo approccio multidisciplinare che è richiesto quindi sono è un lavoro molto lungo che anche quello richiede un modello organizzativo non è facile potrei menzionare la transitional care che è uno dei punti che ancora rimane assolutamente insoluti perché richiede tempo spazio e tanto lavoro quindi voglio dire i manager ospedaliari si devono fare queste domande e devono hanno il dovere perché non possiamo fallire quindi nell'integrazione a livello nazionale effettivamente le risorse ci sono devono essere ottimizzate per poter dare queste risposte a chi afferisce negli ospedali e supportare i clinici migliorando l'efficienza del servizio riducendo anche gli sprechi di poter me se posso intervenire su questo commento giusto giusto tanto possiamo magari anche non lo so però credo che simone abbia una cosa importante per i prossimi cinque anni cioè dire molta dell'attività svolta da noi non nelle erne come medici per le malattie rare è fatta iso risorse cioè noi facciamo tante cose anche le malattie rare le erne aumentano le possibilità e aumentano i potenziali di ciò che noi stiamo facendo però se veramente li vogliamo integrare dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alle iso risorse cioè secondo me gli erne sono anche un'opportunità per ripensare a quanti magari centri di riferimento investono in termini umani di persone coinvolte nella cura del malato raro nel supporto di una rete non è che si può pensare che ora ci sono anche le erne perché se no ognuno di noi si richiude nel suo bozzolino ma porta avanti quello che ha fatto secondo me egregiamente finora ma non si integrerà il sistema quindi forse questo ci porta alle domande successive o alla discussione successiva cioè come andare avanti in ora abbiamo avuto tanto ma ci vuole un po un cambiamento di atteggiamento e di spin e divisione cioè la risorsa e questo se in realtà nelle reti nelle reti regionale nel sistema nazionale speriamo nelle nuove risorse che arriveranno con tutto quello che diciamo di non so se si può dire di buono il covid ha portato di cambiamento che il covid ha indotto ecco è un'espressione più forse corretta di opportunità che ora abbiamo ecco che magari ci sia che le erne sono uno stimolo a vedere quella nicchietta delle rare come un mondo in cui le risorse per fare il salto di qualità e per integrare le erne devono essere aumentate scusate se mi sono permessa ma perché credo che insomma ho visto che c'è tanta gente che c'è uno magari questo insomma lo questa richiesta di aiuto la coglie bene allora grazie facciamo un altro giro di domande perché dovremmo lasciare anche un po di spazio possibilmente qualche domanda in aula o da remoto allora abbiamo visto un resoconto dei primi cinque anni del mandato delle eh dell'European Commission appunto per l'Erne la domanda seca è questo mandato originario è stato adempiuto e ne hanno beneficiato le nazioni europee se torniamo a livello europeo del lancio dell'Erne perché l'impressione che perlomeno alcuni pensano che queste erne siano soltanto delle sovrastrutture che non solo hanno un beneficio molto limitato per la pratica clinica quotidiana ma possono anche aggravare come dicevamo prima il dovere quotidiano dei medici che hanno già un lavoro quindi questa è la domanda il mandato originario è stato adempiuto e qual è stato il beneficio per l'Erne a questo punto cambio l'ordine perché mi è stato prima sollecitato e cominciamo da Maurizio Scarpa va bene visto che appena intervenuta ma fa da remoto allora la risposta che io vorrei dare è sì mi sentite adesso perché sto praticamente mangiando il microfono allora il la risposta che volevo dare era sì ma non posso dire sì completamente perché ovviamente dopo cinque anni soltanto dopo tutti i problemi che abbiamo detto eh finora non è possibile essere un sì completo eh però c'è un indicatore molto importante eh di successo che è stata la seconda chiamata nel senso che eh anche José ha detto che durante dopo due anni diciamo dall'inizio degli erne c'è stata una seconda possibilità di far parte degli erne e praticamente con questa seconda tornata tra affiliati e nuova e nuova tornata abbiamo raddoppiato il corpo degli erne cosa vuol dire vuol dire che soltanto nei primi due anni due anni ci si era resi conto che far parte degli erne è il futuro quindi secondo me questa è stata una eh un grande successo perché siamo riusciti diciamo lavorando e facendo vedere tutte le difficoltà ma cercando di superare queste difficoltà che il far parte di un erne vuol dire essere facilitato ad esempio a trovarsi incordate qualificate per accedere a finanziamenti europei ad avere nuovi contatti per sviluppare diciamo i propri progetti ad avere possibilità tramite la CPMS tanto vituperata piattaforma ma comunque la unica piattaforma a livello mondiale dove noi possiamo condividere qualsiasi dato sensibile in forma protetta e compriante con la GDPR per poter avere diciamo una un parere da esperti e facendo dei referti che possono essere allegati alle cartelle cliniche è stato un successo perché siamo sopravvissuti a questo a questo lavoro nel senso che abbiamo imparato noi stessi a lavorare con ventisette paesi compreso Malta Lussemburgo eccetera abbiamo anche imparato a lavorare con i politici e a parlare per farci ascoltare perché con il gruppo di coordinatori siamo addirittura andati in sciopero nel senso che abbiamo avuto dei momenti nei quali eravamo completamente di parere opposto e ci siamo esposti e abbiamo eh discusso e a questo punto abbiamo trovato una maniera di continuazione di lavorare quindi secondo me è stato un successo è ovvio che tutto quello che uno vorrebbe fare adesso deve essere fatto nei successivi cinque anni il vantaggio è che abbiamo una struttura abbiamo un'idea e una coscienza di noi stessi abbiamo un gruppo di lavoro coordinato e abbiamo le idee che ci sono state suggerite dai pazienti come ad esempio le transizioni sulla quale diciamo tutti gli ERN stanno lavorando perché abbiamo pubblicato un lavoro proprio di ERN e dove abbiamo visto che soltanto l'undici per cento dei centri metabolici hanno in carico pazienti adulti al cento per cento tutti gli altri sono misti pediatrici e molti pediatri hanno quindi anche questo sugli altri quindi secondo me è stato un successo e anche qui Luca diceva work in progress è in progress però la parola fallimento non è nel nostro diciamo la domanda secca è il mandato per i prossimi cinque anni che è una continuazione della precedente quindi è il mandato è attivare e praticamente fare in maniera che l'ERN diventi un punto di perfezionamento della politica sanitaria dal punto di vista di ricerca di educazione anche un mandato importante è creare una nuova diciamo professione di medico e quindi dare continuità e sviluppo a quello che abbiamo abbiamo iniziato adesso e a trecentosessanta gradi perché gli ERN non hanno diciamo campi nei quali non si devono occupare mettiamolo il punto di vista di Luca San Giorgio sullo stesso argomento no io tanto Maurizio ha già fatto una lista delle cose su per il nostro nuovo mandato elemento di successo per il nuovo mandato di ERN diventano un punto di riferimento anche per la ricerca nel mondo delle malattie rare Maurizio ha già citato il fatto di che fare parte di un ERN è un plus per entrare nelle quadate in realtà gli ERN sono stati chiamati ai tavoli che stanno scrivendo ad esempio la continuazione del degli european jane progettori questo clinical trial network europeo che partirà dal 2024 gli ERN erano fra gli scrittori di questa parte qui e se mi posso permettere un giudizio e spero di non offendere nessuno si è visto che altre infrastrutture europee spalo con cognizione visto che ci sono stato dentro hanno dimostrato di essere meno di successo degli ERN infrastrutture di supporto alla ricerca intendo di essere meno di successo degli ERN perché pur essendo attive da molti più anni sono in grado di raccontare meno adesioni meno persone che hanno voglia di partecipare e di entrare nelle attività non dico che non sono stati però gli ERN hanno avuto un'attrattività maggiore in cinque anni pur essendo partiti da zero pur essendo come ha sottolineato giustamente simone ha ripreso molto efficacemente mark da iso risorse per cui come dire qualcosina di interessante nei ERN evidentemente c'è e evidentemente sta iniziando a interessare anche eh i policy manager a livello europeo speriamo anche quelli italiani sempre bene bene senti? si no non vi sento voi mi sentite sì? si si eh poco da aggiungere vorrei puntualizzare come dire aggiungere una cosa quanto ha detto maurizio sul fatto che il successo degli ERN sia anche misurato desiderio di entrare in una ERN per cui molti centri anche italiani hanno fatto la hanno partecipato alla seconda call ma entrare in un ERN non è semplicemente dire eccomi vuol dire sottoporsi a una valutazione quindi cosa credo che abbiano portato e che sia un altro elemento di successo delle hanno fatto sì che dei centri che ambivano a entrare nella ERN cercassero di migliorare ciò che offrivano perché la tua attività assistente la tua organizzazione vengono tutte valutate nel processo di ingresso quindi anche solo se vogliamo vedere la la conseguenza di miglioramento della cura nel centro che vuole entrare nella ERN già solo questo sarebbe una ricaduta enorme perché ci siamo messi nella condizione di essere dei migliori centri di cura per le malattie rare poi tutto il resto è già stato detto e quindi appunto mi taccio aggiungo proprio a che osa anch'io ripeto ricordatevi sempre chi sono nel senso rappresentante paziente quindi diciamo sul territorio ascoltando anche gli altri è vero ripeto le ERN sono il nostro obiettivo il nostro successo più grande siamo tutti consapevoli che si i risultati non potevano essere raggiunti prima dei dieci anni era veramente fuori da ogni possibile realistica aspettativa con le diversità è vero che avere è un qualcosa che va a migliorare quindi avere così tanti centri in Italia devo dire a volte solleva delle perplessità e delle dei sopracciglia a livello europeo noi giustamente ma così dovrebbe dovrebbe essere insomma lo vediamo come diceva Marta il modo è estremamente positivo perché si va a migliorare noi come pazienti diciamo che l'essere maggiormente coinvolti anche e faccio un passo indietro nell'identificazione di questi centri in un processo che deve essere che risponda effettivamente a quelle che sono diciamo le esigenze le conoscenze le collaborazioni già in essere delle persone che appunto con malattia rara che afferiscono ai centri aiuterebbe a diciamo a concretizzare ma anche poi a migliorare la presenza di centri che rispondano effettivamente non soltanto a delle dinamiche non so che termine usare e non voglio voglio essere assolutamente positiva quindi delle dinamiche amministrative burocratiche ma che rispondano alla realtà della soddisfazione delle esigenze dei pazienti quindi noi abbiamo sia a livello dei reti i rappresentanti IPEX ma a livello territoriale ci sono le associazioni e io chiedo che vengano sempre di più coinvolte anche nell'identificazione di questi centri prego bene allora intanto ringraziamo tutti gli speaker non so se ci sono delle domande in sala buongiorno a tutti buongiorno grazie Cristina Bolzonella P63 sindrome C allora trovo estremamente interessante e grazie anche il fatto che sia stato confermato un direttivo per i prossimi cinque anni perché ovviamente un secondo mandato potrà permettere di sviluppare tutto ciò che con tanta fatica avete ottimizzato e quindi con l'obiettivo è proprio questo che volevo puntualizzare obiettivo inclusione collaborazione ma soprattutto permetterà di capire che le cose stanno cambiando siamo in piena trasformazione culturale digitale e gli obiettivi sono veramente chiamiamolo PNRR, chiamiamolo Europa, chiamiamolo situazione globale c'è un linguaggio che cambia, c'è un impatto che cambia nella comunicazione con il paziente quindi se da una parte tutto il contesto della stanza dei bottoni come giustamente i nostri relatori hanno ben presentato e mi trovo perfettamente coerente con sottolineo l'esattezza con la quale hanno anche esposto sia nella bontà che nella città delle azioni adesso bisogna che teniate in considerazione anche il fatto che c'è bisogno di un linguaggio diverso perché i vostri utenti finali, il vostro target group è completamente cambiato il fatto di avere all'interno degli ERN comunque delle associazioni che sino a poco tempo fanno rappresentanti soprattutto da persone con una certa età sta cambiando nel senso che proprio la digitalizzazione porterà i giovani quindi gli ammalati rari, quindi le persone che prima erano più indisparse saranno in grado di aggregarsi a questi gruppi e di capire che cosa è un ERN di capire quale sarà l'obiettivo ed è importante il linguaggio il linguaggio che in questo senso dovrà essere anche il modo di accesso alla collaborazione e qui sollevo invece, se questa era un'osservazione che mi sono permesso un consiglio sollevo l'osservazione, noi ERN, il nostro ERN è un ERN francese per l'ISI syndrome, l'ERN skin e il fatto molto particolare è la mancanza di comunicazione in quanto l'ISI syndrome è Padova, è stata costruita da me dove tutto l'insieme poi della medici ed expertise si è maturata e sollevata qui quindi nel tavolo di discussione degli ERN che hanno delle sedi europee ben venga la rete, noi siamo soggetti di rete ma è importantissimo che venga identificato il soggetto referente del territorio che ha l'expertise e che riesce quindi a dare il vero messaggio che l'associazione di pazienti esprime altrimenti i pazienti se ne vanno, i pazienti fanno confusione ecco questa è una cosa che veramente vi prego di tenere in considerazione perché è molto molto importante, grazie grazie, se non ci sono altre domande io ringrazio tutti i relatori della sessione di oggi è stata veramente interessante e ricca di prospettive per il futuro alcuni annunci tecnici questione domestica, adesso ci sono 15 minuti di pausa perché ovviamente dall'attenzione ciao Marta l'attenzione comunque in aula ma specie da video si diventa difficile qualora si protraga quindi saluti tanti i relatori e poi un'altra due notizie domestiche così detto per la legge covid non c'è permesso non è permesso a nessuno organizzare coffee break o altre cose perché creerebbero aggregazione per cui per legge non abbiamo potuto offrire un coffee break come usualmente forse siamo abituati ricordo invece che per il pranzo a cui si applica peraltro la stessa regola uscendo per l'uscita posteriore invece andremo al ristorante Zairo che è proprio 50 metri qui in Prato della Valle ed è l'unico modo con cui abbiamo potuto offrire una colazione di lavoro a coloro che sono presenti per cui allora 15 minuti lo dico anche a coloro che da remoto ci ascoltano però con una raccomandazione di essere puntuali perché proprio per mantenere i collegamenti dobbiamo mantenere i tempi per cui 15 minuti di riposo e poi alle tre quarti come da programma partiamo grazie ancora Marta grazie a voi grazie a voi grazie ciao quindi chiedo alla professoressa Basso e Colombatti proprio di essere vigiliatrici dei tempi saremo qui vi aspettiamo ricordo che poco fa erano 100 in zoom e 476 via facebook quindi siamo contenti di questo allora I'm switching to English because we have English speakers connected via web for this second part of the conference that is evaluation of the ERNs and perspective for the next five years and the embedding of the ERNs in the national health system as discussants we have Francesco Bonella who is here on my right hand side he is the representative of ERN Lange from Germany we then have Dolphus Helene who is the coordinator of the ERN-I ERN-I we then have Professor Beatrice Gulpis co-coordinator of the ERN EuroBloodNet and Paloma Yara I hope I got the pronunciation right that she is a coordinator of the ERN transplant child so welcome to all of you and we are eager to get started with the discussion Cristina the floor is yours so again welcome it's a pleasure to have you with us although most of you virtually so I start with the first question which is for everybody so we're going to start and the first question is which was the mission that the European Commission gave to the coordinator of the ERN which was the ultimate mandate it was just a mostly philanthropic mandate who were considered the first beneficiaries the patients, the doctors, the institution the various national system health system so for whom they were primarily told so this is the question for you so we can start for first in alphabetical order okay with our colleague here in Padua Francesco Bonello yes in Essen in Germany so yes the first mission of the ERN so I was one of the first phases in the group in 2016 for the foundation of the ERN we participated in Bruxelles in several meetings also with the commission and I clearly remember that the primary aim of this network is patients care cross-border care and I think the infrastructure has been achieved in the first five years there is no doubt we have of course to work in the next future to concretize even more this cross-border care of patients and also recognizing the huge work done by each single healthcare provider in terms of personal resources and of course also in terms of research coordination because if you put data into registries and biobanks this is automatically data mining for research so I think the first aim has been reached the second aim of coordinating expertise in Europe has been reached and then the third aim of concretizing should be achieved in the next five years I think with a very close deadline so Professor Dolphus-Hélène yes well thank you very much for having the opportunity to be here so yeah maybe we should put into perspective the timeline of the ERN because just to remind you that it was really an initiative very much at the beginning 2004 with the first rare disease task force that was really pushed by the patients patient groups especially and then this was followed by the 2011 cross-border directive which is really the founding stone of the ERN program so if we have to look at all this in the perspective of years and the time frame and finally the ERNs were created in 2017 you know 24 ERNs initially there were 900 healthcare providers now there are 1,600 healthcare providers involved and really the first five years were really five years to try and 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 indeed put in place a sort of infrastructure for involving and improving care for patients all in Europe and taking into account the cross-border directive in particular with the with the case patient management system the registries etc so I think what we have to to look at is the perspective of this first five years that were really five years to to get it started and now we are entering a maturation phase so I'm speaking a little bit on behalf of all the coordinators here because as you know a coordinator coordinators group so so there there is still a lot to do but a lot has been or hitting stones have been already achieved in many many access that we are supposed to 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 drive as I mean case patient management system but also guidelines registries etc I'm sure we're going to speak about that later on so anyway on my on my personal ERN which is ERNI we it's the hospital of Strasbourg that is the HCP is coordinating we were very much supported by our hospital to and I remind you there was the co-funding so they also supported financially the the birth I would say of the of the of the ERN because it's a structure that is still growing and has to to thanks I don't know if you want me to add anything here or for the next problem thank you very much for now so we can move on with Beatrice a little bit yeah yes I'm Beatrice yes but I don't speak Italian okay so just to support the 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 talk by Ellen Dolphius of course it's a it's a long way and we had we had really the opportunity to be a pilot through our non-malignant network which was called Enerca so we went on non-malignant hematological disorders and and we began in 2002 so it's a long time ago and of course to that we understand well I think all the administrative part and it's probably easier but of course we we worked that we had to be a network the the number of networks were limited and we had to be a network with malignant malignant disorders so we had to learn each other and to collaborate and to to really try to make easier the way for all those new collaborators and to us it was really we had an internal talk I speak under the name of all my team our team and we we really understood in the beginning mission given by the European Commission was in different steps first it was a repository of what exists then the second step were to identify the gaps what we had to do this was really the first mission of it and then fit it in so we are very happy to and I will show you it later with the further questions that we were happy to have really concrete action that have been done and not only the administrative workloads and of course you can say that the ultimate mandate by the European Commission are indicators but that's a funny way to look at it I think that the ultimate mandate is really and I was really impressed by that and I think all the team also that it is patient centered it's the first time that I saw that the patient are really involved in all the action and again I will try to show you the concrete action that have been done another thing is that in our year there are 66 members from 15 member states so it's heavy I can say and the communication has really probably to improve between all the collaborators and this is something that is a mission also I think given by the European Commission is the communication but I will go back to that also thank you perspective from Yara Paloma good morning and thank you very much for inviting me to participate in this meeting which is very interesting I share the ideas that the speakers have said but somehow when we received the mission to take part on this and we looked at the questions and the challenges we had to face and assess logically there are two parts of it all since the networks were launched in 2017 what has happened what have we done and then what is our vision towards the coming five years initially the hospital I am the coordinator of the hospital of the network but I represent a coordinating obviously it's not just one person that does all this coordinating the management of a project and this project is run by people and we could say that I am kind of like this big this spokesperson of that group of people the European networks when we joined was a wonderful idea we took it on with a lot of excitement because it was about sharing knowledge expertise projects amongst highly qualified professionals we were specialized on complex problems like low prevalence diseases and also the complex treatments because our network is a little bit different from the other networks because it focuses on a process like pediatric transplantations so the idea of this network was that it covered all type solid organ transplantations plus hematopoietic stem cells transplantations share a richness of the doses and the treatment of patients because all transplantations share a set of complications that are related to the most serious ones and the most frequent ones and that was important to gather all this knowledge in order to improve the lifestyle of the patient of course the network considered that there were some specificities of each type of transplantation and that was obviously to be respected but this complexity of the network means that it is not focused on specific diseases but it is focused on the therapeutic process that is very complex and it has a lot of things in common but at the same time it has some specificities each transplantation has different specificities at the beginning the network 18 countries 18 centers of 17 countries the European Union took part and their participation throughout this year has been optimal that's been very good we can discuss it a bit later what we have more or less established but I think the challenge here is because these are complex networks or superstructures and therefore they have to be adapted to the functioning of the hospital themselves the way that hospitals function and operate and that is it means it adds some more work and it needs to be adapted the idea was that the networks were important and they were important because we needed to be convinced that we needed to work as a hospital like a single virtual service of course always respecting the specific characteristics of each hospital and another important idea that we had was that we needed to change that regional idea towards medicine in Europe the idea had to be a teamwork really because it's the only way that medicine can make progress if we work as a team also throughout these five years and even though later on we took we look at different aspects we sometimes see the difficulties for example for the implementation of all the activities of the network in the different hospitals and the different services this challenge as I was saying was that well we're used working and operating in a specific way and the hospital is also planned in order to operate in that way but these were complex structures that needed to get integrated into our daily system therefore this is one of the most important things in my opinion the challenges at least that I have faced throughout these five years of course there's been engagement and I thank the hospitals that started the network with us but we don't have to consider the networks as something tangent that is fundamental it's not like we do an essay a clinical trial and we anyway continue with our clinical daily practice or with institutions in other sense no we have to integrate all these into our daily practice in all those instances research education clinic registries etc because that is the only way for the networks to work so we don't really want to take a lot longer because we'll have time throughout this meeting to see that it is important we need to do a self-assessment and throughout that self-assessment of these five years what is it that we have missed thank you what it is that we wanted to perhaps wonder how we do it I don't mean it from a clinical point of view I mean with regards to the institutions because I think it is very important and we have to discuss this that union that we have amongst hospitals in order to develop projects that also has to be defended and it has to be defended in front of the institutions not just in our countries but also at the European level at the local level with the hospital managers etc because that is the only way for the network to be integrated into let's say in a modern way of doing medicine medicine always needs to be avant-garde it needs to add new knowledge in order to avoid the routine of things so thank you Dr. Paloma for this first answer and to all the speakers I can move on to the second round of questions and I think I hope all the speakers from remote can hear so the second question is how have each one of you interpreted the role of coordinator of an ERN and which were the priorities each one of you set for your mandate so I will start again from my right Francisco I'm not the coordinator of the ERN lung so I coordinated for a long time the core network in interstitial lung disease inside the red lung but anyway it was also a coordinating role and I have to say of course the first five years were difficult because you had to deal with a totally new situation and also the first phase of two and three years was to know each other and how to deal of course with an infrastructure which was new and at the beginning we didn't have any platform for example to do meetings or to exchange information about patients and do counseling activities so it was a totally new world and but I guess in terms of infrastructure this was the first aim of the coordinators and it was achieved and now of course a better dialogue and a better coordination with each health center providers is of course essential in the future to assure the services for the patients and also you know to win big grants for research now which occurs on regular basis yeah thank you very much and Helen yes thank you for this question because it's true that it's a bit crazy to become a coordinator of an ERN because it takes a lot of your time and but at the same time I think it's really worth it so just to remind you also all the ERN have very different histories some ERN were based on previous networks or were based on work that has already been performed for instance in learned societies for instance my ERN ERNI we had nothing we really started from scratch with the birth of the ERN in 2017 and we wanted to reply to the question you know not one single country or one single center can cover rare diseases of one field so the first thing I was really to team up and I agree with the speaker just before it was extremely important that people know who is who and how to work together so of course we were already some experts who were in international societies etc we really reached out to colleagues in other countries we didn't know and we were we were able to perform a number of meetings either of general organization or scientific workshops where really people came so that was before COVID and it was really extremely positive that the experts started to know each other the same for the patient groups they are very present in all ERNs the E-PAC patients we really also have learned to work with them so during the five years of course the challenge was to as it was said just before by Beatrice to have a survey what is going on who is doing what how can we address the different gaps and how can we dispatch the work there can a bit the difficulty is of course all the colleagues are extremely busy and you know taking time to lead again or taking time to upload cases on the CPMS or building up a registry this can be because a lot of colleagues are very busy and they may ask what is the added value if they do not receive money and I suppose this is something will come on on the next question about how do we see the future and how can we help the different centers so overall if you ask about the role of the coordinator it is I think a big responsibility doing this on top of our usual job so this is also something that has to be taken into account by the commission we are the 24 coordinators I think are very devoted to the cost but they do that in addition to the other tasks and we really need to have a very structured and reinforced for the future five years management team this is very important the coordinator has to be helped by a very essential and complete management team then yeah I will stop here because there would be a lot to say more but I'm sure the others have other comments to add thank you very much for your input and Beatrice we can't hear you you're muted yeah again I will support all speech from from Ellen so again as I told you before we had some knowledge of a network and it was really useful so we had already a management team and so it helps it helps a lot but what we know is that the management at the network level has to be more top down and bottom up within the ERN than within the European Commission as I can say because it's very very important and we had to organize our management team with all the skills needed but and then we apply for different budget of course and of course we also rise for funding it was very very important and we could talk about it after that and we wanted really to help the clinicians to be sure that we can help them at each step for example clinical patient management system we had an outline and we really try to help them of course it's like I will told it many times but for any administrative things or any new tools it's like a recipe when you do it for the first time it takes a lot of time and you have many but then it would be easier simpler and you have maybe only one pen and it's the same for the network and I think that during this five year we are going well or more easier and that's that's very concrete that's all thing I want to say thank you Beatrice and Yara can you hear us yes I do agree with what you have said and I like to say that the coordination is complex it means work and of course it is also we in the hospitals that initially took part of the network and now with the new ones we had some meetings with the hospitals we also visited the hospitals we saw how they operated and it was a fluid relationship what I want to highlight and I want to take the chance to I have been very lucky but the thing is that the management at the hospital level our hospital the secretariat of the university hospital La Paz has been a perfect management really efficient it has been absolutely fundamental also because it was the standard we created this kind of network a European reference network and as you all know there are a lot of aspects that are very complex and that has worked very well and that has been a secretariat that has meant that myself and the hospital our lives has been a lot easier the coordination has been a lot easier thank you thank you all for explaining these differences in your hands now let's go a little bit further at the local level which kind of support did you ask to your institution have you received one and which kind of support do you think it would be needed yes I will present a few slides in some minutes about the situation in my center and in Germany in my center I didn't receive a concrete or yes yes let's say concrete financial support from my institution and this was initially a big problem because ERNs are eterogenes so there are some ERNs dealing with ultra rare diseases and some others dealing with rare diseases and if you guarantee to your ERN 500 to 800 patients per year such rare diseases of course it's a huge amount of work if you want to put all these patients or to track all these patients in the ERN so now we are dealing with our institution because we have created like a superstructure where several ERN centers are represented so now we are dealing to receive personal support and financial support in order to guarantee all the services and criteria required to be part of the ERN thank you you showing the slides now or later Helen yes so just to remind you the first years the institution which was managing the ERN it's the institution where the coordinator is located see the grant but there was some co-funding necessary so so I think in the first years that each that has a coordinator has substantially contributed with the co-funding to the birth of the ERN and this co-funding is finished in the renewal of the five years so there was some help of course I would like to outline that in France and I had prepared some slides but I think there will be no time to show that but just to explain that we are for rare diseases very well organized since 2004 and that we have French networks that are already functioning and we have a ministry of health who is very much aware of networking for rare diseases and there are eight coordinators of the ERN that are French and these eight coordinators were very lucky to receive some extra money from the French Ministry of Health so this was really very good for us because it helped a lot for the launch of the ERN now I understand also and that was a point I was just telling just before about is about the fact that it goes to the coordinator it's it's a mono I mean it's only one one HCP that received the money of course the difficulty was how to and the money load was very low because it was only enabling to hire for instance in my ERN a project manager and also perform two meetings annual meetings per year and bits and pieces of other personnel but not full time so we were a bit limited by that and so this money didn't enable us at all to deliver money to other collaborators in the ERN in the five first year so this was one difficulty but I will leave others and I suppose we come back to the future in question thanks thank you very much for the clarity Beatrice we cannot yeah yeah I remember that I was told that the involvement could be several meetings during a trimester but then the workload is really more than that and at least within the ERN we have a weekly meeting and this was really not supported by my institution so this is really a problem so I think that we need a real position as coordinator it's mandatory and only based on volunteering of course I I I got some help from my institution and it related to the hiring of staff it was also related to the visibility of the network and for the application of course because many parts of the application were related to the job of the hospital but then I think it's really not enough it's really not enough that's what can I told you now and just I would like to insist that maybe we have to define the function of coordination and that should be sent to the healthcare provider where the coordinator will stay I think it's very important Thank you and very interesting these new roles coming from the ERNs at the local level Yara Yes I agree with as being said at the end the idea that logically and theoretically the hospitals have support to the network yes but undoubtedly the funding is not enough this means that what she has mentioned that we need to promote meetings that we need to do training courses and a set of activities that are within the goals of the network even the management of the network is quite complicated we also have weekly meetings with the management team and it is obvious that it's logical that the funding is very low it is a challenge that we probably should discuss later on it's definitely not enough okay so I think thank you very much we can move on with the next question so we learned that we had five years before so the question is whether the original mandate of the European Commission has been accomplished did the European nation benefit from the launch of ERN because we discussed also before in the previous roundtable that the impression of many of us is that ERN are just superstructure not many of us probably in the room but outside this room that only are of very limited benefit to the daily clinical practice but also aggravated the daily duty of the doctor so what the original mandate accomplished it will cause the benefit for the European nation we can start again with Francesco yes so I think the answer is all what you said what you mentioned is partially true so of course we don't see any concrete sign of efficacy of the urine in terms of daily practice with our patients but of course we see a movement a call to action for these patients and it's also of course of primary importance for care of these patients I think we have to be in the future more concrete and define for example practical and pragmatical aspects like single entry point in an ERN and then this patch of work so something like that which is which are things which bring all the system forward with the ERN so not just works but really concrete points to guarantee that when the patients reach the ERN he will be really evaluated by the center which has the expertise for these patients and then remain if it's a child for example long life in this ERN and then this will give the possibility also to learn about the transition of the disease which is one of the main aim also of the ERN in general so I think most of the aims for the first five years have been achieved I have already said that a couple of times but for the future we have to put into action with pragmatical aspects to facilitate work of the network and the ethical providers Thank you Francisco Hélène Yes I think one thing we have to keep in mind that we cannot change our systems just like that in a few years it takes time I mean this is the experience I have with the French national that started in 2004 so now it's a number of years and to be really efficient just on a nation scale it takes time now imagine on European scale there is the subsidiarity principle each state has its own health care system so it's very complex to deploy such a system in the whole of Europe that for each patient and each disease the pathway is perfect so if we look back on the past five years there has been a task that has been achieved other tasks for me for instance in my ERN I still think that the work has to be done so this is for sure it's a bit frustrating at the same time as we said the initial budget for ERN was very limited and I think the commission didn't anticipate at the beginning how costly it is to perform such activities this is why the ERN coordinators group has really been in the last months with other stakeholders like the patient groups etc to try and increase the budget for each ERN so we can really try and reach out with our colleagues first to compensate the workload of the colleagues that are working in other HCPs and also to be able to perform better the missions that are growing and also one aspect one have to keep in mind is that we started with a plan in 2016 a sort of wish list to the Christmas wish list of everything we would like to be done in the five years but at the same time the mission have been growing and also the size of the ERN have been growing because each ERN has at least doubled since the 1st of January 2022 so we have to be realistic there is still a lot to be done and I think we will speak of the plans for the next five years so I will stop here thanks yes next question so and Beatrice yes I think that we understand that we had to work on very rare disorders and try to tick on that you know for hematological disorders you have acute leukemia we don't have to work on that of course so we had really to work on those very rare disorders and this is also important because they are very well known and very well organized scientific societies so what we had to do is to work with them and to try to involve them to communicate but on the field that are not only already covered by those scientific societies we don't have to double the work and everyone has to understand that the ERN won't double the work it's not our objective really not so we have been working on that this is one of our message and going there it was easy at least to define on what we wanted to work and then to go to short stays to webinars for health care providers and for patients and all those different aspects but this is really a message to work on very rare disorders to fill the gap for those very rare disorders and to collaborate with the science societies in those fields that are not covered thank you and last comment Yara yes I agree but I wanted to highlight a little bit the transplant child network versus the collaboration of course with the scientific associations is more difficult for example the clinical practice guidelines with the specific diseases with that scientific associations a lot of work very well and they are already very well specified and they have guidelines that are very well defined to be implemented what we do is difficult because a lot of scientific associations are separated because of their type of transplant or the type of organ that is to be transplanted these last five years we have complied with regards to the drafting of clinical practice guidelines and some works the idea was to create a registry that was also more difficult because we wanted to include all the common variables of all types of transplantations but also the specific ones of each type of transplantation and we also needed to integrate patients with regards to questions related to the quality of life that they perceived these patients so in summary I also agree with you that the budget is low it's very low and we should have a higher budget a bigger budget because these are complex nets and as we have all said several times it's that they are not fully integrated into the daily practice of each professional it kind of increases the workload of the professionals thank you okay so hoping that the budget will be there and we discussed the previous five years now which is the mandate for the next five years from now so we start again with I already answered partially this question about the next steps to be more concrete specifying really how this patient's care should be done concretely done and this is of course to be coordinated with the national and the local situation otherwise it's impossible that the European Commission also with incredible budgets covers completely this kind of complex patient care because these patients are complex they require a lot of examinations counselling and then follow up so it's really impossible so the acknowledgement should come from the national single national systems in my opinion to guarantee this service in the future yeah thank you very much Hélène yes so the next five years I mean we are lucky as you know that the budget for the ERNs has been augmented for the next five years and today all the coordinators are working on the 18 months where we have to submit a budget and a project next week actually to the commission on this so yeah there is an increase in the budget that should help us to reach out to our colleagues to help in the missions that are growing and we also have a lot of we haven't been speaking about yet but there is still there is a lot of reporting evaluation of the network that is very tedious I would say and this costs money also at the level of the network because you need to have a person that is dedicated to that and because the needs are growing and doubling this has an extra cost but I believe that in the next five years we really have to match the projects we really have to launch for most of the registries and they are getting ready but this takes this is going to need some stimulation of our colleagues to nourish the registries we have to reinforce the guidelines on a general point of view again how are going to work at the national level you know you have bottom up and top down and this we have to find a way where we will manage to that each patient in the EU can really benefit from the services we provide and in this respect I think the needs of the different member states and the different care pathways are very different so this is something we will have to address in the next five years and there's actually going to be a joint action on this topic and I'm sure all the ERNs are going to participate to this I think we really have to see as we say in French half full a lot has been done but still a lot has to be done and we will see how we will do with this budget if we manage to go further thanks thank you yes so thanks to first five years we think that we have to pursue but to also to build on the foundation that are already there and probably just what been said before is that we have to communicate on the added value to be in ERN for example I had colleagues even in my institution believe it they asked me okay I can add one one disorder but what added value of it so we have to work on that and not just to we are convinced but we have to convince our colleagues for the visibility also the team that can help them it's very important and even if they have already built something if they have a website we can link to their website but we can give a team and all the tools for example the registry if we have built a registry in our field for sickle cell disease or pyruvate kinase it can can be used for porphyria or for any von will disease very rare so they can take benefit of all the work that has been done but we have to transmit it Yara Yes I agree with what has been said and mainly I wanted to highlight that obviously the healthcare systems of each country are different this is a task that we need to assess we need to see how we integrate this into all these reference networks and more over we need to talk about the financing I know the European Union may not be able to take on all the financing of 24 networks where as has been said we have the doubles the incorporation of hospitals to those networks as happened in transplant child but because of that there has to be a more fluid communication from my point of between the European Union the Directorate General of Health of the European Union and the different institutions of each country and it is probably also important to what has been mentioned lately that here we'll have to be together all the networks have together it's all about working but ultimately the idea is to meet the key actions I know there are some for 18 months there is a project focusing on enhancing perhaps those activities that are more important well not more important but within the network yes they are but well if we are practical we have to thank the European Union to be aware that they had to provide a bigger budget than what they got at the beginning but that is not enough I mean I believe that we will discuss this but we need to see how we can integrate not just the European Union but the European care systems of each country of each community however they are organized however each country is organized within their health care institutions but it is important that for the implementation of the next to have budget financing you have already mentioned it and that is absolutely crucial thank you very much we continue with the next question which are the messages and the actions that you are planning to give and realize for the further development of the ERNs which actions are recommended to the participating center and which benefit can they get of being a satellite element of a big ERN so I think this is the right point to present my few slides if it's possible I will report on the German experience just few slides on the evolution of the situation in Germany yes yes I don't see the slides on my iPad but wait I can comment like this so this is the situation in Germany we have listed as rare diseases more than 8000 diseases about 4 million patients and in the region or land where I live it's northern yeah thank you northern Westphalen is about 1 million people the German problems but not only in German of course are the dispersion of cases too many rare diseases these are time consuming they have delayed diagnosis due to delayed referral of patients and if I can summarize this was the situation in Germany before we created a system in 2010 the NAMSE system the national call of actions for rare diseases and an atlas of all the centers with expertise in rare diseases was created and then in a second time 2016 there was the creation at European level of the ERM system so initially we had the definition of two types of centers A centers and B centers A centers with main coordination tasks and interdisciplinary boards and the B centers characterized by patients recruitment registries and biobanks because they have the expertise of each single disease or group or diseases so this is again the definition of the A centers and the B centers by the NAMSA and what you can find in the Atlas and also the type A centers have also educational activities as one of the main aim of these centers compared to the B centers and then we have also a network of satellite centers helping both A centers and B centers this was the situation before the ERM this is a picture of the atlas where you can see the A centers there are only five to seven centers in Germany no more than that for all kinds of diseases and this is the experience at my center it was funded as A center in 2013 and restructured into 2019 2021 because of the presence of the ERN and this A center involves 12 B centers and 90% of them are ERN centers and this is now the structure of my center and the graphical representation as you can see this is the A center the B centers and the ERN representatives here so this is a way to integrate ERN in our NAMSI system in Germany and what does it mean concretely so if you see there are for each patient entered through a single entry point in this system there are several multidisciplinary teams to assess the patients from the clinical point of view for example and for the treatment so there is a close interaction in the initial phase between the A center and the B center and then we involve of course other ERN centers inside this big A center to the extended multidisciplinary discussion to evaluate the case of course it has all this process has costs in terms of personnel and also resources because you need a platform you need sometimes it's not the case now but in the future we need to anonymize all the patients data and there are of course some specific projects like the transition project where there are several MDDs in the life of this and the journey of this patient sometimes once monthly if the therapy is really complex or the genetic analysis require a counseling a specific counseling because there are new mutations for example and then we have educational activities like an academy with a calendary of events and this is supported by the region NRV is North Rhein-Westphalen so there is financial supporting and also of resources like the internet platforms but we were not satisfied by this system so we decided to create something new and we created in 2022 after one year and a half handling with the coordination of our ERN lungs so we created the German ERN network which is not properly another substructure of the ERN which additional amount of work but it's the attempt to adapt the ERN system to the national situation I just want to give you an example about diseases in the ERN lung at European level we don't have any core net for the sarcoidosis for example which is very common in Europe in Scandinavia for example so we decided really to extend the portfolio of diseases in this ERN but also to push the national health system to provide some concrete ways to support financially this system and also one of the aim was to avoid redundancy and to unify to merge registries and biobanks because we have really a lot of registering biobanks in Germany so the dispersion of cases or to have the same patient in three or four registries of biobanks is of course not the best thing you can do and of course to optimize the funds and concretely just to look at this part it's very interesting we are now creating separated barcodes for these patients so you have the patients coming into the ERN or the ACE center through the single entry point and then it will receive a barcode and through this barcode you can track all the examinations made all the counseling has been made for these patients and then ask for a reimbursement to the region and health national system and then we have already identified for Nord Rhein-Westfalen a bonus or a minimal reimbursement for each patient which is 300 euro so it's really an anticipation of the next future but of course it's something very concrete because now the institutions belonging to this ERN are really prone to support this system and give you as healthcare providers for example at least one personnel for putting the data into the registries and coordinating the appointments of these patients for each single examination so this this is I think probably the only way we have to create a national translation of the European ERN to push directly and to ask directly concrete actions to recognize the work to acknowledge the work and also of course to support financially all these incredible infrastructures we have created only on voluntary basis until now so thank you very much for your attention thank you very much Francesco and congratulations for this translation in the real world of the national health system in Germany Helen yes so the question about how are we planning the next steps for the future so I mentioned the French system just before I will not go back on this but we are of course in France trying to merge all the national activities that have been long-standing with the ERN activities that means also number for the patient etc I will more focus on what is really important as globally speaking not on national matter there but I think what was said before is that the and the patients have to see ERN as an added value they are not satellites or they are not a little piece of a huge constellation no they are really part of it and this is what we really have to impulse in the next five years what is the added value to be part of ERN I mean some have understood very quickly and very well for instance on research purposes we have been able to apply for European grants with different countries I will take an example in our ERN we did last year on the European grant for humanities and without the ERN we would have never applied been able to perform this research work where there are six different countries I mean to be honest I didn't know this five years before and we for instance in Poland or in Latvia and we would never be able to really reach for instance to these countries so we really have to see that the purpose of the ERN is really to reach out not the countries where maybe there is less expertise and this is to come back to what we said initially the ERNs are based on this cross directive so what we want to do is really try to bring in the colleagues bring in the patients in the system and again this with the increased amount of grants and in parentheses we have an increased amount of bureaucratic work to do in parallel so this has to be taken into account too but with this increased grant we hope that we can compensate for time for instance when colleagues enter data in the registry so they can be compensated for data entered in the registry the same for people who are taking leadership and guidelines or also in the CPMS the commission in the next grant has planned that 100,000 euros will be dedicated to compensate for 200 euros per panel for each patient for panel is represent a case I would say to see how we can compensate for the time of the MDs that is taken for this activities so here we are a sort of laboratory I would say each ERN is becoming a sort of laboratory to see how we will be able to compensate for the time of the doctors on this but I hope this will stimulate some colleagues to participate to this because it is true for the five first years some colleagues in some countries so I would just take an example of a colleague who really did not want to participate to the activities because her time was not compensated although she's a world expert on some specific rare eye diseases and I hope now we will be able to bring in these people in in the system again it's not because they have they are not willing to help patients it's because the healthcare system around them was not able to help them to liars with the ERN So really to me the next five years is a maturation phase but also a phase where we have bring in in our ERNs the added value of being European and of the solidarity especially for countries and systems where who are still not as well organized as other countries So I'll stop here I will share my screen if I can Do you see the screen? Yes Okay 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 So as is written there so it has taken five years to build a collaborative network to have a communication interface with all our members and as well as the European Commission It has also resulted through multiple projects to concrete projects and the proof of the usefulness of the ERN for patients with very rare malagical diseases So we really believe that no one is the satellite nor the HCP nor the patient association It's really not the way we work on that because what we do is with all our members we communicate what is ongoing and we also communicate to all our members the actions that we would like to do so for example we had a questionnaire a survey to all our members for the guidelines what are the guidelines that are missing and we had the 10 and we will go through that for the next five years and we do it for the different actions that are on of course it's not a dream we try to involve them and the action have to come from the members and not from only the ARN or the board the member of the board in the ARN we are well informed of course but we have to work but this again this needs a team and a team devoted to that not only a management team for all the administrative part but really for the concrete action and it's going well we have all learned that no one is a satellite if you tell it in another way so for example if Talasenia is very known in Italy it's not the case in Latvia or in Poland so we have to take all this knowledge to the other part of Europe we think also that it's not a hyper structure really not if we go to concrete action I think it's not a hyper structure but I think we will have a last question on the way we could work with the Europe Commission and I have also several aspects that I would like to share with you I think for the sake of time we will skip the last question so you want to write a few words now it's the time okay so we think that we have made a of what is missing so the needs maybe you know when you go at a European level maybe sometimes you write documents but documents are only documents so how can we spread in a concrete way we speak about cross border health is it really documents or is it really an action a plan in the different member states so could we have a map of all the actions that are implemented in the different European country the member states what is well known by the health ministries the project is to judge if it's done not done it's ready or not ready but really to have a plan with a calendar with the action the second one the third one and so it's really concrete and we can share also the knowledge about it we know that financial problems are always behind it but we have to begin somewhere so to propose this thing is probably one possibility the other is also probably to make a link between the board of the member of the member states the representative of the European Commission and the representative of else ministries and finally the representative of the ERN if we can put all those people together maybe we can talk together and understand and maybe on this mapping exercise so we know where we have to go all together and speak by section if I can say and that there is no relationship between us I don't know if it's something that we can propose to improve the structure and to understand that it's not a surface true somewhere and we don't know what's going on thank you very much Beatrice Yara yes I want to say that I agree because there are different aspects that we are saying the same in these five years the truth is that the relationship with the centers of the network has been quite fluid with regards to CPMS the guidelines etc etc as I said we visited many centers the management from the point of the management by the secretariat the technical secretariat is very well organized so with regards to the national healthcare system in Spain we have so called reference health centers which are those centers that have a specific complexity in the case of transplants other diseases and the diseases of other communities and other places in Spain that have complex diseases they have to be referred to these centers of reference and these centers of reference exist for the different types of transplants and these well we already have a long expertise in time and because of that we can somehow implement it a little bit in relation to the work of work what we have to do within the network it's been mentioned that we have to be practical one of you said that we have to be practical and I believe that it's also been said that not all the healthcare systems are the same with organization or financing the activities that we have to implement are known by us because they've already been specified in the first five years and those have to be ended but I believe that what is missing from my point of view is a little bit a connection amongst ourselves but also what is it that the professionals have to convey to the institutions there is a question that I don't know will be made later on and it is what would be the critical steps for the network to be integrated into each national healthcare system I mean maybe very connected with the hospitals that depend on us the actions and the activities that have to be developed but sometimes we need that we need resources but that doesn't just depend on the professionals and perhaps it doesn't depend on the center manager so how can we solve this well I don't know whether now that we're talking about these aspects of the five years at the time to say it but maybe here we can talk which are the critical steps for these to work I don't know whether this is time to talk about this or it'll be asked later on in the decision but the health institutions at a regional and national European Union level there is no communication and we need that fluid communication so that the management centers we want the doctors and the centers to be represented in that communication so that we can move forward so that the message can be conveyed onto the hospitals Thank you very much Yara and I think that for the sake of time we have to conclude our discussion we want to really thank all the ERN coordinators and representatives for the experience that they shared today and for giving us a future perspective for the next five years and thank you all for listening here and from the website and the social media so thank you all for participating and being here the Italians and the Europeans and I think we can conclude this session and move to the next one thank you thank you very much to all of you too for the invitation and this useful we different ideas and it's really useful for us too thank you very much thank you thanks a lot thanks a lot thank you very much also thank you very much for us lasciamo more second Ciao a tutti, ci avviamo verso l'ultima sessione di oggi. Io sono Pietro Maffei, lavoro qui alla clinica medica terza del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e ho il piacere di presentarvi oggi il professor Federico Tott che lavora al Dipartimento di Scienze Politiche, credo, dell'Università di Bologna, non so se ha cambiato nome il Dipartimento e insegna, è professor ordinario di Scienza Politica, invece è singolare, ho imparato, è più corretto ed è un esperto di sistemi comparati, sanitari, da un punto di vista organizzativo e finanziario a livello europeo. Direi che il tema è estremamente interessante anche per tutte le cose che sono state dette oggi, perché così, se mi permettete così un paragone sul, fare un esempio di quello che mi è sembrata la situazione, che sembriamo come un organo che ha, voglio dire, delle cellule che funzionano molto bene, un tessuto connettivo che ci è stato dato dall'Europa per funzionare, la sensazione è che manchi un po' di ossigeno e quindi questo chissà che grazie alle cose che ci dirà il professor Tott magari ci aiuterà a capire forse un po' meglio come questo ossigeno possa arrivare per farci lavorare sempre meglio. Quindi grazie davvero per la tua disponibilità oggi. Prego. Buongiorno, mi tolgo la mascherina così per chi mi si senta e ringrazio molto per la presentazione del professor Maffei e chiaramente il professor Perilongo per l'invito e l'organizzazione di queste due giornate di studio. Adesso il numero calerà appena inizia a parlare, ma fino ad ora è andato tutto bene. 600 persone collegate, ve lo dico al microfono per tutti. Grazie, grazie. E quindi già che appunto parlava il professor Perilongo, il professor Perilongo mi ha detto pensa in grande, anche un po' sogna, magari usciamo un po' dalle cose più tecniche per invece provare un po' a immaginare, a fantasticare su quest'idea di sistema sanitario europeo. E allora io accolgo la provocazione e proviamo un po' a fantasticare. E già dal titolo uno potrebbe dire, appunto, ma che cosa vogliamo? Qual è il nostro obiettivo? Cioè stiamo parlando di un servizio sanitario nazionale europeo, cioè qualcosa di simile a quello che abbiamo in Italia, unico, finanziato, attraverso la fiscalità generale in cui tutti i cittadini europei sono assistiti, in cui c'è un'unica proprietà, un unico ente che controlla e dà, diciamo così, in teoria dei servizi e delle garanzioni formi a tutti i cittadini europei. E' questo che immaginiamo, cioè un grande servizio sanitario nazionale che invece di essere nazionale è appunto sovranazionale, europeo. Beh, se è questo, in effetti mi dà l'idea dell'essere un'utopia, di essere un sogno. E forse anzi un incubo, perché credo che forse non vorrebbero una struttura di questo genere o non la vorrebbero in diversi paesi. E allora, la mia presentazione parte da questo. Intanto cerchiamo di capire come funzionano adesso le cose. E già negli interventi di questa mattina, inizio della mattinata, il dottor Valverde ha detto che in Europa in effetti la situazione è piuttosto disomogenea. E allora io parto da questo, cioè cercare di mostrare qualcosa che appunto è già evidente, che probabilmente conoscerete, ma con qualche dettaglio in più, perché la situazione europea è disomogenea. Perché ci sono diversi sistemi sanitari che sarebbe veramente molto difficile rendere uguali, uniformare nel senso di proprio renderli simili, perché si basano su principi, su presupposti differenti. Bene. Io avevo preparato anche delle slide, forse nel frattempo io vado avanti. E quindi, prima provo a sostenere questo, cioè a mostrare... Perfetto. Che appunto, allo stato attuale, qual è la situazione attuale, qual è il punto di partenza, in Europa abbiamo una situazione estremamente eterogenea. Perché abbiamo, appunto, fra, se uno guarda anche appunto l'Europa 27, ma possiamo anche allargarla, IEFTA, SE, quindi mettiamoci dentro anche Norvegia, Svizzera e il Regno Unito che ne è appena uscita, abbiamo almeno tre diverse famiglie di sistemi sanitari. La prima è il sistema BISMAR, che è quello, diciamo così, maggioritario in Europa, la maggior parte dei paesi europei ha questo sistema. Tecnicamente viene detta assicurazione sociale di malattia. È quella, tanto per intenderci, che avevamo in Italia, fino alla riforma del 1978. Ora, dal punto di vista della definizione, si ha un sistema di assicurazione sociale di malattia quando l'obbligo è in capo al lavoratore. Vedremo che fa differente, è un po' di parlare del cittadino del residente, è un po' di parlare del lavoratore, è un po' come da noi, tanto per intenderci, le pensioni. Quindi, nel sistema di assicurazione sociale di malattia, a dover versare i contributi, l'obbligatorio, sono i lavoratori, e poi la copertura si estende non solo ai lavoratori, ma anche ai membri del nucleo familiare, ai familiari a carico. Quello che succede nella maggior parte dei paesi, ma adesso vedremo che negli ultimi vent'anni la situazione è un pochino cambiata, o comunque nei sistemi Bismarck, usualmente, come c'era anche in Italia prima del 78, operano diverse casse di malattia, divise per professioni. Quindi c'è la cassa di malattia dei medici, c'è la cassa di malattia degli architetti, c'è la cassa di malattia dei lavoratori agricoli, e così via. In Italia, all'inizio degli anni 70, c'erano più di 300 enti mutualistici, ma anche in Europa, insomma, la situazione alcuni decenni fa era questa. Ora, l'idea è che, appunto, si paga dei contributi, quindi un prelievo fisso, una percentuale fissa sul salario da lavoro, e poi, generalmente, in una maggior parte dei paesi funziona così, i fornitori, quindi medici, centri, naturalmente ospedali, ambulatori, eccetera, sono separati dalle casse di malattia, che semplicemente si limitano a rimborsare la prestazione. Ora, quello che è successo negli ultimi anni è che il modello classico bismarchiano è stato un po' trasformato, ha avuto qualche evoluzione, per cui potremmo dire che ancora il modello classico bismarchiano ce l'hanno in Austria e in Francia, nell'Unione Europea, cioè sono ancora i paesi in cui ci sono più fondi di malattia all'interno del paese, divisi appunto su base territoriale, ma sempre riservati ai lavoratori, e ai fondi di malattia tra cui non si può scegliere. Per cui, se tu sei un ferroviere, devi versare i contributi alla cassa delle ferrovie, come avviene in Francia, o se tu appunto sei un dipendente pubblico, un architetto, devi versare obbligatoriamente a una determinata cassa. Non c'è possibilità di scegliere fra una cassa e l'altra, come era il modello italiano appunto prima del 1978. In alcuni paesi, però, per incentivare un po' di competizione tra le casse mutue, proprio perché altrimenti appunto le persone erano torto collo, costrette a versare i contributi ad essere curati da una cassa mutua, sull'esempio della Germania, che come vedete non è in grassetto, perché è un modello che io colloco a metà strada con un altro modello che vedremo dopo, però in Germania, Belgio, Repubblica Cieca e Slovacchia, esistono sì delle casse di malattia che rimangono casse di malattia, cioè enti no profit, con questa vocazione appunto occupazionale, professionale, tra cui però si può scegliere. Cioè ogni anno si può scegliere a quale cassa mutua versare i contributi, e quindi da quale cassa mutua essere in qualche modo protetti. E quindi dovrei escludere, per esempio, i minatori pescatori, che credo che rimangano delle casse chiuse in Germania, ma in Germania, ad esempio, è possibile iscriversi a una cassa se non si è soddisfatto e si può iscrivere a un'altra cassa. Tanto per fare un esempio, uno è un architetto, non ha bisogno di essere iscritto alla cassa degli architetti, può iscriversi anche alla cassa, in qualche modo, dei commercialisti. Poi esistono paesi, come vedete la maggior parte di questi sono paesi dell'est Europa, che sono transitati dopo la caduta del muro da un sistema socialista, insomma, è simile forse al servizio sanitario nazionale, ma spesso di bassa qualità, che hanno copiato in qualche modo il modello tedesco, però con una particolarità, cioè è sempre la logica, è sempre quella che l'obbligo cade in testa ai lavoratori. Però c'è un unico fondo sanitario, c'è un'unica grande cassa di malattia per tutto il paese. Quindi in questi paesi non è possibile naturalmente scegliere fra un fondo di malattia e l'altro. Facendo la somma sono 14, ci mettiamo la Germania anche 15, dei 27 paesi dell'Unione Europea che hanno questo tipo di modello. Poi esiste, e qui mi soffermo meno perché lo conosciamo bene, il modello del servizio sanitario nazionale. Il modello del servizio sanitario nazionale vuol dire che i soldi non arrivano solo dai contributi sugli stipendi, ma arrivano dalla fiscalità generale. Due, che quindi coperti non sono solo i lavoratori che pagano i contributi, ma naturalmente tutta la popolazione, e che è un altro elemento fondamentale, i fornitori, ospedali, medici, professionisti sanitari, non sono più separati dalla cassa di malattia, semplicemente rimborsati dalle casse di malattia, ma il servizio sanitario nazionale, quando è definito in questa maniera in Europa abbiamo questa formula, eroga direttamente le prestazioni con proprie strutture, con propri ospedali, con propri ambulatori, con la maggior parte del personale sanitario che è dipendente pubblico. Ora, quindi è un sistema, appunto, viene detto universalistico, proprio per definizione copre l'intera popolazione, copertura universale della popolazione. Ora, vedete che anche la concezione su cui si basano questi due modelli è diversa, da una parte, dobbiamo ritenerlo un benefit dei lavoratori nel modello misma, perché uno, appunto, attraverso i propri contributi, si assicura il benefit del vedere le cure sanitarie rimborsate dalla propria cassa. Nel servizio sanitario nazionale, quando è pagato per tutti dalla fiscalità generale, stiamo parlando di un diritto, non neanche di cittadinanza, ma di residenza, cioè tutti coloro che sono legalmente residenti in un paese, anche se non pagano le tasse, anche se non hanno effettivamente contribuito, sono, proprio per il fatto di essere legalmente residenti nel paese, coperti dal sistema, appunto, dal servizio sanitario nazionale. Questi sono i paesi, dovrebbero essere dieci, undici, che, appunto, hanno un servizio sanitario nazionale simile al nostro. Quindi, a quali paesi europei noi siamo simili? Li vedete qui nella lista. E, diciamo così, di quelli che non fanno proprio estrettamente parte dell'Unione Europea 27, ma che sono comunque nello spazio economico europeo, anche l'Islanda, la Norvegia e il Regno Unito hanno un servizio sanitario nazionale simile al nostro. Quindi, anche dal punto di vista grafico, io ho provato a fare delle mappe, ma non sono bravo, quindi poi lo tolgo dalla presentazione, l'idea è che il servizio sanitario nazionale l'abbiamo in quello che potremmo chiamare l'Europa del Sud, poi nei paesi nordici e nelle due isole britanniche, mentre invece l'Europa, chiamiamola così, centrale dell'Est, è invece dominata dal modello, appunto, bismarchiano classico. Quindi, una dozzina, in realtà sono undici, se facciamo la conto, dei paesi dell'Unione Europea hanno un servizio sanitario nazionale simile al nostro. Esiste un terzo modello che è stato introdotto forse per la prima volta in modo compiuto in Svizzera, ma poi invece, come vedremo, altri due importanti paesi l'hanno in qualche modo adottato e sono i Paesi Bassi e la Germania. Ora, la logica è questa, e provo a cercare di essere chiaro. Funziona a grosso modo come funziona l'RC Auto in Italia. Cioè, l'idea è, se tu sei residente in questo paese, devi procurare a tue spese una polizia assicurativa che copra un determinato pacchetto che definiamo come pacchetto delle cure sanitarie essenziali o di base. Se non lo fai, sei illegale e puoi, appunto, andare incontro a delle penalità. Quindi, l'idea è che c'è un obbligo, non più sui lavoratori, come nel modello bismarchiano, ma su tutti i residenti, e è molto importante sottolineare come si paga. Non si paga più attraverso le tasse, non si paga più attraverso una percentuale, un'aliquota del proprio stipendio, ma si paga il premio, come per la polizza auto. E allora, lo vedremo dopo, ho preparato una slide a tal proposito, vuol dire che le persone ad alto reddito pagano un premio che di solito è simile, o del tutto identico, a quella a basso reddito. Pagano un premio sanitario che è simile e che non è legato al reddito, che non dipende dal tuo reddito individuale. In questo sistema, anche in questo caso, ovviamente, la funzione dello Stato è molto ridotta, si limita appunto alla regolazione del sistema che ha questo appunto imporre l'obbligo su tutti i residenti, i fornitori sono separati dalle casse di malattia. Le casse di malattia, proprio come nell'RC Auto, sono in competizione fra di loro. Poi, in alcuni paesi sono no profit, possono essere sia for profit che no profit, però l'idea è che ognuno ogni anno sa che deve sottoscrivere la polizza sanitaria, la paga di tasca propria, ma può scegliere naturalmente fra una pluralità di casse, o di compagnie, e anche for profit di malattia, ovviamente in competizione fra di loro. I tre paesi, appunto, dello spazio europeo, dell'Europa, dello spazio europeo, che hanno adottato questo modello, sono andati avanti di una slide, che c'è forse anche un problema di connessione, comunque, sono appunto i paesi bassi, la Svizzera, e la Germania, che è uno strano sistema in cui è stato conservato ancora il sistema bismarchiano, ma il sistema bismarchiano classico possono accedere solo i lavoratori dipendenti. Tutti coloro che invece sono lavoratori dipendenti, che non sono appunto nella categoria dei lavoratori dipendenti, invece hanno l'obbligo, in quanto residenti in Germania, di sottoscrivere una polizza privata. Ci sono una categoria, lo dico perché è interessante, in Germania, che sono i lavoratori dipendenti sopra un certo reddito che possono scegliere se acquistare una polizza privata oppure se invece pagare la contributa alla cassa mutua, e stando appunto alla letteratura che c'è in materia, i giovani e quelli che hanno un reddito più elevato tendono ad andare verso l'assicurazione privata naturalmente perché conviene soprattutto i singoli. Coloro che magari hanno famiglia e quindi hanno più familiare a carico e quindi i premi sarebbero più costosi, che sono un po' più avanti con l'età o che hanno un reddito più basso, allora invece conviene restare dentro il sistema obbligatorio delle casse di malattie. Ora, spero di non spaventarvi con alcuni dati perché già dalla presentazione di questi tre modelli avrete capito che c'è un elemento non secondario perché nei modelli Bismarck essendo legato al lavoro, la garanzia di avere una copertura sanitaria, sempre, cioè sistematicamente il modello Bismarck lascia una parte della popolazione senza assicurazione sanitaria, sono coloro che non lavorano, coloro che hanno dei lavori instabili, coloro che hanno dei lavoratori atipi, ci sono dei giovani che magari per età studiano ma non sono più a carico della famiglia e quindi esistono, contatevi, sono circa la metà dei paesi europei che non riescono a garantire il cento per cento della copertura sanitaria. La leggenda è importantissima in questa tabella, cioè cento vuol dire che tutti i cittadini residenti in quel paese sono coperti ma si mettono insieme tutte le forme di copertura, sia pubbliche che private, sia obbligatorie che appunto in qualche modo volontarie. Quindi chi non arriva a cento vuol dire che quello che manca a cento sono persone che non hanno nessun tipo di copertura sulla testa e quindi quando hanno bisogno di una copertura sanitaria la pagano a un po' di tasca propria. Ora vedete che la situazione è molto diversa, appunto riguarda solo i paesi che hanno un sistema Bismarck e in alcuni casi uno può anche chiudere un occhio. Stiamo parlando dell'Austria in cui come vedete c'è il 99.9% di assicurati, vuol dire che c'è uno su mille in Austria che non ha la copertura sanitaria. Non è neanche pochissima, però uno può anche chiudere un occhio. In paesi come il Belgio vedete che è già superiore al 1%, vuol dire che uno su cento di quelli che incontriamo per strada non ha un'assicurazione sanitaria. E poi ci sono paesi come la Bulgaria e la Romania in cui si va attorno al 10% o anche oltre vuol dire che uno su dieci in quel paese non ha nessun tipo di assicurazione sanitaria. Ora, facendo il conto e questo è un dato che emerge dalle statistiche ufficiali quindi io prendo i dati che sono pubblici che sono ufficiali rilasciati dall'Ocse o rilasciati dalla Commissione Europea io però questo tema non l'ho mai sentito nominare né nella letteratura scientifica né tantomeno sui giornali. Di solito si parla dei non assicurati degli uninsured solo in riferimento agli Stati Uniti e si dice eh, le sostanze punitense pensa quanti in inco ci sono appunto 28 milioni di americani e anche in Europa ci sono degli non assicurati perché se facciamo la somma dei 27 paesi europei fanno 7,2 milioni di cittadini europei che non hanno alcun tipo di assicurazione sanitaria. Sono l'1,6% uno potrebbe dire non è neanche tantissimo ma insomma l'idea è che quindi abbiamo questo problema. E allora il primo commento che poi vedremo dopo è stiamo cercando adesso di favorire la circolazione aumentare la libertà di scelta dei pazienti ma forse non verrebbe la necessità di dare a tutti un'assicurazione sanitaria perché adesso non so se vi viene meglio avere l'esempio però è come dire guarda c'è un bellissimo menù tra cui tu scegli al ristorante però tu non puoi entrare allora dice va bene forse all'inizio darà la possibilità a tutti di entrare nel ristorante poi dopo magari arricchiamo il menù questo è il primo commento la seconda è questo stiamo parlando appunto di cos'è sogno cos'è utopia cos'è può essere invece politicamente fattibile e allora questa è nuda e cruda la spesa sanitaria pro capite sia pubblica che privata quindi la spesa sanitaria complessiva espressa in euro per poi alla fine spesso la spesa sanitaria viene sempre calcolata in rapporto al PIL alla reddito pro capite oppure a parità di acquisto quindi vengono sempre in qualche modo poi anche deformate non no ma qui parliamo proprio dei soldi che nei singoli paesi si spendono complessivamente tra spesa pubblica e spesa privata per le cure sanitarie in un anno e vedete che le differenze sono enormi cioè stiamo parlando di paesi in cui in termini reali cioè espressi in euro pro capite si spende 7-8 volte di più pensato appunto al caso della Danimarca di Luxemburgo e della Svezia che sono paesi naturalmente ad alto reddite che spendono 7-8 volte di più di quello che si spende in Bulgaria e in Romania quello che mi permette di sottolineare da questa tabella è non solo far vedere che l'Italia spende complessivamente 2.500 euro quindi molto di meno rispetto a quanto non spendono altri paesi abbiamo visto un po' di appunto ospiti da diversi paesi europei già questa mattina spendono in termini assoluti molto di più di noi poi lascia stare che magari il costo della vita è superiore lascia stare che magari il reddito pro capite però insomma sono alla fine dei soldi che mancano quindi quando parliamo di sottofinanziamento del servizio sanitario nazionale italiano lo diciamo evidentemente a ragione di causa vi volevo però sottolineare vi chiederei di appuntarvi mentalmente solo i valori più bassi cioè abbiamo visto prima che ci sono alcuni paesi in cui il 5-10% della popolazione è priva di assicurazione sanitaria e la maggior parte di essi però vedete sono quelli più poveri dell'Europa dell'Est Bulgaria Polonia Romania e Ungheria in tutti questi paesi la spesa sanitaria pubblica privata complessiva è inferiore ai 1000 euro perché dico questo perché dopo io farò una proposta un po' forse da sognatore di dire ma non riusciremmo a fare in modo di dare la copertura sanitaria anche a questi 7,2 milioni di non assicurati che abbiamo in Europa per la maggior parte di essi siamo parlando di una cifra di un contributo che non è particolarmente rilevante perché in quei paesi forse per fortuna di un eventuale progetto di questo genere la spesa sanitaria costa poco vi dicevo prima scusate un po' se sono naif in questo e anche la proposta dei due personaggi ma è solo per mettere in risalto come i tre modelli che vi ho presentato finora non solo producono degli effetti diversi in termini di copertura assicurativa ma sono proprio basati su un diverso principio redistributivo ieri sera anche a cena appunto parlavamo di quanto sono solidari di come venga intesa anche il principio di solidarietà in sanità nei diversi paesi beh prendiamo l'esempio quello del terzo modello di elettromodello svizzero ma che hanno appunto anche i basi in Germania della assicurazione obbligatoria di residenza quando si paga un premio simile alla nostra RC auto e allora prendiamo ipoteticamente due persone che svolgano lo stesso lavoro e che abitano nella stessa area geografica e adottino quel modello quando uno paga uno per un premio sanitario e guadagna magari diecimila euro quello che guadagna dieci volte tanto che è un reddito di centomila euro paga uno quindi l'effetto redistributivo è bassissimo o forse nullo veniamo ai sistemi bismattiani classici vi dicevo che si paga una percentuale del proprio reddito da lavoro quindi immaginiamo che questi siano redditi da lavoro chi paga diecimila paga uno in sanità nella cassa comune degli avvocati o dei medici eccetera però guadagna dieci volte tanto mette nella cassa comune dieci volte tanto e quindi l'effetto solidale all'interno della cassa è molto marcato ma l'ho ancora di più nei sistemi cosiddetti progressivi basati sulla fiscalità generale questi sono i dati riguardo all'Italia ora chi dichiara un reddito da centomila euro mette appunto nelle casse finanze servizio sanitario nazionale più di trenta volte il contributo rispetto a un italiano che dichiara diecimila euro di reddito per dire che sono sistemi che nascono su altri principi che hanno una diversa libertà di scelta eccetera ma che si basano anche su una diversa redistribuzione dei soldi questo per dire dal punto di vista anche dello scienziato politico che prova a fare un po' di political economy è che in alcuni paesi ci sono dei vincitori e dei vinti come si suole dire cioè c'è qualcuno che è naturalmente avvantaggiato da un determinato sistema e qualcuno che è svantaggiato spesso quelli che sono avvantaggiati hanno forse anche più influenza politica si sanno meglio far sentire e così via questo per dire che io non so se appunto uno proponesse un sistema come quello in cui appunto nel servizio sanitario nazionale i più ricchi pagano trenta volte quello che pagano i più poveri se sarebbe politicamente fattibile o particolarmente popolare in certi paesi in cui evidentemente invece adesso le cose funzionano in un modo molto diverso l'ultima slide di comparazione poi smetto con i numeri forse non si riesce neanche a leggere ma vi dico io le cose importanti perché finora mi sono soffermato sul finanziamento perché forse quello o chi ha diritto alla copertura sanitaria o chi ha diritto alla salute gratis perché è quello forse l'elemento più interessante a livello di ingegneria complessiva però anche l'organizzazione del sistema dei providers naturalmente è diverso da paese a paese prendiamo un indicatore difettoso finché si vuole ma che dà un po' un'idea di qual è il rapporto fra fornitori pubblici e fornitori privati e vedete nella prima colonna appunto c'è la percentuale dei posti letto in ospedali pubblici in strutture ospedaliere pubbliche e naturalmente invece quello che rimane sono le strutture private e qui troviamo molti paesi che hanno appunto una percentuale di posti in ospedali pubblici superiore al 90% quindi possiamo dire che il sistema di offerta ospedaliero è di gran lunga prevalentemente pubblico ma vedete anche che ci sono paesi in cui invece la maggior parte dei letti sono in strutture private in Olanda tutti gli ospedali sono formalmente delle strutture private la maggior parte non profit ma sono appunto non pubbliche ma questo verrà anche in Belgio ma questo verrà anche in Germania in cui quindi la maggior parte dei posti letto sono in strutture private pensare in qualche modo di pubblicizzare o di rendere pubblici gli ospedali creando un grande servizio sanitario nazionale europeo forse appunto sarebbe fantasciente appunto ne abbiamo parlato questa mattina abbiamo parlato della famosa direttiva UE 24 del 2011 l'idea è che appunto ma proprio molto velocemente questa interviene in seguito a quella che invece già c'era e che è appunto la tessera europea di assicurazione di malattia la nostra tessera sanitaria sapete che ci dà la possibilità per cure non rimandabili non chiamiamole urgenti credo che tecnicamente siano se ti trovi in un altro paese dell'Unione Europea per qualsiasi motivo studio, lavoro, turismo eccetera se hai una cura che non è rimandabile cioè non puoi tornare nel tuo paese di origine curarti ma è meglio invece essere curato subito allora tu hai diritto attraverso la tessera team di essere curato anche in un altro paese membro ma questo vale appunto per le cure non programmabili solo per quelle in qualche modo urgenti e immediate la direttiva invece 24 come sapete bene del 2011 invece viene in qualche modo da regolare la appunto le cure cosiddette programmabili che si possono in qualche modo programmare in anticipo ed è interessante appunto notare che riguarda le persone assicurate cioè nel senso che in quei paesi in cui c'è una parte della popolazione che non ha nessun tipo di assicurazione sanitaria è chiaro che a loro gioco forza non hanno questo diritto l'altra cosa che è importante sottolineare è che credo che sia appunto noto ma lo ripeto perché dopo mi serve per l'argomentazione è che ognuno ha diritto nei paesi membri negli altri 26 paesi dell'Unione Europea alle cure che vengono garantite nel pacchetto base del paese di partenza quindi noi tanto per intenderci dobbiamo fare riferimento a ILEA se una qualche prestazione non è inclusa né ILEA in Italia allora essa non viene rimborsata se uno va all'estero poi appunto abbiamo parlato a lungo degli European Reference Network e qualcuno appunto anche giustamente oggi il professor Scarpa diceva questa è la parte forse della direttiva che ha funzionato di più abbiamo visto appunto il bilancio oggi invece per quello che riguarda la semplice mobilità trasfrontaliera come siamo messi sono andato a vedervi i dati e qui invece il successo è molto lontano da venire perlomeno per quello che riguarda l'Italia io mi sono concentrato sull'Italia poi in altri paesi la situazione è un po' diversa adesso vi faccio solo qualche accenno perché sono andato a prendermi i dati vengono pubblicati tutti gli anni ci sono già anche quelli del 2020 ma col covid ho pensato che fosse un anno naturalmente da non prendere da scattare perché gioco forza la mobilità era in qualche modo vincolata ho preso l'ultima annata intera normale che era il 2019 qui sono andato a vedere quante persone chiedono informazioni al nostro punto di contatto nazionale per ricevere delle cure trasfrontaliere sono 655 c'è un sito internet c'è un numero verde da parte del ministero 655 vuol dire due chiamate al giorno di persone due massimo tre al giorno che fanno appunto una chiamata per avere delle informazioni poi vediamo che hanno fatto una domanda di autorizzazione 120 pazienti italiani e di queste accettate sono 60 noi siamo 60 milioni vuol dire uno su un milione che è andato a farsi curare nel 2019 con l'autorizzazione preventiva in un altro paese membro ora giusto per rendersi conto la mobilità come sapete fra le regioni stiamo parlando di 600 700 mila pazienti ogni anno che vanno a farsi curare in Italia in una regione diversa rispetto a quelle di residente è un enorme travaso di pazienti sappiamo soprattutto da certe regioni verso altre però l'idea è che in Italia ci usufruisce moltissimo della mobilità interregionale di quella trasfrontaliera stiamo parlando di un fenomeno che è irrilevante poi appunto se uno è interessato vede che 31 pazienti sono andati in Austria 20 sono andati in Germania io non ho il dettaglio di questo non posso immaginare che siano magari su tirolesi di lingua tedesca che forse per loro appunto non è un problema andare oltre confine e ricevere le cure ma stiamo parlando di un numero veramente esiguo guardiamo il resto d'Europa sono tutti i paesi così no ce ne sono alcuni che usufruiscono di questa mobilità e se guardiamo la mobilità con autorizzazione preventiva quando c'è prima la domanda di ricevere una cura e quindi sei sicuro che ti verrà dato il rimborso ecco che vediamo che c'è un grosso travaso fra Regno Unito e Irlanda e viceversa e poi c'è un certo flusso dalla Francia verso la Germania questi sono i tre principali flussi quindi altri paesi forse fanno un uso maggiore di quanto non lo facciamo noi ma molti altri hanno quindi invece un uso bassissimo di questa direttiva 24 se consideriamo le diciamo così cure trasfrontaliere in altri paesi senza autorizzazione preventiva teniamoci quindi vuol dire che il paziente è andato là e poi chiede ex post il riconoscimento ma quindi potrebbe anche non essere riconosciuto quindi lui lo sta in qualche modo anticipando e poi spera in qualche modo di essere rimborsato vediamo che per l'Italia la situazione non cambia moltissimo in uscita perché stiamo parlando di 160 pazienti che hanno fatto in qualche modo questo tragitto cambia invece in parte vedete che c'è un bello sbilanciamento in termini invece di entrata cioè ci sono oltre 9.000 pazienti che vengono dagli altri paesi europei e la cosa molto interessante è che vengono in grande maggioranza il 90% dalla Francia cioè 8.000 dei 9.000 erotti pazienti che vengono in Italia a farci curare poi vengono rimborsati ex post la maggior parte di essi viene dalla Francia la Francia è di gran lunga il paese che utilizza di più questa appunto mobilità trasfrontaliera poi c'è il Luxemburgo ma è immaginabile sono piccoli vengono a farci curare nelle zone limitrofe poi c'è un po' di Polonia un po' i Polatti vengono a farci curare altrove danesi e svedesi utilizzano questa opportunità diciamo così nell'ordine se uno dovesse fare un ranking insomma io in passato appunto sto monitorando questi dati questi sono quelli del 2019 ma li sto monitorando da 3-4 anni e avevo in mezzo in testa in mezzo paper un mezzo articolo in cui il titolo sarebbe stato Machado about nothing molto rumore per nulla la Shakespeare perché in effetti con questa direttiva si è fatto un gran cancan e poi alla fine le persone che utilizzano di questi appunto possibilità di farsi curare all'estero per lo meno in certi paesi come l'Italia sono pochissimi ci sono state naturalmente dei sondaggi ci sono stati fatti dei questionari e si è scoperto che la maggior parte dei pazienti nei paesi europei e questo vale anche per l'Italia non conoscono questa possibilità io mi immagino anche che ci sia un interesse a non farlo conoscere troppo perché credo che i sistemi sanitari regionali i sistemi sanitari nazionali come anche si capisce anche da alcune dichiarazioni che hanno fatto i ministri della salute sono molto interessati a ricevere i pazienti quindi come dire mettiamoci in mostra perché abbiamo delle eccellenze sanitarie nel paese mi ricordo qualche intervento di questo tenore da parte del ministro Lorenzini e invece sono meno interessati naturalmente a far andare i nostri pazienti in altri paesi a far sicurare perché dopo naturalmente bisogna pagarne invece i costi questa è la situazione io ho appunto ho voluto in qualche modo sottolineare l'elemento di difformità del sistema ed è il fatto che esiste questa direttiva 24 che però se per appunto l'European Reference Network sembra funzionare invece per la mobilità trasfrontaliera invece sta sortendo sostanzialmente degli effetti limitati allora da qui ci si può muovere appunto l'invita del professor Perilongo possiamo sognare ma anche con i piedi per terra anche appunto facendo in qualche modo una proposta realistica sto cercando di andare avanti la slide bene e quindi proviamo a formulare una risposta plausibile fattibile insomma che non sia evidentemente totalmente un libro dei sogni che cosa si potrebbe fare? io ho messo semplicemente in ordine quattro veramente modestissime proposte e la prima è questa cioè ho sottolineato il fatto che ci sono più di 7 milioni di europei che non hanno una copertura assicurativa sulla testa e allora forse la prima cosa che si potrebbe introdurre è un obbligo in capo a tutti i paesi membri possono scegliere il modello che vogliono possono scegliere fra questi tre possono introdurre appunto dei programmi pubblici per coprire coloro che nel paese non sono coperti come è stato fatto in Francia eccetera scegliete il modello che preferite però alla fine tutti i cittadini europei tutti i residenti in Europa devono avere una copertura rispetto a quelle che sono appunto le cure di base e questo appunto forse c'è già appunto più della metà dei paesi europei e non è forse qualcosa anche dal punto di vista economico costosissimo perché come abbiamo visto i paesi appunto sono più carenti da questo punto di vista sono anche quelli che hanno appunto poi un reddito più basso e una spesa sanitaria più bassa quindi forse non è un libro dei sogni pensare appunto che si possa pensare anche con un finanziamento europeo a pagare l'assistenza sanitaria di base in paesi come la Bulgaria come la Romania come la Polonia o come l'Ungheria questo è il primo aspetto che renderebbe forse il sistema un po' più eco e toglierebbe appunto questo problema di cui nessuno parla ma che c'è dei non assicurati degli uninsured in Europa il secondo è naturalmente un problema anche questo di uniformità nel senso che finora la regola è tu puoi usufruire all'estero di servizi che però devono esserti riconosciuti nel tuo paese di origine e allora anche qui la situazione è di forma perché in alcuni paesi come in Italia c'è una lista formalmente stilata manifesta di quelli che sono i livelli essenziali di assistenza ma in molti paesi questa lista non c'è non c'è una lista ufficiale di tutti i servizi quindi è anche difficile mettere a confronto i pacchetti l'idea è che grossomodo però quelli che sono i nostri LEA sono riconosciuti nella maggior parte dei paesi europei e in alcuni paesi ci sono un po' di cure dentali dentro ci sono un po' più di fisioterapia però insomma non stiamo parlando di pacchetti base così differenti tra di loro forse si potrebbe pensare appunto a una armonizzazione so che appunto vorrebbe dire aumentare il potere regolatorio delle burocrazie europee eccetera forse sarebbe complicato metterle a punto però si potrebbe pensare di avere diciamo così dei diritti garantiti dei livelli essenziali cioè delle cure garantite a seconda appunto anche di diversi sistemi uguali uniformi comuni in tutta Europa in modo tale da evitare che se io abito in Germania magari una certa prestazione me la posso appunto far rimborsare all'estero ma se invece abito in Italia appunto magari non è nei LEA e non posso farlo ovviamente questi LEA visto anche il consesso devono includere naturalmente anche le malattie rare perché sono uno degli elementi o delle realtà più importanti naturalmente che più motivano eventualmente anche una mobilità trasfrontaliera il terzo punto è molto semplice cioè se è vero che molti cittadini non conoscono questo diritto non conoscono la direttiva non sanno che possono usufruirne e allora si potrebbe pensare delle campagne di comunicazione che in qualche modo rendano naturalmente i pazienti più consapevoli di quello che in qualche modo possono richiedere e infine anche qui dobbiamo un po' ragionarci perché appunto anche questa mattina Simona Bellagambi diceva ma cos'è più importante far viaggiare i pazienti o far viaggiare le persone le conoscenze eccetera forse in effetti anche l'esperienza del covid ci dice che non è necessario forse far viaggiare fisicamente il paziente che si può in qualche modo assistere nelle rete integrarsi anche con altri mezzi quindi se volessimo infatti l'ho messa come se proprio volessimo invece fare in modo che i flussi di pazienti che girano e che superano i confini siano di più forse una cosa semplice che si potrebbe introdurre e che nella direttiva 24 già c'era dandola però ai singoli paesi come opzione la maggior parte dei paesi ha scelto di introdurre un'autorizzazione preventiva può darsi che molti appunto pazienti siano un po' spaventati da questa barriera burocratica dell'autorizzazione e quindi forse si potrebbe dire appunto in qualche modo facciamo come fanno alcuni paesi in cui e come vale anche per la TEA tu appunto senza nessuna autorizzazione preventiva da parte della ASL sai che hai questo diritto che puoi essere curato in qualche altro può darsi che diciamo così la rimozione di questa barriera burocratica possa in qualche modo incentivare più persone a valicare il confine a far sicurare in altri paesi io termino qui appunto la mia idea era quella di darvi un po' delle mie conoscenze perché io studio un po' i sistemi sanitari comparati ma come avete capito da un punto di vista finanziario dei diritti dei diversi modelli e provare un pochino a seguire questa provocazione questa idea che mi aveva dato appunto il professor Perilongo di provare a sognare che ci potremmo andare un po' oltre che quale potrebbe essere il prossimo passo se volessimo non un unico sistema uguale per tutti come il nostro applicato all'Europa ma pur mantenendo sistemi diversi in Europa nella loro diversità invece un maggiore livello di integrazione di collaborazione grazie grazie non so se dall'audience c'è qualcuno che vuol fare una domanda al nostro relatore prego prego grazie 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 addirittura oltre agli aspetti eh prestamente sanitari ma parla di un accesso ovviamente alla sanità per cui accolgo una diciamo proposta eh provocazione stiamo effettivamente quanto effettivamente siamo capaci come paese Europa mi piacerebbe vedere il paese Europa di rispondere visto che gli stati membri hanno adottato eh questo tipo di risoluzione e si sono impegnati all'Universal Health Coverage effettivamente quanto siamo pronti a eh investire impegnarci anche a livello proprio europeo per eh coprire eh queste queste necessità e questa situazione di disuguaglianza l'altra riflessione che stavo facendo era anche sempre all'interno della della direttiva trasfrontaliera eh quanto invece per esempio le nuove le terapie avanzate che per forza per forza saranno eh ad appannaggio come erogazione di pochi centri noi in Italia ne abbiamo anche degli ottimi esempi e potrebbero essere un'attrattiva quindi non voglio fare eco alla l'ex ministro Lorenzin però sicuramente ci sono anche in un futuro ehm rendendo più facile perché anche lì invece non non ci sono stati dei numeri tali da giustificare invece l'importanza di queste terapie avanzate quindi due aspetti grazie grazie non so se vuole fare un commento ma grazie grazie per questa questa riflessione immagino che ce ne sarebbero anche molte altre ma mi mi dicono dalla nostra organizzazione che dobbiamo chiudere eh perché abbiamo un break adesso e eh riapriremo credo alle due un quarto mi confermate quindi ci ritroveremo qui alle due un quarto quindi grazie ancora al professor Tott per questa bellissima presentazione e avremo modo di discutere con lui comunque anche a pranzo eventualmente quindi grazie certamente quindi magari dieci minuti prima grazie sono il direttore scientifico dell'azienda università ospedale di Padova nonché direttore della clinica medica 5 che è un'unità operativa complessa dedicata alle malattie epatiche ringrazio anche al nome del mio co-chair il professor Angelo Deitos che è il direttore del dipartimento di diagnostica integrata dell'azienda il comitato e in particolare Giorgio Perilongo per questo graditissimo invito brevemente la mia formazione è nata lontana dalle malattie rare mi occupo prevalentemente di malattie diffuse ma in ambito epatologico abbiamo le malattie rare e devo dire che mi hanno molto aiutato sul piano scientifico introducendo una metodologia di ricerca che è quella del network e soprattutto avvicinandomi alla medicina del genoma umano poi mi sono reso conto che queste malattie rare sono sì rare ma colpiscono molte persone 30 milioni negli Stati Uniti alla pari del diabete 75 milioni in Europa 15 milioni in Giappone sia pure con clamorose differenze nella definizione e hanno un impatto sul sistema sanitario pauroso perché negli Stati Uniti dove hanno dei database assicurativi molto avanzati per i ricoveri ospedalieri delle malattie rare si spendono circa 760 miliardi di dollari l'anno esattamente come per le malattie diffuse 880 miliardi di dollari quindi benché siano malattie che interessano poche persone e quindi poco attrattive per la ricerca profit rappresentano un grosso problema per tutti non solo sul piano umano ma anche sul piano assistenziale detto questo caro Angelo ti passo la parola sì intanto buongiorno buon pomeriggio in realtà il mio percorso un po' diverso rispetto al mondo della rarità perché mi occupo di tumori rari che sono un universo parallelo sono quelle convergenze parallele come di buona di andrea piana memoria con problemi simili ma con se volete metodologie legate alla ricerca clinica diverse ma con problemi analoghi tra questi il tema degli orphan drugs che verranno anche affrontati uno dei temi è anche quello naturalmente dell'accuratezza diagnostica che è uno dei problemi per questo la prima relatrice che è la dottoressa Alberta Leon che è il direttore scientifico di Eurain Generics andrà un po' a illustrarci quali sono un po' le criticità qual è la loro esperienza in un campo molto complesso veramente arricchito dal punto di vista di temi tecnologici sempre più così importanti che è quello appunto dell'analisi genetica di malattie rare è un centro che ha molta esperienza soprattutto nel campo della neurogenetica e quindi siamo molto interessati a sentire la sua esperienza innanzitutto ringrazio gli organizzatori ah sì scusami vedi Giorgio tu me lo so allora abbiamo sessantacin sessantasette persone collegate in TUM e quattrocentosessantotto persone che ci seguono sui social scusami da dare la dimensione del convegno volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori del congresso in particolare il professor Perilongo per averci dato l'occasione di venire a presentare e poi a presentare il mio compito per voi è parlare effettivamente come è stato detto prima delle analisi genetiche e se questo un attimo come ho detto prima il mio compito è parlare delle analisi genetiche e voglio innanzitutto fare una riflessione con voi immagino che chiunque abbia a che fare con le analisi genetiche vuole entrare un attimino nel mondo dell'analisi genetica e della malattia rare non può effettivamente che constatare che scusami un attimo effettivamente constatare che esistono due mondi paralleli un mondo è quello due scenari diciamo un mondo è quello dell'odissea diagnostica odissea diagnostica dei malati dei cosiddetti delle famiglie e dei sanitari che curano questi malati qua nessuno meglio di loro sa scusi nessuno meglio di loro sa quanto sia lungo e difficile avere una diagnosi genetica nella malattia rare e nessuno di loro sa quanto sia decisamente importante una diagnosi genetica per la gestione effettivamente della malattia e soprattutto anche per avere delle eventuali terapie specifiche infatti come voi tutti sapete quando non c'è non si può avere nessuna terapia estiologica senza avere una diagnosi per qualsiasi malattia e nel caso della malattia rare il percorso è spesso caotico ed è spesso anche molto tumultuoso dovuto al fatto non solo alla rarità della malattia ma anche al fatto dovuto alle cause genetiche che sono alla base cosiddette della malattia esiste tuttavia un altro scenario totalmente diverso da questo che è il scenario che viene dal mondo dei ricercatori e dei medici scusi il mondo dei ricercatori e dei medici che hanno effettivamente che hanno condivisione operato contribuendo alla ricerca delle malattie cosiddette genetiche un esempio eclatante sono gli avanzamenti scientifici e tecnologici che sono derivati dal progetto del genoma umano oggi in effetti conosciamo diciamo oltre 4500 geni causativi della malattia rare diciamo sappiamo anche che esistono più di 7-8000 malattie rare molte di queste causate di mutazione in uno di più geni indicando che la diagnosi genetica in molte malattie necessita di una diagnosi multigenica tuttavia questo oggi è possibile perché parallelamente a queste conoscenze qua noi abbiamo scusami non ho toccato niente non ho toccato metto qua non tocco scusi non tocco ok perché parallelamente diciamo alle conoscenze scientifiche che sono usciti fuori oggi abbiamo anche a disposizione una tecnologia che permette le analisi multigeniche che voi siete conoscenze che è la tecnologia del next generation sequencing detto insieme queste due cose di avanzamenti tecnologici e scientifici la disponibilità della tecnologia NGS ci permette oggi di sequenziare non uno dieci cento o mille geni ma addirittura l'intero genoma che vedete qua effettivamente e abbiamo a disposizione molteplici analisi tipologia di analisi genetiche che differiscono in base al numero di geni che vengono effettivamente sequenziati parliamo di sequenziamento di singolo geni per le malattie molto specifiche come la fibrosi cistica di un sequenziamento di un pannello di geni per malattie non tanto geneticamente o fenotecicamente complesse come questo non solo di percolestore mia di un sequenziamento dell'esomo intero che è la parte codificante effettivamente del genoma per malattie più complesse come ad esempio la disabilità intellettiva o l'epilessia per arrivare effettivamente si parla già entrando in clinica devo dire del sequenziamento del genoma intero a questo punto con questa presentazione che vi ho fatto che vi ho messo praticamente insieme diciamo 20, 30, 40 anni da un percorso storico della diagnosi della malattia genetica direi che sorge spontaneamente la domanda ma queste analisi genetiche funzionano qual è la probabilità che essi riescono a determinare o a identificare una causa genetica in un paziente con malattie rare in altre parole qual è effettivamente la resa diagnostica se noi adesso però andiamo affrontiamo questa domanda qua e vediamo un attimino i dati in letteratura ci troviamo di fronte delle cose molto contrastanti in letteratura attualmente oggi esiste si va dal 10 chi dice il 10% chi dice il 60 40 50 60 70% è decisamente molto variabile e questo chiaramente dipende alla casistica che è stata presa in considerazione le tipologie di malattie rare ed altissime altre variabili quindi io non voglio presentarvi voi oggi i dati che vengono in letteratura perché più o meno in sommario ve l'ho detto ho deciso di rendervi partecipi abbiamo deciso di rendervi partecipi effettivamente alla nostra esperienza e questo è un po' un compito un po' addito diciamo che dal 2018 al 2021 noi in qualità di laboratorio diciamo specialista in analisi genetica abbiamo condotto 5138 analisi genetiche in pazienti con sospetto malattie rare derivanti da ambienti ambienti altamente specializzati o ospedalieri distribuiti su tutto il territorio italiano come potete vedere in questo slide qua le caratteristiche di questa casistica la caratteristica di questa casistica ma questo non caratteristica di questa scusi ma non lo sto tocando ah ok non lo sto tocando mi scusi ma non non toccava caratteristiche di questa casistica generale almeno demografica sono portate in questa diaposizione effettiva qua vedete che da un punto di vista del sesso abbiamo 50 50 maschi e femmine vedete che l'età all'entrata per l'esame genetic genetic testing effettivamente 28% sono pazienti pediatrici un 72% sono pazienti adulti se dividiamo in funzione dell'età all'insorgenza di malattia vediamo che abbiamo dei pediatrici che salgono al 38% dicendo che in alcuni casi circa 10% dei casi è stata un tentativo di fare un'analisi verosimilmente tardiva e abbiamo gli adulti che ovviamente scendono a un 62% sono tutti pazienti italiani caucasici italiani e oltretutto gran parte di questi pazienti qua hanno fatto analisi genetiche precedentemente che sono risultate negative quindi questa è la caratteristica della caratteristica in generale se posso andare avanti un attimo queste sono le malattie sono divise sono così sono divise quasi il 50% di questo gruppo di questa caratteristica qua sono malattie del sistema nervoso centrale se preme un attimo le malattie del sistema nervoso centrale sono divise sia in malattie più rappresentative della caratteristica pediatrica che è l'epilistia i disordini del neurosviluppo e le malformazioni cerebrali le malattie che effettivamente più rappresentative dei casi adulti sono l'ecodistrofia disordini del movimento malattie del motoneurone tipo la spesa del laterale amiotrofica la paraplegia spastica e quant'altro e la malattia neurodegenerativa che può essere il target l'alzheimer effettivamente anche altre comprese alcune anche metaboliche vediamo che il rimanente il 50% si distribuiscono tra una serie di malattie neuromuscolari comprendono sia le neuropatie periferiche che le miopatie sono in gran parte pazienti adulti non ci sono arrivati tanti pazienti pediatrici che possono affarire a questa tipologia di classe qua andiamo dai disordini oculari che sono sia disordini della parte anteriore e posteriore della retina compreso come la cosa più comune che sono le distrofie retiniche per arrivare ai disordini renali ai disordini dermatologici dalla pelle disordini cardieci e quant'altro che lo vedete la distribuzione è effettivamente questa la strategia diagnostica che noi abbiamo impiegato se posso avere la prossima è questa abbiamo come già abbiamo deciso abbiamo scelto come detto prima di partire dal sequenziamento del genoma intero impiegando nella parte interpretativa dei risultati quelli che si chiamano dei pannelli virtuali questa scelta è stata fatta essenzialmente per due motivi uno per dare una flessibilità all'analisi in termini anche di etrogenità fenotipica che può avvenire anche nella stessa malattia stessa quindi non siamo legati a un pannello di geni rigidi e l'altro per dare la possibilità di una rienterpretazione dell'analisi nel caso ci fossero dei casi negativi questo è molto importante abbiamo oltretutto associato all'analisi dell'esomo o al sequenziamento dell'analisi dell'esomo delle analisi complementari questo per per limitare i limiti dell'analisi dell'energia est che potrebbero essere analisi per fare le segregazioni familiari le analisi del trinucleotide repeats questo sapete non vengono visti dall'NGS le analisi del CGA per il copy number variation oggi facciamo anche il copy number variation effettivamente in seguito direttamente in seguito all'analisi di NGS in quanto misuriamo non solo il single nucleotide variance ma anche il copy number variance andiamo avanti tutto questo è strettamente legato e questo è estremamente importante al fenotipo clinico noi basiamo i nostri pannelli di geni rispetto al fenotipo clinico ci viene indicato dal clinico se questo è negativo andiamo a un livello superiore che comunque comprende quel fenotipo clinico che è lì sotto l'interpretazione dell'analisi viene fatta in modo classico come fanno tantissimi a seconda dei criteri dell'American Academy of Medical Genetics le varianti che vengono identificate vengono distribuite in essenzialmente benigne patogenetico o likely ovvero similmente patogenetico o varianti bestificate in certo e diciamo che quello che ci caratterizza noi è che effettivamente qualsiasi risultato primario esce fuori dal laboratorio cerchiamo effettivamente lo facciamo solo se e unicamente lo classifichiamo come risultato importante se c'è una correlazione con il fenotipo clinico che ci viene indicato per il paziente questo stesso criterio vengono impiegati anche per valutare la resa diagnostica che vi farò vedere tra poco essenzialmente la resa diagnostica è basata su quanti casi ci sono che sono venuti fuori con variazioni patogenetiche ovvero semilmente patogenetiche sia essi in condizioni di autosomico dominanti autosomico recessiva oppure ex length a questo punto un po' coro perché non vorrei occupare troppo tempo se posso avere la prossima a questo punto cominciamo un attimino per vedere un attimino i dati se posso avere la prossima un attimo e questo ho preso il neurosviluppo come esempio perché effettivamente c'è un numero abbastanza consistente che ci arriva effettivamente a noi e qua vedete che in ultima analisi ho considerato vedete che possiamo considerare un'analisi genetica conclusiva in praticamente 37% dei casi in questo caso il risultato che è uscito fuori è un risultato che correla correla innanzitutto con il seno tipo clinico vedete che c'è ulteriormente un gruppo che abbiamo chiamato un'analisi inconclusiva che è un 10% molti di questi verosimilmente sono anche conclusivi li abbiamo messi inconclusivi perché per esempio manca la segregazione familiare nel caso di alcune variazioni di nuovo e quindi non potevamo diciamo da un punto di vista rigido piazzarli effettivamente nel discorso dell'analisi confermata vedete parallelamente sulla vostra destra che c'è anche i dati riportati nell'epilistia qua c'è l'epilistia globalmente sia focale generalizzata o encefalopatia epilettica o quello che oggi si chiama e qua vedete che la resa diagnostica è un attimino più bassa diciamo è decisamente più bassa siamo intorno non vedo un 23 25% però vi ricordo che ci sono sempre più dati che nel discorso dell'epilistia sono implicati anche delle variazioni somatiche specialmente nell'epilistia focale questo chiaramente con un prelevo di sangue noi non lo vediamo perché vediamo solo con germline e non vediamo chiaramente quelle somatiche andiamo un po' più avanti ritornando se posso per la prossima e cerchiamo un attimino di andare un attimino ancora più in dettaglio dell'analisi fatta nel contesto del neurosviluppo che è un gruppo estremamente eterogeneo ma estremamente importante qua vediamo se guardiamo la cosa dove c'è scritto inheritance che gran parte di questi dati effettivamente uguali a quelli di prima è solo portato in forma torta invece che una colonna vediamo che effettivamente gran parte di inheritance sono effettivamente autosomico dominanti e quello che ci ha effettivamente colpito è che l'ottanta per cento di questi autosomici dominanti sono di nuovo questo è un dato estremamente importante vuol dire estremamente importante decisamente anche per la famiglia diciamo e per i loro programmi che devono fare decisamente per il futuro vediamo anche dall'altra parte che abbiamo fatto una diagnosi tardiva in 26% dei casi perché guarda caso molte delle analisi tardive che ci sono arrivati avevano a fare con disordine del neuro sviluppo in questo caso queste analisi tardive ha portato a una diagnosi diciamo tardiva ma comunque una diagnosi nel 44% dei casi con un chiaro negativismo un inconclusivo del 7% nella prossima vi faccio vedere un esempio che è molto curioso posso avere un attimo questo si tratta di un caso che ci è arrivato aveva il signore il signore l'uomo diciamo adulto in questo caso è un uomo di 45 anni ha i classici sintomi di una disabilità intellettiva è stata trovata in questo qua una variazione di nuovo in questo gene chiamato SCRAP S-R-C-A-P ecco questo gene informazioni su questo gene le prime informazioni su questo gene sono usciti fuori anzi il primo lavoro è uscito fuori nel 2021 questo per dirvi se questo signore avesse fatto l'analisi quando aveva 42-43 anni non avrebbe potuto avere una diagnosi genetica quindi quello che è importante nel fare una diagnosi genetica è non solo avere una tecnologia avanzata e fare le cose corrette con molta correttezza e precisione e anche che ci sia un progresso scientifico effettivamente che notevolmente deve ancora andare avanti e c'è ancora decisamente molto da fare questo articolo abbiamo contribuito devo dire se posso andare avanti con la prossima qua ci faccio vedere un altro esempio questa è una ragazzina di 14 anni ha decisamente un disordine nello sviluppo anche in questo caso è stata trovata una variazione di nuovo d'altro canto sono quasi tutti di nuovo in questa situazione qua e diciamo che questo è il nostro risultato che è una variazione decisamente di quelle delle ferie troncanti e bruttissime ha contribuito effettivamente a di cui noi abbiamo participato con un gruppo internazionale a dare un lavoro di un lavoro scritto che è uscito diciamo fuori esattamente 48 ore fa quindi questo vuol dire quanta è l'importanza per ogni cosa che effettivamente si trova e quanto è importante notificare la comunità scientifica effettivamente dei dati perché questi dati possono essere importanti anche per altri malattie rare questo non è un caso unico se posso avere la prossima analoghi casi almeno noi ci siamo imbattuti deve battere un po' di volta analoghi casi di cui noi abbiamo anche in questo caso partecipato che poi sono stati pubblicati questi sono sono usciti fuori negli ultimi due anni e devo dire che anche molti in questi casi come quello che vi ho fatto vedere del signore di 45 anni sono geni che sono usciti che sono usciti fuori di recente di cui prima non si conoscevano quindi oggi siamo in una condizione non solo di fare delle analisi genetiche diciamo mi scusi il termine nei neopazienti con disturbi nel neurosviluppo ma anche di agnesi tardivi in quelli che sono da tanti anni che stanno cercando una diagnosi genetica a questo punto qua io vi faccio semplicemente vedere alcuni numeri per il resto questo è quel quanto riguarda le nostre rese diagnostiche delle altre malattie neurologiche in questo caso devo mettere alcune altre malattie neurologiche ve lo faccio vedere anche se vedete che alcune sono molto brutte tipo quelle della malattia del motoneurone alla rese diagnostica della malattia neurogenerativa apposta perché sebbene sembrano che la rese diagnostica sia molto bassa in realtà questa rese diagnostica è totalmente conforme a quello che è uscito fuori che esiste in letteratura nel caso del motoneurone ci sono essenzialmente dei casi di spesa in laterale amiotrofica e lì onestamente sono casi nell'adulto è molto difficile distinguere i casi genetici dai casi cosiddetti non genetici esporadici da un punto di vista clinico e ancora ancora non tutti i geni sono stati scoperti in questa patologia qua vediamo rapidamente gli altri settori se possiamo andare avanti qua è semplicemente il discorso che va dalla dermatologia con la rese diagnostica che è estremamente molto buona e con una rese diagnostica che poi vedete secondo i settori qua per darvi un messaggio che non è la rese diagnostica un'analisi genetica varia a seconda della patologia decisamente e a seconda della selezione dei pazienti dico la selezione dei pazienti e vi faccio un esempio se io prendo la rese diagnostica nella distrofia retinica delle malattie dell'occhio vedete che è un 51 non il 16% abbiamo partecipato a uno studio se posso avere la prossima in cui alcuni di questi pazienti sono stati selezionati alcuni dei pazienti di meno di 5 anni che avevano la distrofia retinica sono stati selezionati anche su base impiegando delle metodologie neurofisiologiche questa selezione qua ha chiaramente ristretto la popolazione effettivamente che è meglio identificata la popolazione che avevano in questo caso l'omolosi congenita di Leber e vediamo che la rese diagnostica è dell'85% molto importante quindi è se posso avere la prossima la selezione dei pazienti effettivamente è del retinotipo della malattia altrettanto importante però devo dire quasi intuitivo è la scelta del test genetico che si utilizza vi ho detto prima che esistono vari tipi di test genetici effettivamente e questo se posso avere la prossima ed è chiaro che questa decisione non è solo una decisione del laboratorio ma è anche una decisione del clinico che sta seguendo il paziente laddove è consigliato di scegliere il test genetico in base alla etrogenità fenotipica e genotipica della patologia io con questo se vado avanti se posso avere la prossima avrei finito questo è per dirvi semplicemente l'altra cosa importante che il grande bottleneck oggi il grande collo di bottiglia effettivamente è l'interpretazione del dato non aggiungo più di questo se posso andare avanti un attimino avrei terminato siamo in attesa perché ci sono i negativi dobbiamo pensare anche ai negativi siamo in attesa ci dicono il genoma che probabilmente ci aiuta e io noi e io e il gruppo di R&I Genetics se posso avere la prossima vi ringraziamo molto se posso avere la prossima per effettivamente per averci dato ascolto in questa cosa qua grazie tantissimo bene la pregherei di restare siamo andati un po' oltre ma c'è spazio per una domanda breve e una risposta breve qualcuno vuole intervenire? anche da casa prego buongiorno mi chiamo Alessandra Murcia lavoro a Padova e ho una certa esperienza di analisi molecolari di analisi del genoma e in particolare nelle malattie del nervosviluppo e questo lavoro che è stato presentato è estremamente apprezzabile ed è estremamente apprezzabile il fatto che si pensi a non solamente alla strategia di analisi molecolare ma anche alla strategia di analisi bioinformatica perché quello che abbiamo davanti sono una serie dei risultati la cui interpretazione può dare delle informazioni assolutamente importantissime nonostante l'apparente non patogenicità di varianti che noi troviamo quindi io credo che sia importantissimo pensare ad andare al genoma al genome sequencing però credo che ci sia ancora molto da fare nell'interpretazione delle varianti che sono attualmente classificate come variant of unknown significance e che invece nascondono un'informatività molto importante cosa che abbiamo discusso e so che la dottoressa Leone è molto sensibile a questo credo sia molto importante dirlo se si usano dei cut off di primo livello diagnostico si perdono i dati che si hanno anche da un test di targeted sequencing sì quello che hai detto Alessandro è decisamente estremamente importante cioè molti dei dati negativi qua che noi li abbiamo considerati negativi in realtà hanno della possibilità di essere positivi li abbiamo messi negativi perché magari la variante è brutta e cattiva però non ci sono non ci sono dei dati in letteratura e non abbiamo effettivamente dei dati funzionali o delle conoscenze che siano estremamente legate al fenotipo che questo sia significativo clinicamente è chiaro che se aumentano queste conoscenze aumentano di colpo anche i dati effettivamente positivi la cosa importantissima e la cosa più difficile ma non po' cenato in fretta effettivamente è l'interpretazione dei dati implica di entrare molto dentro le singole patologie verificare i fenotipi e cercare anche di cambiare i geni che si guardano in funzione effettivamente del fenotipo clinico perché uno può avere ritardo dello sviluppo potrebbe avere ritardo ritardo mentale diciamo così più una microcefalia ci sono non sempre i geni li vediamo insieme che dobbiamo guardare sia il ritardo dello sviluppo e la microcefalia e talvolta quando cambiamo i fenotipi pur lavorando col stesso paziente ci esce fuori che effettivamente l'analisi è positiva ma questo è solo possibile se uno a priori fa un'analisi dall'esoma perché ha tutta tutta la disponibilità dei dati genetici almeno codificanti che ne escono fuori bene grazie c'è una piccola modifica adesso dell'agenda perché inviterei il professor Francesco Macchia che è il coordinatore dell'osservatorio Farmaci Orpani ed è un esperto di politica farmaceutica e sanitaria e ci parlerà dei costi dei farmaci orfani che è un argomento molto molto hoc no? sì assolutamente sì parlerò in realtà li inserirò in un contesto un po' più ampio cioè quello dei risultati dell'analisi del quinto rapporto che abbiamo pubblicato come osservatore Farmaci Orpani però parlerò anche di costi ovviamente sempre nell'ambito di un contesto integrato innanzitutto ringrazio lei per l'introduzione ringrazio il professor per il lungo per avermi invitato e per essere qui oggi una io ho delle slide hanno portato via il comando possiamo avere il comando delle slide grazie se posso cambiarlo io sono più felice se no non importa seconda slide grazie intanto osservatore Farmaci Orpani in due parole su osservatore Farmaci Orpani che è un think tank un centro studio un think tank permanente basato in Italia ovviamente dedicato interamente alla individuazione dello studio di policy e politica di governance per la sostenibilità delle malattie rare dei farmaci orpani è un'iniziativa che nasce nel 2016 in partnership con Crea Sanità centro studi uno dei principali centri studi di politica sanitaria in Italia e con il professor Spandonaro e l'osservatorio malattie rare che è una testata giornalistica che si occupa di comunicazione nel mondo delle malattie rare grazie obiettivo dell'osservatorio duplice dare e offrire dei dati delle riflessioni e supporto degli stakeholder del settore e individuare politiche di sostenibilità per il mondo delle malattie rare come lavora OSFO lavora in due modalità fondamentalmente che lavora attraverso la creazione di tavoli tecnici di discussione che recide a inizio anno un argomento monotematico lo si affronta attraverso una serie di tavoli di incontro pubblico privato e si pubblicano i risultati in un quaderno e in un position e poi diciamo il secondo ambito è quello della ricerca e quello che vi presento oggi quindi un'analisi del mondo delle farmaci orpani e delle malattie rare basata su domanda quindi epidemiologia offerta quindi tempi consumo e spesa dei farmaci costi dell'assistenza sanitaria governance del sistema e ricerca tutto il tema della ricerca e poi temi ad hoc come quest'anno era impossibile non parlare ovviamente della pandemia e ve lo farò vedere ogni anno analizziamo una regione quest'anno abbiamo analizzato dopo Campania Toscana e Lazio regione Lombardia in questo modo abbiamo coperto il 50% della popolazione nazionale quindi questo è un grande risultato per noi un altro risultato ve lo presenterò dopo è una partnership che abbiamo fatto col tavolo tecnico interregionale malattie rare della conferenza delle regioni perché ci ha permesso di produrre dei dati sull'assistenza domiciliare davvero interessante dicevamo partiamo dall'epidemiologia epidemiologia allora ok ci siamo la l'analisi del database regionale di regione Lombardia ci ha permesso di andare a vedere quella che è l'epidemiologia dei malattie rari nelle varie regioni quando parlo di epidemiologia parlo dei malati esenti quindi dei malati che hanno un'esenzione per malattie rare quindi questo chiaramente è un dato assolutamente sottostimato ma che ci permette per la prima volta però di disegnare un quadro abbastanza preciso la prevalenza dei malati esenti per malattie rare in Lombardia è 0,76% contro lo 0,65 la media abbastanza stabile di Campania Lazio e Toscana questo potrebbe essere ragionevolmente dovuto al fatto che c'è una grossa quantità di centri di eccellenza che quindi poi i malati si concentrano in regione Lombardia dato 2019 dato 2020 è un meno 0,02% rispetto al 2019 probabilmente lo vedremo poi dovuto alla mortalità Covid questo ci dà un'idea di circa 400.000 430.000 malati esenti pazienti esenti per malattie rare in Italia prevalentemente donne ma con la particolarità che gli uomini probabilmente sul tema farmaco consumano molto di più per quanto riguarda siamo andati ad analizzare quelle che sono le fasce di prevalenza per malattia e ovviamente c'è un frazionamento delle condizioni che cresce e dei casi che cresce esponenzialmente al diminuire della prevalenza questo è evidenziato lì nella tabella e che vuol dire vuol dire che più la malattia nel 13% del 13% dei malati rari si distribuisce su 312 patologie questo dà un'estrema frammentazione della patologia e una complessità organizzativa altissima proprio su quelle patologie e questo si riflette ovviamente e logicamente anche sul tema della spesa e ci avviciniamo al tema dei costi ovviamente l'onere pro capite questo l'abbiamo visto attraverso tutte le regioni più o meno c'è una variabilità abbastanza bassa effettivamente per i pazienti con malattia rara sta tra 4.700 euro e 6.200 euro e comprende farmaceutica diagnostica e tutte le varie visite connesse ovviamente e questo significa che per ogni paziente si spende circa come per un paziente cronico pari età con due patologie con due comorbidità quindi chiaramente una spesa più alta della spesa media questa è assolutamente attendibile ma non così alta rispetto al totale a livello nazionale questo si traduce in un costo tra i 2 miliardi e 2 miliardi e mezzo di impatto ovvero tra in circa il 2% della totale a spesa SSN quindi un impatto assolutamente ancora sostenibile che però ovviamente non tiene conto dell'enorme burden a carico dei caregiver che ovviamente in questo calcolo purtroppo rimangono inevitabilmente fuori parlavamo di patologie della rarità delle patologie della crescere della rarità delle patologie le patologie ultra rare che convenzionalmente si indicano come quelle che sono affette che colpiscono un paziente meno di un paziente sui 50 mila perdonatemi colpiscono il 16% della popolazione e sono quelle che però causano i maggiori costi i maggiori problematiche organizzative perché hanno una estrema altissima variabilità a livello inter e a livello intra regionale quando si parla di spesa farmaceutica di cosa si parla si parla prevalentemente di due voci che impattano tantissimo l'assistenza farmaceutica e i ricoveri e quindi se parliamo di assistenza farmaceutica parliamo ovviamente di farmaci orfani e quindi noi quando andiamo ad analizzare nel nostro nel nostro percorso di analisi i farmaci orfani partiamo da quello che è l'accesso dai tempi di accesso i tempi medi sono non me ne vorrà il dottor russo che parla che parla dopo di me sono costantemente oltre i cento giorni previsti dalla legge stiamo solo per il quindici per cento vengono rispettate quei cento giorni siamo in media al cinquanta per il cinquanta per cento dei farmaci sui duecento giorni quindi il doppio però la l'informazione è che da quando abbiamo cominciato il rapporto Osfor quindi da cinque anni adesso c'è costantemente sono tempi in costante miglioramento quindi assolutamente una cosa positiva da notare ovviamente che i farmaci innovativi quelli dotati di innovativi che a cui riconosciuta innovatività seguono un percorso più veloce quindi evidentemente si riconosce una una la validità della a proposito di farmaci di innovazione siamo andati a vedere se l'innovazione viene riconosciuta ai farmaci orfani più o meno rispetto agli altri ambiti l'evidenza lo vedete lì eh è che i farmaci orfani che la richiedono viene riconosciuta al settantadue per cento rispetto agli altri farmaci che la riconosco che che hanno un riconoscimento al sessantadue per cento e questo nonostante le i dati e le informazioni a a supporto delle la solidità dei dati clinici a supporto dei farmaci orfani sia evidentemente infiliore per i numeri per i pass track e quant'altro quindi evidentemente c'è ancora una volta un riconoscimento importante del dell'ammed need del che caratterizza i farmaci orfani quando parliamo di spesa questa è la spesa globale eh riferiamoci solo agli ultimi due anni perché tra il 2018 e il 2019 c'è stato un cambio nella classificazione AIFA di farmaci orfani che ha escluso tutta una categoria quindi riferimento non non è rilevante ma la spesa per farmaci orfani si attesta oggi intorno a 1,3 miliardi di eh euro e è una spesa che ha una riduzione dell'undici per cento rispetto all'anno precedente quindi questa è una riduzione reale cioè mentre la riduzione del 2018 2019 è fittizia non va presa in considerazione questa è senz'altro una riduzione reale eh spesso e volentieri quasi sempre quando si parla di farmaci orfani si parla del costo individuale molto molto alto allora quello che siamo andati a fare è cercare di andare a vedere quelli che sono i fatturati se andate a vedere volete vedete che c'è una concentrazione sulla parte sinistra eh e pochissime molecole che fanno evidentemente il il grosso della spesa ovvero si parla del 33% delle molecole che fattura meno di 5 milioni e solo il 4,4% che fattura più di 100 milioni quindi evidentemente già ci siamo detti che comunque il sistema orfano non è un sistema che impatta in maniera enorme però se vogliamo andare a prendere in considerazione probabilmente quel quel 4% è da prendere eh da 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 monitorare con particolare attenzione mentre per tutto il resto evidentemente non parliamo di un di di spese particolarmente significative non potevamo questo è il nostro rapporto e diciamo i dati che monitoriamo costantemente attraverso il nostro rapporto quest'anno non potevamo non parlare però di un tema fondamentale quello della pandemia e quindi siamo andati a fare un'analisi di quelli che sono le l'impatto della pandemia sui malati rari l'abbiamo fatta proprio partendo dal database di regione Lombardia quello che è emerso è un calo del 2,8% della prevalenza con le persone con malattie rari e una contrazione della spesa sanitaria del 6,9% quali sono le motivazioni? Probabilmente tre il mix delle tre individuale il mix delle tre con precisione non è molto difficile però eh sicuramente la mortalità che ha colpito i malati rari inevitabilmente in quanto persone fragili più degli altri la carenza di nuove diagnosi perché ricordiamoci che noi andiamo a possiamo leggere gli esenti e quindi non avendo una nuova diagnosi non possiamo avere un codice per esenzione e come vedono come dicono tutti i dati successivi che vedete nella slide le minori prestazioni ospedaliere allora siamo andati a fare conseguentemente un'altra analisi che ci interessava è quella che vi anticipavo abbiamo fatto attraverso la collaborazione con il tavolo il tavolo tecnico interregionale malattie rari della conferenza delle regioni siamo andati a vedere quelli che sono i dati di monitoraggio a livello nazionale sull'AVI grazie a proprio ai dati raccolti dal tavolo e dal totale si vede che il 3,4% dei malattie rari riceve assistenza domiciliare e se noi andiamo a vedere il confronto 2019 2020 vediamo un aumento di mille casi nella nell'assistenza domiciliare quindi cosa vuol dire vuol dire che nonostante il motivo un momento di crisi la grande difficoltà le regioni si sono attivate per garantire continuità assistenziale attraverso l'assistenza domiciliare quindi evidentemente c'è stato uno sforzo molto molto importante ora siccome questo eh quell'assistenza domiciliare il territoriale era era il centro del PNRR non potevamo non fare un'analisi per andare a vedere cosa c'è dentro il PNRR e capire se all'interno del PNRR c'era qualcosa di significativo rispetto ai malattie rari la realtà è che il PNRR lo sapete centonovantuno miliardi abbiamo deciso di avere il di prendere tutto quello che era disponibile venti miliardi sulle due sulle missioni sulla missione salute divise fra territoriale e digitalizzazione però in tutto il PNRR l'unico eh dato significativo sulle malattie rare l'unico riferimento chiaro ed esplicito alle malattie rare sono duecento milioni ovvero il quaranta per cento dell'investimento nel potenziamento della ricerca biometrica tutto il resto non non c'è non non è esplicitato anche se alcuni potenziali benefici possono venire dalla transizione digitale dal potenziamento ovviamente dell'assistenza domiciliare autosufficienza e dalla creazione dei cosiddetti ospedali di comunità allora per ehm cercare di non essere solo un un centro siccome il nostro ruolo non è quello di essere un centro di analisi ma è di essere un centro propositivo siamo andati a fare tutta una serie di proposte per l'applicazione del PNRR che possano andare nella direzione di adattarlo il PNRR ai piccoli numeri dei malattie rari e quindi alle loro necessità innanzitutto ovviamente non potevamo non parlare del potenziamento dell'ADI c'è stato un aumento dell'ADI in questo anno cerchiamo di mantenere questo trend in positivo ovviamente eh questo potrebbe essere integrato con eh l'housing sociale quindi con degli interventi che consentano di rimanere a casa al paziente attraverso una eh l'intervento sulle sull'edilizia sull'edilizia e privata e quella pubblica ovviamente e inoltre con una forte integrazione eh con quello che è il teleconsulto perché chiaramente il centro di riferimento lo sappiamo è sempre costantemente per il malato raro non raramente eh è vicino e quindi evidentemente il teleconsulto rappresenta un'opportunità straordinaria da potenziare attraverso gli investimenti possibili tutto questo può essere fatto però solo se eh si supera la logica silos e quindi la missione cinque quella sociale e la missione sei quella sanitaria si integrano tra di loro in un unico percorso eh il secondo ambito di investimento è quello del del fascicolo sanitario elettronico per il quale si immagina che ci sia un fascicolo sanitario elettronico sempre più individualizzato e un comprensivo che possa far rappresentare poi veramente un un a includere anche il piano terapeutico del paziente e quindi di fatto favorire quello che è il processo autorizzativo e quindi semplificare quella che è la 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 vita del paziente e delle famiglie il terzo aspetto su cui ci siamo concentrati è quello dei dati noi come avete visto ci basiamo sull'analisi dei dati dei database regionali il eh quindi siamo ben ben cosci della potenza di questi database quindi è importante che non si non si crei una nuova sovrastruttura con le disponibilità che abbiamo ma si vada a rendere comunicabili quelli che sono i database già esistenti e quindi una una integrazione dei database esistenti l'ultimo aspetto su cui mi concentro e col quale chiudo sono quelli sono i fondi individuati nel PNRR quelli per la ricerca per il quale a si devono pensare delle procedure semplificate perché altrimenti delle gare perché altrimenti non arriveremo mai per tempo al duemilaventicinque e b si deve pensare cosa che non è stata inclusa in alcun modo all'integrazione del pubblico e privato prevedere misure di integrazione pubblico e privato che da una parte aumentano la leva finanziaria fanno effetto sulla leva finanziaria e dall'altra garantiscono in qualche modo una maggiore efficacia degli investimenti grazie mille bene grazie abbiamo credo tempo per una o due domande per il dottor Macchi prego grazie mille io volevo discutere un attimo il discorso del 7% in meno di spesa che è stato diciamo interpretato come maggiore mortalità perché i pazienti sono fragili e anche come una riduzione di accesso ospedaliero ecco no io credo che sia dovuta proprio ad una sospensione che c'è stata delle terapie per parecchi pazienti in quanto abbiamo fatto degli studi anche a livello europeo il fatto di essere un paziente con malattia rara e essere inserito all'interno di centri di specializzazione ha diminuito fortemente il pericolo di avere mortalità per covid noi abbiamo analizzato 35.000 pazienti metabolici 35 soltanto hanno avuto il covid e tutti quanti nessuno è morto quindi invece c'è stata una riduzione degli accessi riduzione delle terapie e soprattutto noi abbiamo avuto la determina AIFA per la domicilazione di farmaci mentre molti altri paesi l'hanno proprio esclusa quindi diciamo io direi che e poi anche le vaccinazioni i pazienti fragili con malattia rara sono stati tra i primi ad essere vaccinati quindi io mi concentrerai molto in un futuro sul fatto di riuscire a avere continuità nella terapia e quindi cercare di dire ok non abbiamo una diminuzione di spesa perché effettivamente non abbiamo potuto erogare i farmaci quindi bisogna fare qualcosa sempre di più perché i pazienti anche a casa o dove siano continuino ad avere la cosa sulla mortalità lo lascerei abbastanza stare perché è un dato che può essere una ovvia però non è seguito da un dato reale insomma la ringrazio dell'osservazione mi fa piacere ovviamente che il dato che non sia quella io lo avevo presentato come un mix dei tre effetti minore di agnosi e minore utilizzo di risorse sanitarie in effetti poi tutti i dati specifici che c'erano nella stessa slide presentavano proprio una riduzione sia di accesso sia di hospital sia di utilizzo di farmaci quindi quello che dice lei probabilmente è corretto insomma sono felice che non ci sia stato questo impatto sulla mortalità grazie no esattamente volevamo anche una delle cose che volevamo spatare è quello cioè c'è un sicuramente costa il 4,4% supera 100 milioni di euro però la spesa complessiva si attesta su un miliardo e tre quindi ovviamente non è un impatto enorme e veramente la grandissima parte dei farmaci orfani non supera i 5 milioni quindi assolutamente questi sono dati che mirano proprio a spatare quel mito poi sono d'accordo che su quelli che sono i farmaci più alto costo ci deve essere da parte di IFA ma devo dire che già c'è un monitoraggio assoluto nelle modalità di utilizzo assolutamente la slide aveva quell'intento cioè quella ricerca e quella slide aveva quell'intento di essere costretti a ripensare quello che riteniamo un po' delle degli assunti che invece poi i dati ci costringono a rivedere grazie grazie ancora beh credo che allora in parte alcune risposte alcune riflessioni potrebbero venirci da chi in realtà presiede l'ufficio registri di monitoraggio AIFA e quindi chiederei a Pierluigi Russo appunto di raccontarci che cosa che cosa stiamo osservando appunto in termini di gestione all'accesso e al trattamento di farmaci grazie grazie molte per la presentazione grazie al professore per l'invito a questo interessante convegno mi scuso per il cambio di scaletta che era dovuto a un piccolo problema persona grazie per la presentazione no non è non ne faccio una questione personale dei cento giorni perché insomma è un termine che è stato definito più come un desiderio piuttosto che un termine realistico quindi continuerà probabilmente anche i grafici a non essere rispettato perché insomma quando ci stanno i desideri poi dopo per cui però diciamo partendo partendo dal punto da cui ha lasciato il dottor Marchia la discussione quindi una spesa di circa un miliardo e trecento milioni una spesa considerate che la spesa complessiva rimborsata dal servizio sanitario nazionale al netto di tutti quanti gli effetti economici a carico delle aziende farmaceutiche circa diciotto miliardi quindi complessiva quindi tra territoriale ed ospedaliera in effetti stiamo parlando di un impatto che è abbastanza marginale però allora perché c'è particolare attenzione attorno alla questione ovviamente dei farmaci orfani perché noi ci impressioniamo come quando andiamo al supermercato dal valore del prezzo che leggiamo letto sulla targhetta e quindi ovviamente questo elemento diventa un elemento di grande attenzione rispetto a chi ovviamente deve poi assumere delle decisioni è come se la variabile prezzo e la variabile fatturato siano degli aspetti che vengono valutati disgiuntamente scusate se vi faccio questa precisazione magari molti di voi sono dei clinici però insomma sono aspetti abbastanza comuni nei nostri percorsi di valutazione i registri di monitoraggio sono uno strumento posso mandare avanti da solo sì ah ok perfetto i registri di monitoraggio sono uno strumento che diciamo pone sicuramente l'Italia un po' all'avanguardia nel contesto nel contesto europeo perché vedete io si sente molto spesso magari un termine quello dei registri di monitoraggio che avrete anche già sentito ho cercato di mostrarvi la fotografia della piattaforma dei registri di monitoraggio che ovviamente è tutt'altro che una cosa semplice è tutt'altro che un database tanto per capirci in un database quale potrebbe essere quello di uno studio sperimentale ha una struttura molto complessa perché svolge compiti e funzioni e relazioni che sono molto molto ampie peraltro noi questa piattaforma la utilizziamo per diversi obiettivi alcuni dei quali anche stabiliti dal legislatore quindi non soltanto degli obiettivi che sono di natura conoscitiva a supporto delle commissioni ma anche obiettivi definiti dalla legge qual è il grande valore aggiunto rispetto ad altri contesti europei rispetto a questa piattaforma io ricevo frequentemente diciamo l'invito a conferenze in ambito europeo che sono interessati a capire come noi abbiamo sviluppato questo sistema in Italia perché ovviamente c'è l'intenzione tra virgolette il desiderio anche lì di svilupparlo anche in altri paesi europei l'aspetto sicuramente intrigante è il fatto di avere un'acquisizione informatizzata standardizzata di una serie di informazioni scusate il termine standardizzato e la cui standardizzazione i criteri riportati all'interno di questo sistema di acquisizione dati sono approvati e definiti dalla commissione tecnico-scientifica dell'AIFA in maniera univoca su tutto il territorio nazionale quindi abbiamo una copertura assolutamente censuaria per quale motivo è censuaria perché ovviamente questo è per certi aspetti un database che ha anche una natura amministrativa una natura amministrativa di controllo diciamo amministrativo e regolatorio anzi direi che questo è il principale obiettivo di questa struttura in quanto la piattaforma dei registri è dedicata è nata ed è dedicata essenzialmente alla gestione al monitoraggio dei farmaci ad alto costo farmaci innovativi c'è una disposizione di legge che obbliga l'AIFA quando autorizza un medicinale innovativo a prevedere l'attivazione di un registro di monitoraggio chiaramente i pallini che vedete lì sono di diversa dimensione perché chiaramente ci sono dei centri in alcune regioni che sono più attrattivi altre regioni lo sono di meno e quindi diciamo c'è un in questo senso una ricostruzione di quella che è la variabilità interregionale il percorso della piattaforma dei registri di monitoraggio è un percorso che comincia inizia da lontano quindi è un'esperienza che si è costruita nel tempo in maniera anche importante con diversi punti focali diciamo punti strategie sono nati nel 2005 e diciamo poi successivamente come vedete anche dai riferimenti nel 2015 nel 2012 scusate i registri entrano a far parte ufficialmente del sistema informativo nuovo sistema informativo sanitario nazionale nel 2015 nel 2017 ci sono ulteriori interventi normativi che ne hanno collocato e definito dal punto di vista regolatorio il ruolo ai fini della gestione dei per esempio dei medicinali innovativi il percorso dei registri di monitoraggio quale è stato e poi dopo verrò un pochino più in dettaglio per quanto riguarda le malattie rare la piattaforma dei registri è nata inizialmente come uno strumento di appropriatezza cioè fare in modo tale che in qualche modo i medici certificassero le condizioni diciamo l'indicazione nella quale il medicinale veniva utilizzato perché molto spesso e non a caso la maggior parte dei registri sono per patologie oncologiche molto spesso magari i farmaci vengono utilizzati in condizioni che non sono propriamente quelle autorizzate dall'autorità regolatorie sia a livello europeo sia a livello nazionale successivamente però con il passare del tempo diciamo l'attività di questa piattaforma ha subito un'evoluzione attualmente noi i dati che generiamo che raccogliamo attraverso la piattaforma dei registri per esempio lo utilizziamo per istruire delle procedure che di valutazione da parte della commissione tecnico-scientifica oppure di negoziazione dei farmaci da parte del comitato prezzi e rimborso e quindi diciamo un punto di rilievo devo dire in particolar modo per effetto anche degli ultimi interventi normativi è anche il ruolo della piattaforma dei registri come dicevo prima come strumento di controllo amministrativo regolatorio su questo aspetto qui vi devo segnalare che c'è una generale un pochino disattenzione da parte dei clinici diciamo mi sento di invitare ovviamente chi viene abilitato alla prescrizione su questa piattaforma a prestare grande attenzione perché ovviamente ci sono dei controlli amministrativi dietro quella che è l'attività di inserimento dei dati all'interno della piattaforma dei registri e non soltanto da parte di AIFA è un network come potete vedere enorme cioè raccoglie circa i medicinali di 68 aziende farmaceutiche attualmente diciamo 761 strutture sanitarie con i relativi direttori sanitari 28.000 medici 1884 farmacisti per quale motivo perché ovviamente il registro di monitoraggio monitora l'intero percorso di cura del paziente quindi dalla prescrizione l'eleggibilità quindi le prime due palline diciamo sia di elegibilità che sono i criteri di ammissione alla rimborsabilità del trattamento in Italia sia le prescrizioni sono gestite dai medici sono schede compilate dai medici abilitati la dispensazione compilata dal farmacista della struttura sanitaria e quindi le rivalutazioni che vengono fatte durante il percorso di cura sempre dai medici compreso ovviamente la compilazione della scheda di fine trattamento nel caso in cui venga interrotta la cura oppure ci sia prevista l'interruzione del trattamento questa breve sintesi però vi porta un pochino a quello che è il volume di attività in questo momento in Italia questa è la tabella che io ho scaricato ieri sera cambia ovviamente ad ogni CTS potete immaginare questo numero all'ultima CTS sostanzialmente abbiamo 183 registri in basso a destra vedete la tabella che noi pubblichiamo all'interno del rapporto OSMED per l'anno 2020 ma ovviamente la numerosità come vedete è già notevolmente cambiata rispetto alla data in cui abbiamo pubblicato il rapporto sono consultabili ognuno di questi registri e la loro struttura all'indirizzo web che trovate in questa in questa in questa slide e ovviamente qual è la tipologia di medicinali che confluisce all'interno della piattaforma dei registri vedete l'ottantadue per cento dei medicinali utilizzati in con autorizzazione condizionata da parte dell'EMA è soggetto in Italia al registro di monitoraggio considerate che ovviamente in questa tipologia di autorizzazione centralizzata EMA è una tipologia di autorizzazione che spesso riguarda medicinali diciamo orfani ma andrei ancora avanti quelli autorizzati in condizioni eccezionali direi che sono quasi probabilmente sicuramente tutti quanti medicinali per malattie rare od ultra rare in questo caso la percentuale scende al 46% che è comunque una percentuale importante questo per quale motivo però una percentuale più bassa perché molto spesso in questa tipologia a fronte di questo tipo di autorizzazione o il medicinale non viene ammesso alla rimborsabilità magari perché le evidenze sono ancora troppo basse oppure si tratta di medicinali che riguardano patologie talmente rare che sostanzialmente non avrebbe senso sviluppare un sistema di monitoraggio cioè se ovviamente la frequenza di quella malattia è tale da avere due casi ovviamente non so all'anno in un paese diventa un problema diamo un po' di numeri allora attualmente ci sono su 183 63 registri che riguardano patologie rare quindi il 34% attualmente in Italia dei medicinali soggetti a monitoraggio intensivo attraverso la piattaforma dei registri contiene farmaci per malattie rare questi 63 registri a questi 63 registri nell'ultimo anno ha corrisposto ad ognuno di questi 63 registri 14.751 trattamenti quindi c'erano presenti 14.751 persone che hanno ricevuto prescrizioni nell'ultimo anno per questi 63 registri pari allo 0,46% di tutti quanti i pazienti soggetti a monitoraggio ho fatto rapidamente due calcoli rispetto al numero che dava prima Francesco cioè dei 400.000 malati rari che ovviamente avendo il titolo di esenzione sono sicuramente quelli più gravi diciamo in questo caso la percentuale è circa il 3,6 il 4% quindi sono malati rari che probabilmente che assumono un trattamento che è all'interno della piattaforma dei registri di monitoraggio è chiaro che qui dentro ci sono i farmaci più avanzati non ci sono tutti quanti i farmaci per le malattie rare ma ci sono sicuramente quelli più avanzati quelli autorizzati a livello europeo e soprattutto quelli lì che in qualche modo sono probabilmente autorizzati anche da più breve tempo nel senso che c'è anche una quota di medicinali per il trattamento di malattie rare che sono stati soggetti a monitoraggio all'interno della piattaforma e che per esempio oggi hanno concluso il monitoraggio per esempio la prossima CTS noi dovremmo presentare l'istruttore di chiusura di un farmaco per la fibrosi polmonare etiopatica che probabilmente andrà verso la chiusura del trattamento quali sono le malattie però ora abbiate pazienza perché ovviamente qui si possono fare diverse considerazioni cioè io quei quattordicimila e settecentocinquantuno trattamenti li ho messi in ordine decrescente di quelle che sono le patologie a cui si riferiscono i sessantatré registri di farmaco quindi è chiaro che io potrei avere per esempio sul mieloma multiplo più di un registro perché ci potrebbe essere più di un farmaco che ovviamente è etichettato con quel tipo di etichetta chiaramente allora qui viene un punto interessante cioè bisogna un aspetto che riguarda le malattie rare e che ovviamente nell'immaginario collettivo le malattie rare si pensa alle malattie rare ma non si pensa a quelle che sono le condizioni rare che molto spesso riguardano indicazioni terapeutiche che di per sé non sarebbero neanche rare o meglio prese nel loro complesso non lo sono affatto ma che tuttavia diventano rare per effetto di sottogruppi di pazienti che hanno determinate caratteristiche genetiche determinati marcatori che ovviamente ne consentono l'attribuzione della rarità è chiaro che vedete che c'è una rappresentazione molto importante soprattutto nella parte alta della tabella delle malattie delle patologie oncoematologiche chiaramente la fibrosi cistica è quella che compare prima tra le patologie rare propriamente dette e poi a seguire un po' tutte quante le altre questo è un dato che diciamo va incontro a quello che diceva prima anche il dottor Macchia cioè qui io ho riportato su un grafico quant'è il numero dei pazienti trattati nell'ultimo anno in relazione alla durata del monitoraggio io tra questi 63 registri ho dei registri che sono partiti una settimana fa e registri che sono attivi da oltre 6 anni e vedete ci sta una nuvola di punti non c'è nessuna cioè se io andassi a fare questo esercizio per esempio mettendo insieme tutti quanti i registri che riguardano i farmaci impiegati nella cura dei tumori del polmone probabilmente non otterrei un pattern analogo qui ovviamente abbiamo registri di monitoraggio per patologie che hanno una bassissima prevalenza quindi con un numero di pazienti che si generano nel tempo molto basso e abbiamo diciamo così quindi registri magari attivi da un anno che all'interno contengono 5 pazienti e abbiamo patologie che pur essendo rare con un anno di monitoraggio hanno diciamo sono registrati al suo interno diverse centinaia di pazienti quindi questo grafico esprime un pochino a maggior ragione a sostegno di quanto era stato detto anche in precedenza di quella che è l'estrema eterogeneità delle patologie rare non soltanto dal punto di vista ovviamente della sua gestione e dei percorsi diagnostici delle malattie rare ma anche dal punto di vista evidentemente del monitoraggio passiamo un pochino agli aspetti di comunicazione di informazione cosa fa l'agenzia diciamo da questo punto di vista allora sicuramente avrete la possibilità tra le risorse online presenti nel sito istituzionale dell'agenzia di innanzitutto avere delle informazioni che vengono dai nostri report tecnico scientifici che sono sostanzialmente indirizzati ai farmaci innovativi attualmente questi report comprendono direi esclusivamente farmaci di terapie avanzate all'interno del quale di questi report trovate una serie di informazioni ma trovate anche una serie di aggiornamenti che vi mostrerò rispetto a questi medicinali abbiamo iniziato da qualche anno a questa parte a coinvolgere le società scientifiche per cercare di sviluppare dal punto di vista scientifico i dati raccolti all'interno della piattaforma dei registri cioè non utilizzarli esclusivamente all'interno di quello che è il processo decisionale amministrativo che c'è all'interno dell'agenzia italiana del farmaco ma diciamo valorizzarne il contenuto scientifico e per una visibilità a livello nazionale e internazionale che possa dar diciamo lustro anche ai nostri centri di eccellenza le nostre diciamo ai nostri clinici che in qualche modo hanno prodotto e alimentato i dati di questi registri e quindi qui io ho rappresentato alcuni diciamo pubblicazioni che sono state fatte nell'ultimo anno come potete vedere per diverse patologie per diverse patologie rare ma questi report che pubblichiamo report di HTA che come vedete riguardano l'elencazione che vedete là sotto sono praticamente su tutte quante malattie rare direi tutte quante terapie terapie avanzate vedete che a destra vedete la struttura di questo report e vedete che all'interno di questo report ci sono una serie di informazioni come le evidenze cliniche a supporto ma anche le evidenze che si sono consolidate dopo l'autorizzazione del medicinale le trovate all'interno di questi report così come gli aspetti economici di costo l'impatto in termini di costo efficacia nel nostro contesto assistenziale non ultimo per importanza come vedete anche gli esiti di monitoraggio attraverso i registri e qui vedete che le prime terapie CAR T che sono state autorizzate in Italia quindi di ESCARTA e CHIMRAIA vedete che abbiamo pubblicato in questi report i dati di sopravvivenza riportati in Italia di tutti quanti i pazienti per esempio trattati in questo caso con gli ESCARTA abbiamo inserito come vedete la curva di sopravvivenza e abbiamo verificato se la sopravvivenza presente in Italia più o meno corrispondeva con il dato di sopravvivenza registrato nel contesto sperimentale quindi nei dati che provenivano dalla sperimentazione vedete analogamente è accaduto nel caso del CHIMRAIA nell'indicazione linfoma diffusa a grandi cellule B e analogamente l'abbiamo fatto però con dati un pochino più deboli anche perché sono questa sì che è una malattia diciamo abbastanza un bel po' rara quindi leucemia linfobalattica acuta dove abbiamo anche qui dei dati che vedete sono perfettamente all'interno degli intervalli di confidenza dei dati raccolti all'interno della sperimentazione peraltro che non è che abbia numeri altissimi rispetto a quelli registrati all'interno della piattaforma questo è quello che dicevo prima quindi il meccanismo collaborativo che abbiamo messo in piedi per lo sviluppo scientifico dei dati di registri insieme con le società scientifiche che ovviamente riguarda diversi ambiti abbiamo in particolar modo affrontato nelle ultime pubblicazioni anche l'impatto della pandemia covid devo dire che ovviamente la contrazione dell'assistenza si è registrata un po' in tutti quanti gli ambiti quindi non è che diciamo il dato mostrato in precedenza dal dottor Macchia l'abbiamo registrato analogamente un po' in tutti quanti gli ambiti e non credo che ci sia una particolare difficoltà a crederlo pur senza dati nel complesso quali sono le prospettive future? Allora le prospettive future sono sicuramente quello lì di sviluppare ulteriormente e questo è un lavoro che abbiamo già cominciato e lo avete visto attraverso i dati pubblicati attraverso i report delle carti sviluppare la piattaforma dei registri per restituire dati anche di esito la sperimentazione clinica che autorizzativa di questi medicinali quasi sempre è una sperimentazione che viene da disegni sperimentali non certo randomizzato controllato in doppio cieco e quindi diciamo ha in sé degli elementi di debolezza nella qualificazione dell'efficacia o quantomeno di incompletezza nella valutazione dell'efficacia rispetto al quale la piattaforma dei registri rappresenta un'opportunità per poter verificare a posteriori ovviamente l'impatto di queste terapie attenzione però che ovviamente la sperimentazione autorizzativa è fatta per perseguire l'indicazione in Italia questi medicinali vengono autorizzati all'interno di limiti di rimborsabilità ben definiti quindi potrebbe essere un sottogruppo di pazienti rispetto a quelli diciamo autorizzati a livello europeo con questo concluso scusate non so se ho un po' sporato grazie 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 per questa interessante relazione mi è piaciuto soprattutto una delle prospettive quella di giocare questi dati con le società scientifiche perché è importante anche questo sistema di monitoraggio per valutare gli outcome se possibile con dati di real world sì assolutamente ormai abbiamo attivato delle collaborazioni direi con discreto numero di società scientifiche il fattore limitante devo ammetterlo è stato negli ultimi mesi la pandemia da covid per cui chiaramente i miei tecnici li ho dovuti diciamo orientare verso altri lidi grazie c'è qualche domanda come gioca la sua contrattazione economica con le industrie come gioca la contrattazione con le industrie nello stabilire i prezzi dei farmaci domandone va bene forse per questione di tempo ce la sentiamo dopo no no questa è una domanda che penso di aver sentito più o meno negli ultimi vent'anni quindi diciamo una domanda abbastanza abbastanza comune no però è ovviamente abbastanza intrigante e lo è sempre stato una domanda riconosco professore assolutamente intrigante intrigante perché chiaramente il prezzo si forma in una stanza di cui nessuno sa come si genera quel prezzo no o meglio certamente c'è qualcuno che lo sa come si genera quel prezzo è chiaro che il nostro compito che è quello di cercare di traguardare questa richiesta di prezzo con un prezzo che sia accettabile per ovviamente il nostro contesto è un'operazione che non è affatto semplice ma direi neanche un po' eh un aspetto importante che si è registrato che io ho osservato in particolar modo negli ultimi uno o due anni è che chiaramente siccome abbiamo qualificato i dati che l'azienda farmaceutica deve presentare all'agenzia italiana del farmaco integrandola anche con dati di analisi farmaco-economiche quindi di impatto anche in termini di costo-efficacia io ho notato che sorprendentemente eh ancorché ovviamente eh diciamo in genere per i farmaci per le malattie rare vengano prodotte delle analisi di impatto sul budget più che di analisi di costo-efficacia in realtà diverse negoziazioni sono state salvate il termine salvato direi che è appropriato proprio dal costo-efficacia perché eh è chiaro che eh come dire in alcuni casi eh cercate di capire noi abbiamo terapie che normalmente oncologiche possono possono arrivare a costare ottanta centomila euro per pazienti all'anno quando ovviamente ti confronti con terapie che iniziano a costare cinquecento seicento settecento un milione un milione e mezzo e due milioni di euro è chiaro che diventa diventa complicato traguardare diciamo così se uno analizza settorialmente il prezzo il valore del prezzo è difficile traguardarlo poi dopo con quello con tutta una serie di altri fattori c'è una visione un pochino più ampia in queste circostanze bene grazie allora mi pare che dopo aver sentito declinare le voci di spesa per le malattie rare dopo aver sentito parlare dell'importanza dei registri nel monitoraggio dei trattamenti la discussione si è mantenuta molto appassionata e ha interessato sempre molto l'attendance che si mantiene devo dire elevata sono settantatré settantacinque i colleghi collegati su zoom e restano intorno ai quattrocentocinquanta quelli sui social quindi adesso torniamo sul costo dei farmaci orfani sentendo il punto di vista di un professore ordinario di economia presso l'università di Padova il professor Rocco Lorenzo e quindi un altro punto di vista su questo aspetto che credo abbia interessato molto fino adesso prego grazie buongiorno a tutti non si arrivano alle slide grazie per l'opportunità bene in realtà un altro punto di vista fino a un certo punto nel senso che molte delle cose che abbiamo già sentito oggi le ritroverete anche nelle mie slide e anche nei concetti di cui io parlerò dunque per fortuna in realtà molte delle cose sono state appunto già dette quindi in questo modo io posso andare avanti un po' più velocemente e chiaramente non è il caso di parlare a voi di cosa sono le malattie rare riprendo appunto i numeri che hanno stati presentati prima dal rapporto Osport circa il costo per paziente anno affetto da malattie rare vedete nelle tre regioni che appunto era stato menzionato da Dormacchia andiamo dai 4.000 ai 6.000 circa euro anno per paziente di questi 4.000 a 6.000 un 60% sono spese farmaceutiche il resto è spesa per assistenza per diagnostica per questo per quello e in qualche modo contraddire quanto dicevamo prima nel senso che effettivamente le malattie rare poi l'assistenza delle malattie rare è più costosa rispetto all'assistenza di altre patologie io lì ho messo alcuni numeri circa il costo medio anno per paziente associato ad altre patologie vedete per esempio il diabete di tipo 2 ha un costo medio annuo per paziente affetto di diabete di tipo 2 pari a 1.200 euro quindi siamo nell'ordine di un quarto quindi in realtà è vero che le malattie rare hanno un costo per il sistema nazionale il sistema sanitario nazionale è più importante è un numero di volte più importante rispetto ad altre patologie questo è vero tutto sommato è anche vero che ancora la spesa per farmaci orfani quindi fondamentalmente per la componente farmaceutica legata alle malattie rare rappresenta una porzione abbastanza piccola della spesa complessiva nazionale farmaceutica e siamo ancora sul 6% e questo si lega molto bene con i discorsi che facevamo prima cioè effettivamente il prezzo di un trattamento quindi il prezzo unitario in trattamento contro malattie rare può essere elevato ma il costo complessivo del trattamento per l'insieme dei pazienti affetti da una certa patologia e quindi dall'altra parte il fatturato per l'impresa non è particolarmente elevato né la spesa per il sistema sanitario è particolarmente elevato però io vorrei sottolineare la questione che è vero il prezzo di un trattamento unitario per malattie rare è più elevato rispetto ad altri trattamenti alla media degli altri trattamenti e credo che abbia senso chiedersi perché effettivamente questo accade e alcune idee erano già uscite in qualche modo tra le righe sono già uscite negli interventi precedenti allora intanto ci sono ragioni tecnologiche in qualche modo la ricerca sulle malattie rare è più costosa perché le malattie rare sono più complesse perché fare i trials clinici quando i pazienti sono sparsi geograficamente in maniera molto molto ampia diventa più costoso quindi c'è una componente di prezzo di costo di costo di sviluppo del trattamento che in realtà è più elevato e poi la seconda caratteristica che è connaturata proprio la malattia rara è il fatto che tu azienda puoi spalmare il costo di ricerca e sviluppo su una platea più piccola di beneficiare e quindi necessariamente la componente di costo che ogni singolo trattamento deve andare a spesare sarà più elevata e da lì non si scappa queste sono diciamo ragioni tecnologiche e poi ci sono le ragioni diciamo economiche più prettamente economiche allora intanto proprio per il fatto che il fatturato complessivo legato a un trattamento è abbastanza piccolo non è ovvio che ci siano imprese e aziende farmaceutiche interessate a fare ricerca e sviluppo in quei settori lì e quindi c'è bisogno di un incentivo da parte del settore pubblico tutta la legislazione sui farmaci orfani in realtà punta esattamente a creare le condizioni tali per cui le aziende private siano incentivate a sviluppare farmaci orfani perché altrimenti sarebbe nella condizione peggiore possibile in cui il farmaco non esiste la condizione peggiore possibile non è quella in cui il farmaco costa tanto la condizione peggiore possibile è quella in cui il farmaco non esiste proprio e quindi c'è un interesse dal lato del settore pubblico dal lato del regolatore pubblico del pianificatore pubblico come dicono gli economisti a in qualche modo incentivare il mondo privato affinché e come si fa ad incentivare il mondo privato affinché beh in qualche modo si danno contributi per esempio direttamente sulla ricerca sui costi di ricerca oppure si offrono dei crediti fiscali per ridurre per di fatto in pratica ex post rimborsare un po' dei costi della ricerca oppure si aumenta la protezione di mercato per i farmaci orfani per esempio appunto la protezione è più lunga per i farmaci orfani di quanto sia la protezione normale per gli altri farmaci questo significa un periodo di protezione dalla concorrenza più elevato e quindi di fatto margini più elevati per le imprese tutto questo serve a indurre le imprese a entrare nel mercato bene questa è una caratteristica economica un'altra dimensione importante che fa sempre parte diciamo della dimensione economica se volete è il problema della negoziazione di cui si accennava proprio poco fa con lo speaker il dottor Russo bene quando noi definiamo il prezzo di un farmaco in realtà il prezzo di un farmaco è l'esito di una negoziazione tra il caso italiano AIFA e l'azienda e in generale tra il regolatore nazionale e l'azienda ed è insomma una negoziazione che è una vera negoziazione cioè non è l'esito meccanico dell'applicazione di un protocollo o di un elenco di un elenco puntato innumerato di cose da fare cioè è una negoziazione perché le condizioni soprattutto legate al ai farmaci ordini sono estremamente particolari ci sono alcune linee guida c'è la costa efficace si diceva prima c'è il criterio dell'equità su cui torno tra breve ci sono alcuni fare diciamo però in fondo lì è un tiro alla fune in questa sala dei bottoni in questa stanza chiusa è un tiro alla fune tra il regolatore e l'azienda che dipende dal potere contrattuale di regolatore e azienda e nel caso dei farmaci orfani quasi per costruzione il potere contrattuale è dal lato dell'azienda perché non hai alternative perché devi incentivare l'azienda perché da un'altra parte il regolatore dice ma tutto sommato spendo poco alla fine posso concedere un prezzo elevato sul trattamento unitario perché complessivamente spendo poco abbiamo visto questa cosa ripetuta e in più c'è dietro tutto il mondo dell'associazionismo che spinge nella direzione di offrire farmaceutiche di offrire appunto una rimborsabilità quindi siamo nella condizione in cui il regolatore in qualche modo è prigioniero e catti del regolato cioè dell'azienda farmaceutica e quindi normalmente questa è la situazione ideale per cui poi il prezzo e quindi il margine sul singolo unità di trattamento tende ad essere più legato bene tutte queste sono insomma considerazioni che in qualche modo sono uscite fatemi spendere due parole in più su quali sono appunto i criteri che il regolatore dovrebbe tenere a mente quando quando negozia no? o non soltamente di fatto applica beh questi criteri sono appunto il primo criterio il criterio della costa efficacia allora fondamentalmente noi dobbiamo chiederci ma esiste alla fine un livello di prezzo che dipende dai maggiori costi per le aziende dal fatto che l'azienda ha potere contrattuale eccetera eccetera oltre il quale io regolatore dal punto di vista di fatto etico questo è un criterio etico in fondo non posso andare perché in qualche modo c'è un costo opportunità nelle risorse pubbliche che io eventualmente poi utilizzerò per il farmaco che sto che sto considerando perché se non finanziassi questo farmaco potrei fare altri interventi in sanità e anche questi interventi hanno un valore quindi c'è quello che si chiama costo opportunità non è gratis dal punto di vista sociale finanziare la rimborsabilità di un farmacolo bene e allora fondamentalmente il criterio di costo efficace dice ok tu rimborsi fin tanto che i benefici sono superiori ai costi allora cosa sono i benefici i benefici è il valore della vita aggiuntiva che guadagni grazie al trattamento cioè il valore dei cuoli i cuoli sono queste unità di misura che in qualche modo dicono valore del cuolo lì anzi è quanto vale per la collettività un anno di vita in più in buona salute allora semplicemente andiamo a comparare il prezzo del trattamento con il valore dei cuoli guadagnati grazie al trattamento e diciamo se l'intervento è costo efficace quando i benefici superano i costi oppure non è costo efficace nel caso costo bene allora in moltissimi casi in realtà non moltissimi però in diversi casi ed è esperienza in qualche modo inglese americana poi nelle slide in fondo c'erano alcuni esempi il regolatore ha detto no non c'è la costa efficace nel senso il prezzo del trattamento di un milione e mezzo due milioni di euro non giustifica il beneficio in termini di cuoli e quindi noi non rimborsiamo questo 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 fanno e quindi ci sono delle situazioni in cui effettivamente c'è un limite oltre al quale di fatto non si va ma questo limite dipende dal valore del cuoli e il valore del cuoli sono circa 50.000 euro per anno in buona salute cuoli vuol dire anno di vita in buona salute vale circa 50.000 euro e beh e qua ci sono già due considerazioni intanto com'è determinato questo valore di 50.000 euro perché se anziché 50.000 fossero 70.000 le decisioni di costo efficace cambiano e non è ovvio francamente cioè c'è una letteratura gigantesca sulla determinazione del valore del cuore ok ma tutti questi studi in qualche modo si basano su alcune assunzioni in funzione di come voi chiedete agli individui quanto loro sono disposti a pagare perché da lì viene fuori il valore del cuore dalla willingness to pay avete risposte diverse e quindi fondamentalmente non è ovvio alla fine se il 50.000 euro è il valore vero di un anno di vita in buona salute e potrebbe anche essere che se io facessi queste domande in un modo diverso il 50.000 diventano 100.000 e infatti tipicamente le agenzie usano un range di valori di cuori non si limitano a usare il 50.000 fanno un po' di sensitività variando anche di parecchio dal vero e questa è la prima considerazione quindi secondo me qua ci servirebbe anche nel caso delle malattie rare in particolare un approfondimento su quanto è un cuore su quanto vale un cuore la seconda considerazione si lega al secondo criterio che è il criterio dell'equità che dice beh insomma attenzione certo costa efficacia ma nel caso delle malattie rare in particolare il soggetto il paziente ha avuto due sfortune quella di essere di essere ammalato di aver preso una malattia rara ma anche quella di aver preso una malattia in quale non c'è il trattamento e quindi non sarebbe equo dal punto di vista sociale che questo tizio sfortunato sia lasciato per conto suo e quindi in questo senso interviene il criterio dell'equità allora il criterio dell'equità interviene e interviene in maniera anche piuttosto pesante per esempio per esempio nel caso inglese nel caso inglese il nice sarebbe equivalente in sostanza del nostro alfa dice ma tipicamente il il valore di un cuoli normale nell'analisi normale di costa efficacia sono 30.000 sterline però se teniamo conto del del criterio di equità e quindi in quanto modo della sfortuna capitata al tizio dobbiamo applicare un modifier e questo modifier è addirittura 10 tant'è che nelle valutazioni di costo efficacia quando trattiamo di farmacia orfani il valore di un cuoli è non 30.000 ma 300.000 sterline e quindi è molto chiaro che nel caso di farmacia orfani tendiamo a dare una risposta sì alla domanda di trattamento e costo efficace più spesso rispetto a quanto la daremo negli altri casi proprio perché interviene questo secondo criterio etico è un criterio di equità bene ho concluso fondamentalmente insomma il messaggio di questo intervento è ci sono delle ragioni strutturali tecnologiche ed economiche per cui il prezzo del trattamento è elevato serve pensare in termini etici per decidere in qualche modo se questi trattamenti devono essere resi rimborsabili o meno e poi un'ultima nota è la seguente in realtà le malattie rare sono un po' possiamo pensarle come una palestra per la medicina del futuro cioè la medicina personalizzata in cui tutti i trattamenti saranno in qualche modo ottimali per una platea relativamente piccola e quindi forse dovremmo imparare dall'esperienza delle malattie rare o sfruttare l'occasione che ci danno le malattie rare per immaginare delle strategie di negoziazione tra regolatore e impresa che non rendono il regolatore così dipendente dall'impresa come adesso nel caso delle malattie rare quindi cogliamo l'occasione delle malattie rare grazie abbiamo il tempo per una breve domanda seguita da una breve risposta prego devo fare una piccola che altro precisazione te lo aspettavamo no ma la ringrazio professore perché chiaramente è importante che determinati concetti che non sono per nulla semplici da acquisire siano opportunamente divulgate in un contesto dove magari non c'è un background economico e quindi determinate cose non sono facilmente intuibili per cui c'è il rischio che il prezzo come dicevo nella mia presentazione venga gestito in maniera non appropriata no la mia precisazione è in relazione a quello che diceva rispetto a NICE ora è chiaro no anche perché non vorrei che trovarmi poi in una negoziazione che mi dicono che per gli orfani ci vuole una soglia di 300 mila euro per cuoli perché ovviamente la negoziazione finisce male no quello che voglio dire è che chiaramente in UK c'è l'applicazione di un criterio di questo tipo perché loro lo utilizzano per fissare la rimborsabilità noi ovviamente non abbiamo questo tipo noi lo utilizziamo più per negoziare il prezzo più che per definire la rimborsabilità la rimborsabilità viene definita dalla commissione tecnico-scientifica e poi dopo sul prezzo frequentemente utilizziamo degli scenari che sono basati sull'ISER diciamo qual è il livello di costo-efficacia che potrebbe essere accettabile in Italia beh si sta incominciando a formare cioè se ovviamente si prendono i report che mostravo prima tecnico-scientifici dentro cui ci sta l'ISER di una serie di terapie avanzate facendo insomma un medione c'è il rischio che ovviamente si possa vedere non tanto quella che è la disponibilità a pagare scusate se entro nel tecnicismo diciamo della persona in Italia per un anno di vita guadagnata ma certamente quello che è il livello di costo-opportunità dell'agenzia nel momento in cui negozia con le aziende farmaceutiche quindi questo è già potrà essere attendibile sul piano dell'analisi sociale e anche etica ovviamente rispetto alla percezione della popolazione questo non lo sappiamo però diciamo è sicuramente un indicatore in questo senso che ci aiuta non so se questa piccola precisazione può essere condivisa anche dal professore grazie è assolutamente condivisa però un conto è il principio un conto è il criterio diciamo in astratto come deve essere applicato e un conto poi è come dire come nella realtà viene declinata l'applicazione del credetto e mi sembra che questo sia un caso di declinazione del criterio che è quello che si fa e che forse non c'è alternativa tra l'altro non chiedo che nessun paese diciamo della cosiddetta Europa adesso si augura che i criteri NICE vengano implementati perché sul tema dell'equità e del NICE si potrebbero scrivere qualche interessante lavoro ma insomma è convitato di Pietro nel senso che poi adesso abbiamo quello che vi tiene chiusi in cattività come si diceva in queste estenuanti negoziazioni quindi abbiamo qui il dottor Filippo Giordano allora buon pomeriggio a tutti un sentito ringrazio dal professor Perilongo soprattutto perché mi ha esentato da una presentazione sul costo dei farmaci quindi sono ben contento invece di occuparmi di responsabilità sociale ed impresa e io mi occupo Innovartist da più di tre anni di un'unità diciamo che si che ha la responsabilità di sviluppare commercializzare terapie geniche nell'ambito di malattie neuro diciamo neuromuscolari appunto genetiche il concetto di responsabilità sociale ed impresa è molto cambiato nel corso degli ultimi anni proverò a fare diciamo una sintesi ovviamente per non dediarvi perché non sono un esperto ma soprattutto dall'università di Harvard sono venute fuori delle teorie che sono state poi accolte diciamo dalle aziende per cui fondamentalmente il ruolo delle aziende non è solo quello di massimizzare il profitto ma di cercare di farlo creando e generando dei benefici all'interno della società e chiaramente della comunità a cui appartiene ovviamente lavorando in Novartis voglio darvi due numeri ma non per farvi diciamo la lista della spesa ma perché chiaramente per un'azienda farmaceutica forse è un po' più semplice parlare di responsabilità sociale di imprese in quanto il core business la mission di un'azienda è proprio quella di rispondere a un'esigenza primaria che è quella della salute però vediamo due numeri quindi l'impatto per esempio di Novartis quindi solo come esempio al di là molto al di là del fatturato e in termini di minori costi per il servizio sanitario nazionale di maggiore produttività e di maggior numero di cuoli ovviamente dovuto agli investimenti in ricerca produzione stabilimenti di produzione altri tipi di investimenti vedete si può misurare in circa 6,4 milioni di 6.434 milioni di euro come contributo del PIL 11,7 milioni di pazienti raggiunti e per tornare al discorso dei cuoli più di 173.400 cuoli guadagnati in un anno anche Novartis ha abbracciato questa nuova visione di responsabilità sociale di impresa quindi ha abbandonato il classico modello di corporate social responsibility che aveva una visione più a breve tempo quindi il finanziamento di attività filantropiche soprattutto tese alla reputation ma ha cercato di inglobare dal principio all'interno della propria strategia dei valori che potessero portare alla creazione di valore condiviso con la società con un impatto appunto a lungo termine quando si parla di valori e di obiettivi ovviamente questi obiettivi devono essere misurabili quindi obiettivi in termini di numero di terapie innovative di processi e di servizi per i cittadini ovviamente tutto ciò cercando quanto più è possibile di coinvolgere tutti gli attori quindi i pazienti l'associazione dei pazienti le istituzioni e un concreto cambio importante organizzativo che abbiamo avuto quest'anno in Novartis riguarda una nuova governance quindi dalla struttura diciamo della funzione di public affairs siamo passati dal public affairs and sustainability quindi con delle figure sul territorio che sono in grado saranno in grado di dialogare proprio con le regioni quindi andiamo sempre più in questa direzione cambiamento diciamo concreto non solo a livello nazionale ma anche a livello globale perché Novartis è stata la prima azienda pharma a lanciare nel 2020 nel 2021 sustainability bond con l'obiettivo di aumentare del 200% l'accesso a terapie innovative e proprio su queste terapie innovative che voglio legarmi per raccontarvi ma non a titolo diciamo di modello di ricetta però volevo condividere quella che è stata l'esperienza nel mondo diciamo delle terapie delle malattie rare con una terapia fortemente innovativa e soprattutto nel caso dell'asma di cui mi sono occupato negli ultimi tre anni di cui molti di voi sicuramente avranno sentito parlare e diciamo si è trattato in termini proprio di responsabilità sociale di impresa di una sfida importante principalmente per due motivi la prima perché si è trattato di una terapia fortemente innovativa con caratteristiche ben precise che creava anche che crea una sincronia tra l'effetto i benefici a lungo termine il momento della somministrazione e quindi il pagamento quindi questo intermedio di accesso era comunque ed è comunque una sfida importante e in una malattia rara come l'asma che aveva un elevato niente terapeutico perché prima dell'avvento delle terapie chiaramente c'era una mortalità molto elevata se non sbaglio nella forma più grave l'asma di tipo 1 c'era nei primi due anni una mortalità di circa il 90% quindi due punti molto molto importanti come ci siamo comportati abbiamo fatto i compiti in termini di responsabilità sociale di impresa allora abbiamo innanzitutto coerentemente con quello che vi ho mostrato prima cercato di adottare diciamo dei meccanismi per consentire a questa terapia un accesso rapido e soprattutto sostenibile quindi innanzitutto un programma di early access quindi di uso compassionevole a livello globale quindi un così definito MAP program che è riuscito a far sì che centinaia di bambini sono stati trattati in tutto il mondo soprattutto nei paesi del terzo mondo quindi penso all'Africa paesi del golf diciamo paesi arabi e anche in Sud America ora non so se c'è ancora il dottor Russo qui in aula ma siamo riusciti grazie alla grande collaborazione con AIFA a trovare un meccanismo di early access quindi per gli addetti ai lavori di 648 che limitasse diciamo un sistema un po' alla francese nulla a fare ovviamente con il presidenzialismo ma un sistema che è riuscito probabilmente a limitare l'impatto sui costi del servizio sanitario nazionale ma cosa più importante un meccanismo di rimborso legato al raggiungimento di tappe motori e parametri clinici ben definiti nel corso degli anni quindi questo è stato un elemento fortemente innovativo proprio di condivisione del rischio da parte dell'azienda con l'agenzia diciamo del farm o con le istituzioni per quanto riguarda un altro punto molto importante la comunicazione anche qui la tematica della responsabilità di impresa è stata molto importante perché ci siamo resi conto e la storia dei vaccini ce lo sta insegnando quanto sia importante anche l'opera delle aziende che purtroppo o per fortuna giustamente non possono raggiungere direttamente i pazienti ma è importante che le aziende si impegnino ancora di più nella divulgazione diciamo che cosa sono queste famose TMP terapie avanzate questo è molto importante perché poi va da sé questo è molto collegato con il valore il valore diciamo di queste terapie all'interno della società e soprattutto nel mondo dell'asma penso che tutti quanti voi abbiate sentito parlare di stamina è stato molto importante da parte nostra cercare spero che ci siamo riusciti di avere un atteggiamento molto responsabile proprio nella gestione delle aspettative è chiaro che la terapia genica per definizione evoca nell'immaginario diciamo il concetto di cura è stata ed è una tremenda innovazione per tutti i bambini per tutti i pazienti però è chiaro che non per tutti è una cura quindi è stato importante da parte nostra aver cercato spero di esserci riusciti e che ci riusciremo sempre ad avere un atteggiamento in modo tale da gestire appunto queste aspettative della parte delle famiglie e magari di lasciar parlare l'associazione dei pazienti in più se riesco ad andare avanti come vi dicevo prima anche noi abbiamo pensato ad attività diciamo strategiche ascoltando e venendo in conto sin dal principio alle necessità dei pazienti quindi ad esempio qui un progetto New Bors Ma che non va assolutamente sui pazienti trattati con la terapia ma è diretto a tutte le famiglie che ricevono la prima diagnosi un momento quindi veramente molto doloroso tremendo quindi quello che noi abbiamo pensato assieme all'associazione è di mettere su un progetto di assistenza e un progetto di supporto psicologico proprio per queste famiglie che ricevono la notizia della diagnosi altro punto fondamentale l'attivazione il supporto nell'attivazione di progetti pilota a livello regionale per cercare di avere questa famosa estensione dello screening di Natale anche per la SMA ci sono progetti pilota che sono stati attivati anche da un'altra azienda in Lazio e Toscana noi abbiamo un progetto pilota che è da poco partito in Liguria a breve partì l'anno il Piemonte e la Campania devo dirvi che a dicembre a fine dicembre aver avuto la notizia che un bambino in Liguria è stato scrinato e ha ricevuto una terapia qualsiasi delle tre oggi esistenti nei primi venti giorni di vita sinceramente ci ha emozionato e dà il senso a quello che è il nostro lavoro voglio chiudere dicendo che fondamentalmente nel futuro quello che noi vediamo in termini di sfide molto importante è sicuramente il versante dell'accesso quindi insieme a tutta la filiera quindi aziende istituzioni comunità scientifica associazioni dei pazienti bisogna davvero cercare di trovare dei sistemi per rendere sostenibili queste terapie ed in più un ultimo punto qui tengo molto non solo come professionista ma come persona il cercare di dare voce il compito dell'azienda può essere anche quello di cercare di dare voce al mondo delle malattie rare prima ha parlato Francesco Macchi al direttore dell'osservatorio nei loro eventi ci chiedono sempre cosa fate per i pazienti ecco quello che mi piacerebbe fare come azienda è raccontare quello che fanno i pazienti per noi cioè quello che noi abbiamo imparato da queste storie io ho visto in tre anni l'associazione e persone dell'associazione lottare per una terapia che non avrebbero mai avuto quindi questo è quello che noi ci sentiamo di fare anche come azienda grazie grazie a tu Giordano anche per il tuo Giordano abbiamo il tempo per una un botta e risposta se lo avete non soppresso ma per un breve commento però va dato l'altro nel mondo parallelo dei tumori rari di essere stato di essere siamo fatte un'importante iniziativa di molti stakeholder che coinvolgono le società scientifiche l'associazione dei pazienti in primo luogo ma anche industria e devo dire che su questo avete dato prova di sensibilità e di vicinanza al mondo di chi in qualche modo ha una sfortuna in più grazie mille prego per alcuni aspetti no l'attività private è stata vista da noi dipendenti del sistema pubblico di vissuti nel sistema sanitario nazionale come questi fanno i profitti e basta invece credo che proprio c'è una mentalità che deve cambiare nel senso voi siete un'attività privata siete voi intendo il mondo privato adesso e rispondete a certe logiche di mercato come giusto che sia noi rispondiamo a queste certe logiche di mercato ma io credo che ci sia margine per un rapporto che sta maturando grazie anche all'intervento del mondo del sociale delle famiglie che stanno temperando questo mostrando sistemi e soprattutto mettendo a fattor comune risorse che in parte voi avete e questo intendo anche quei programmi che state avendo di supporto alle famiglie mi riferisco al programma che avete per la sma che le aiutate a venire nei centri di riferimento e quant'altro insomma questo è un bargine di dialogo che ha tutta la ragionevolezza di essere ma anche tutta l'eticità di essere ecco questo voglio dire superando blocchi sentimentali che forse non hanno più ragione ad essere in una logica di rapporto pubblico privato che non può e che deve continuare a crescere e a trovare le sue formule di espressione grazie innanzitutto poi sono d'accordo perché effettivamente il tema della responsabilità sociale delle imprese poi di tutti noi perché le imprese ovviamente non sono entità astratte è molto importante e noi che lavoriamo nel mondo delle martierare dobbiamo essere capaci come aziende di gestire quando mi chiedono cosa significa lavorare nel mondo delle martierare significa essere vicini ma fisicamente nella prossimità ai pazienti devi essere in grado di saperla gestire perché molte aziende ne hanno paura perché siamo un mondo iper regolamentato quindi questo aspetto qui sono completamente d'accordo se posso intervenire proprio cinque secondi in Italia abbiamo un grosso problema che è quello di fare poca ricerca diciamo proprio a livello di trials clinici e soprattutto a livello di fase 1 cioè noi abbiamo un grande obiettivo per il 2030 che è quello di sviluppare circa mille terapie per mille malattie e l'Italia però viene vista come un paese nel quale vuoi per i comitati etici vuoi per le difficoltà di trovare pazienti per arruolare ed effettuare trials clinici spesso si arriva sempre più tardi quindi bisognerebbe che in sessioni come queste si prendesse anche un impegno di lavorare proprio a livello nazionale visto che siamo un paese leader nelle malattie rare per sviluppare anche questo tipo di programmi perché è bello questo tipo di risultato ma è bello vedere che ci sono start up che vengono diciamo create qua in Italia e non sono necessariamente da emigrare fuori ma il tema della prossima sessione quindi direi che parliamo di tempo chiudiamo questa e quindi chiediamo la professione da professione di venire sì vediamo Francesca e la salutiamo ciao Francesca come saluto tutti i presenti oggi in aula d'accordo con Fabrizio io farò una brevissima introduzione e poi invece ci divideremo le domande brevissima introduzione nella quale vorrei partire da cosa sono le malattie rare quale significato profondo hanno io credo che le malattie rare sono la vera sfida della medicina moderna se noi crediamo che l'articolo 32 della costituzione che la salute è un diritto fondamentale quindi di tutti la difficoltà è garantirlo a chi ha la sfortuna nella sfortuna di avere una malattia che ha meno pazienti che ha minor interesse per le aziende di profitto e quindi per la quale è ancora più difficile garantire lo sviluppo di una terapia moderna e quindi il primo valore credo è il primo elemento che dobbiamo considerare è quanto questo sia il vero banco di prova del nostro sistema sanitario di cui siamo molto orgogliosi nel sistema sanitario universale il secondo elemento che è in parte fido di questa osservazione è che se sono malattie rare e ognuna ha la propria patogenesi allora il percorso dalla ricerca scientifica alla terapia è un percorso diviso in molti rivoli diviso in cui lo studio si moltiplica per ognuna delle malattie diverse molto spesso all'interno della stessa malattia e quindi è necessario che quella strada from bench to bed sia costruita sia costruita io sono felice che subito dopo di me parli Francesca Pasinelli perché questo deve essere il frutto di un obiettivo strategico e c'è chi questo l'ha pensato e ha permesso al paese di svilupparlo e questa è la fondazione Teleton sulle malattie rare costruire quel percorso che dal difetto molecolare poi abbiamo capito tutti i difetti molecolari poi la patogenese dalla patogenese e la terapia mirata quindi io credo che le malattie rare sono un elemento strutturale importante della nostra sanità in cui è chiaro l'importanza del trasferimento della ricerca scientifica dove siamo adesso e quindi quali sono le sfide che Next Generation Europe e l'insieme degli attori deve affrontare il primo se volete è il problema del successo oggi nella comprensione della patogenesi forse abbiamo capito tantissimo e vogliamo trasferire molta conoscenza in tutte le terapie e quindi pensiamo alla terapia genica la terapia genica l'abbiamo vista ne abbiamo visto questi successi ex vivo replacement therapy quindi inserisco un gene che fa esprimere qualcosa che manca e poi lo rimetto in in situ è chiaro un esempio di successo che ci ha mostrato come questa sia una direzione fondamentale però aveva limitato ad alcuni ambiti ad alcune patologie oggi lo sviluppo dubultuoso della tecnologia permette praticamente tutto oggi abbiamo visto la correzione della beta telassemia per gene editing per esempio oggi abbiamo gli RNA coding non coding che permettono di attaccare bersagli molecolari in maniera inattesa in maniera e quindi oggi abbiamo la possibilità teorica e starà nel trasferimento dalla ricerca all'applicazione quanto questo succederà ma di trasferire tantissima conoscenza io credo che questo sia il tema la sfida che noi affrontiamo in che modo quella che è una un investimento in in crescita scientifica in capitale umano in infrastrutture riusciamo a trasferirlo nella non dico pari alle conoscenze ma certamente in un nella possibilità di non avere una due tre malattie ma di riuscire ad avere veramente una ricaduta vasta su quel mondo diversificato che sono le malattie rare io credo che quindi il i temi che lancio ai nostri discussants sono due come mettiamo in rete il sistema della ricerca scientifica il sistema del mondo economico abbiamo sentito poco fa una un'industria di grande importanza ma domani ci immaginiamo che ci saranno tante piccole biotech che ci sia la possibilità di far nascere un mondo biotecnologico e di trasferimento alla produzione molto efficace in che modo lo mettiamo in rete che ruolo ha il resto della società le istituzioni le associazioni nel fare rete e nel permettere questa costruzione e il secondo io credo c'è anche un tema eh normativo e regolativo eh se noi saremo efficientissimi nella costruzione di questi nuovi farmaci beh non è che a un certo punto ci troviamo bloccati dalla tempistica della regolamentazione che magari andrebbe anche cambiata nel momento in cui noi abbiamo una piattaforma tecnologica che è la stessa usiamo gli RNA usiamo i vettori avremo forse andrebbe semplificata e questa è l'altra riflessione di eh lavorare perché fermo restando ovviamente il controllo di tutto quello che diventa terapia di una persona però alcuni strumenti regolativi pensati per una farmacologia diversa forse andrebbero adattati e allora su queste due riflessioni aggiungendo l'ultimo punto abbiamo parlato di stiamo parlando di terapie rare ma lasciatemi concludere le malattie rare oggi sono il paradigma della medicina del futuro quindi noi avevamo una volta diviso in testa nostra le malattie rare e le malattie comuni e oggi stiamo capendo sempre più che quelle che chiamavamo malattie comuni in realtà sono un insieme di malattie rare perché ognuno ha la sua identità molecolare quindi tutto quello che viene costruito nelle malattie rare da una parte in contra delle necessità mediche non risolte ma dall'altro apre la strada ha una medicina di impatto anche sulle malattie comuni quindi per tutti questi motivi io credo che il come useremo le prospettive che Next Generation Europe apre avrà una grande ricaduta sulla salute dei cittadini e sullo sviluppo economico del nostro paese e con questo do la parola a Francesca Pasinelli grazie buon pomeriggio a tutti grazie piacere di vedervi diciamo da remoto ma insomma avrei preferito essere lì ma a causa di forza maggiore mi hanno costretto a rimanere a Milano credo che il tema di questa tavola rotonda sia proprio particolarmente affascinante naturalmente fa parte un po' di tutto il lavoro che abbiamo da Fondazione Teleton ormai da credo vent'anni a questa parte e quindi è entusiasmante vedere come questo argomento ormai sia diventato diciamo oggetto di tanta conversazione parto rispondendo provando a rispondere un po' alla tua domanda invece come mettere in rete ma il primo modo per mettere in rete credo che sia interrogarsi su quali sono i passaggi che devono essere fatti per poter immaginare di trasformare una ricerca di grande qualità ed estremamente innovativa in terapie disponibili per i pazienti perché così come tu dici giustamente che di fatto la frontiera delle malattie rare è diventata la frontiera della medicina tutta intera perché qualunque malattia ormai è da intendersi come una malattia rara dal momento che andiamo a studiarne diciamo tali e tante specificità che tutte possono diventare rare è anche vero che quelle di cui noi ci occupiamo principalmente sono poi malattie intanto molto rare io credo che siamo davanti ad un periodo in cui la dimensione è fra raro e ultra raro in termini di sostenibilità della ricerca e della terapia e anche di possibilità d'accesso questa differenza tra raro e ultra raro stia diventando molto rilevante però insomma immaginare di mettere in rete significa comprendere tutti questi passaggi e credo che sicuramente è un passaggio fondamentale che vede tra l'altro il nostro paese veramente all'avanguardia della ricerca di base della prova di concetto preclinico relativamente a possibili terapie relative a queste maverze io credo che la nostra accademia intendendo per accademia tutta la ricerca non profit italiana sia universitaria sia anche gli istituti non universitari ma non industriali diciamo sicuramente vede nel nostro paese un livello di qualità e un'attenzione forse anche grazie all'esistenza non solo ma anche all'esistenza di enti come fondazione Teletro che da 30 anni finanziano ricerca finalizzata con le basi molecolari le basi cellulari i meccanismi cellulari alla base di queste malattie e a provare anche a correggere dove secondo me il sistema un pochino tu dici come fare a mettere in rete dove il sistema si inceppa il sistema si inceppa quando bisogna andare a identificare all'interno di tutta la ricerca quei progetti che sono meritevoli di sviluppo quindi che possono passare da una dimensione propria di ricerca ad una dimensione di sviluppo di terapia e qui diciamo il ruolo storicamente tipicamente il compito di fare questi passaggi è sempre stato dell'industria farmaceutica se andiamo a guardare le terapie passate non c'è dubbio che lo sviluppo di una terapia entrava nelle mani dell'industria sì nelle fasi preliminari dello sviluppo proveniendo dalla ricerca accademica in generale e non solo ma a volte avveniva tutto all'interno dell'industria nel caso di queste malattie e soprattutto nel caso di queste terapie che sono state sviluppate il racconto fatto anche da Filippo Giornata sulle terapie genica dell'asma era un racconto straordinario di qualche cosa che viene dall'accademia e il lavoro che è stato fatto lì è stato quello di intercettare quel progetto e poi da parte dell'industria prima Startup e poi Novartis prenderlo e svilupparlo io credo io credo che siamo in un momento in cui stiamo assistendo a un punto di svolta perché tutte queste tecnologie in particolare le terapie di geni i genevi che comunque non è ancora di fatto diventato una terapia ma rimaniamo magari sulle terapie geniche o alcune delle terapie innovative che sono disponibili sono diciamo hanno nelle malattie rare un banco di prova ideale e quindi la malattia rara è diventata talmente fondamentale per poter avere accesso a delle tecnologie così innovative da diventare rispetto al passato lasciatevi dire relativamente interessante per l'industria ma noi stiamo assistendo ad un fenomeno per cui di fatto tutte queste tecnologie stanno venendo sviluppate principalmente per malattie assai meno rare condivido quello che è farino però sono comunque malattie assai meno rare penso a varie forme di tumori guardiamo il covid adesso dato il vaccino rientra a pieno titolo in questo tipo di terapie e che però ha ricevuto uno sviluppo massiccio e così importante proprio perché l'entità del problema era tale da interessare veramente tutto il mondo di fatto e quindi gli investimenti che sono stati posti sono decisamente massicci per la malattia rara questo non è più così non è mai stato così a un certo punto c'è stato un boost chiaramente discendente in questa curva e quindi io credo che sia arrivato il momento perché l'accademia comincia a citarsi di competenze di sviluppo che possano permettere a queste malattie una 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 forma di sostenibilità magari tutta da vedere ma una forma di sostenibilità cioè io credo che l'accademia debba cominciare a mettere in rete in questo caso sì da un lato la capacità di intercettare quei progetti che possano passare alla sviluppo e dall'altra cominciare a mettere in rete delle infrastrutture che siano delle infrastrutture diciamo farmaceutiche chiamiamole farmaceutiche non industriali ma farmaceutiche di regolatorio che consentano la messa a punto di dati preclinici e clinici che possano dare luogo ad un dossier farmaco ad un dossier regolatorio vale a dire cominciare a pensare da subito lo sviluppo della terapia in una dimensione regolatoria che è in fondo l'unico mezzo per riuscire a trasformare tanta ricerca in un prodotto che sia fluibile ai pazienti nel tempo cioè superare la dimensione della bella e importante pubblicazione che può derivare da uno studio clinico terapeutico o da una preclinica diciamo nazionale molto evoluta e trasformare l'obiettivo della bella pubblicazione in qualche cosa che vada oltre e che diventi a tutti gli effetti un farmaco e questo significa cominciare a dotarsi all'interno delle strutture accademiche di competenze e infrastrutture atipiche atipiche per l'accademia competenze e infrastrutture che non vanno direttamente nella direzione della ricerca dell'innovazione in quanto tale ma proprio di una standardizzazione e di qualità che davvero permetta di dire che il dato alla fine è un dato certo e che il prodotto che ne esce è un prodotto che può essere reso disponibile in ultima analisi alla fine ci sarà sempre bisogno di un distributore e probabilmente un distributore farmaceutico ma quanto più internamente si è progeduti ad uno sviluppo di una terapia che permetta poi diciamo che i dati non debbano essere replicati da un'eventuale azienda che li prende in licenza questo potrà rendere un pochino più sostenibili queste terapie allora entro un attimo nel dettaglio di quali possono essere questi infrastrutture tanto prima cosa assolutamente necessaria che le università siano tutte dotate di centri della proprietà intellettuale e di business development quindi di trasferimento tecnologico adeguato che siano in grado di appunto intercettare la novità proteggerla e essere in grado di garantire di accompagnare uno sviluppo proteggendo quanto possibile questo sviluppo a tutela fondamentalmente dei pazienti prima di tutto perché quando la proprietà intellettuale di un'università viene ceduta il modo in cui poterla cedere o meglio il modo in cui poterla licenziare determina molto l'utilizzo successivo lo sfruttamento successivo e le opportunità per l'accademia stessa di governare tutto che viene a valle e questo non è affatto scontato è una cosa molto complessa gli interlocutori sono sempre degli interlocutori molto preparati e quindi bisogna mettere a punto delle strategie ed una filosofia di sfruttamento della proprietà intellettuale che difenda l'autonomia dell'università e l'interesse del paziente e inoltre bisogna cominciare a dotarsi di infrastrutture di studi per esempio preclinici che fa dei dati che possono essere tutti gli effetti inseriti in dossier regolatori quindi studi condotti secondo criteri di GLP queste sono infrastrutture costose impegnative che richiedono il reclutamento di personale che non è personale diciamo è tutto personale scientifico ma non necessariamente scienziati che vogliono dedicarsi a perché tutto quello che avviene lì avviene secondo criteri standardizzati molto fortemente regolati e rispetto ai quali si possono fare pochissime digressioni diciamo quindi studi preclinici condotti in quel modo non sono studi preclinici che entrano non sono quelli necessari per entrare in una pubblicazione ma sono quelli necessari per immaginare che da lì si possa procedere a chiedere un'autorizzazione per andare in clinica ma soprattutto una volta che si ha anche un risultato clinico sia possibile dare agli enti regolatori del materiale che sia del materiale interamente validato non parliamo dei problemi produttivi il materiale per terapie geniche per terapie cellulari quindi per terapie innovative per poter essere studiato in clinica deve essere prodotto secondo procedure in good manufacturing practices probabilmente sapete che come fondazione Teleton negli anni abbiamo sviluppato e abbiamo portato in clinica almeno sei protocolli per terapie geniche accedendo GMP facilities che erano strutture industriali di servizio che hanno lavorato per noi appunto lavorando per conto terzi ebbene in questo momento l'accesso sul piano economico allo stesso servizio sta diventando praticamente impossibile e da quando queste terapie geniche sono affermate nell'uso il costo per produrre questi materiali dal momento che è molto aumentata la richiesta sono di fatto diventati quasi inaccessibili per una struttura non profile quindi quello che abbiamo sviluppato con investimenti di molti milioni di euro in passato adesso diventa teoricamente qualcosa di molti più milioni di euro e decisamente non è possibile quindi pensare che venga abilitata l'accademia naturalmente diciamo con un numero limitato probabilmente di centri in Italia Tarino sa molto bene quanto questo sia in questo momento il nucleo di uno dei programmi che stiamo presentando al PNRR ma pensare che venga abilitata l'accademia ad accedere a produrre ad accedere a sistemi di produzione diciamo non profit ebbene questo sarà un fattore critico di successo per la nostra accademia per provare a fare sviluppo di terapie sia in orare o anche non rare penso tutta l'oncologia ma certamente immaginare ad arrivare ad un prodotto finale che costi un pochino di meno e di seguito a tutto questo sta tutto quanto serve per le competenze regolatorie prima Sarino tu dicevi bisognerà mettere appunto dei sistemi che non siano esattamente quelli del farmaco tradizionale è certamente vero perché questi sono prodotti diversi ma dobbiamo stare molto attenti a chiedere delle deroghe che portino a trattare queste terapie come se alla fine non dovessero essere veramente dei farmaci quindi se qualche cosa una volta che è sul mercato non verrà più controllato molto poco quindi sviluppare in modo che sia a tutti gli effetti un farmaco per fare questo bisogna cominciare ad operare sul piano regolatorio nelle primissime fasi di sviluppo di un prodotto quindi seguire parte di un prodotto da quando è in una preclinica ancora diciamo molto molto indietro e seguirla sotto lo sguardo di un esperto di regolatorio che anche questa non è una tipica funzione dell'accademia ebbene questa è una cosa fondamentale per arrivare a questo questi sono quei passaggi che bisogna poter mettere in rete anche la conduzione dello studio clinico a scopo regolatorio è molto diverso e anche questa richiede delle competenze che non sono necessariamente quelle del clinico che svolge la ricerca ma di tutte quelle figure a contorno che lo aiutano costruiscono un protocollo clinico e tutto un monitoraggio della clinica che ancora una volta vada a comporre un dossier regolatorio il tema della sostenibilità delle malattie rare è trattato in modo diciamo viene messa molta enfasi sul prezzo finale io credo che il prezzo finale per quanto sia elevato stia comunque creando dei problemi all'industria di sostenibilità perché quando si parla di vera rarità non di vera rarità ma di vera rarità il costo per arrivare a mettere a punto un prodotto elevatissimo e per quanto elevato sia il costo sul mercato i numeri restano molto bassi e quindi una redditività di queste terapie è molto discutibile allora nella logica dell'articolo 32 della costituzione io credo che superando diciamo delle contrapposizioni ideologiche quello che è necessario fare e quello che sta venendo fatto oggi e qui concludo è proprio quello di comprendere a fondo che cosa deve essere fatto comprendere che non possono essere saltati dei passaggi che bisogna lavorare in modo molto sinergico anche con un modo complementare e sinergico facendo ciascuno la propria parte ma ripeto in una logica che cambi l'approccio da puremente academico puramente legato alla discovery ad un approccio invece simile industriale che immagini la messa appunto di un prodotto fruibile per i pazienti di domani grazie dottoressa Pasinelli innanzitutto vi presento sono Fabrizio Dughiero mi scuso perché sono ingegnere in un ambiente del genere faccio un po' fatica mi sento un po' pesce fuor d'acqua per oggi il mio compito sarà quello di di capire qual è il meccanismo technology transfer quindi innovazione di come si fa a portare la ricerca verso l'impresa verso il paziente a proposito di questo vorrei subito innanzitutto ricordare che alla tavola rotonda partecipa anche il professor Fabrizio Figurilli prima il professor Perilongo si era dimenticato professore di diritto amministrativo verso l'università di Perugia ma volevo subito introdurre proprio il tema del trasferimento tecnologico e della ricerca e sentire il punto di vista anche sulla base di quello che è stato detto dall'ottoressa Pasinelli che dirige ovviamente una fondazione come la fondazione Teleton e capire dal professor Vettor come invece noi affrontiamo questo tema di tutto il passaggio della ricerca dal laboratorio fino al letto del paziente attraverso i trial clinici di diverse fasi se abbiamo tutti quegli elementi che la dottoressa Pasinelli ci faceva notare che potrebbero mancare o se sono necessari in una ricerca accademica o se dobbiamo fare altro e in terzo luogo se ti aggiungo anche una solicitazione in più abbiamo anche un'altra difficoltà o meglio un altro ostacolo che è quello del rapporto della nostra accademia con l'azienda ospedaliera quindi come questo anche viene gestito in funzione dell'azienda ospedaliera prego Roberto diciamo che sono da parte della dottoressa Pasinelli sono stati toccati degli elementi particolarmente importanti a cui eventualmente potremmo anche vorrei commentare perché diciamo alcuni aspetti creano il problema di una sostenibilità di quello che lei ha detto perché è evidente che se pensiamo e io posso essere anche d'accordo diciamo di andare oltre la conoscenza e la discovery ma creare anche delle continue start up o delle spin off a livello universitario con il prodotto è evidente che si pone il problema della sostenibilità e il problema della sostenibilità in una società complessa come la nostra è integrato nella collaborazione tra i vari stakeholders che si occupano evidentemente di questo perché è chiaro che io devo tenere in considerazione che c'è chi si occupa di promuovere la conoscenza pura chi si pensa di trasferire questa conoscenza a livello clinico ma poi c'è qualcuno che dice vabbè allora questa conoscenza magari abbiamo un target gene oppure un elemento chiave e questo lo trasformiamo in un prodotto che si chiama farmaco o trattamento comunque sì naturalmente questo significa prima di tutto creare le competenze e prima di creare le competenze industriali all'interno diciamo dell'accademia non è che sia una cosa che facciamo dall'oggi al domani rispondo a quello che diceva il professor Dughiero il trasferimento tecnologico dalla conoscenza diciamo e diciamo anche dal discovery di un gene oppure di un meccanismo biochimico a quella che è la traduzione in termini diciamo di intanto di cogliere l'importanza di un elemento di questo genere e poi anche quello di produrre in seguito un qualcosa che si apre attraverso mille filiere che portano veramente alla fine a una selezione verosimente di un farmaco è un processo assolutamente difficile a compiere allora lei sa benissimo che nell'industria quando l'industria fa della ricerca di base e fa della ricerca anche sulle malattie rare c'è una sorta di fishing d'accordo per cui a un certo punto diciamo ha davanti uno spettro di possibilità e questo spettro di possibilità naturalmente va ricercato uno alla volta con la potenza di fuoco che può avere l'industria naturalmente questa è una scelta politica perché naturalmente io posso dotare anche l'università di strumenti tali da potersi dotare degli stessi strumenti che ha l'industria ma evidentemente non penso che si possano fare in tempi in tempi rapidi questa è una cosa diciamo che va tenuto in considerazione e va sotto il grande diciamo così definizione di quello che è la sostenibilità di quello che io scopro di quello che io produco che penso e che poi in qualche maniera voglio mettere diciamo a disposizione dei miei pazienti potrei fare diversi esempi su questo d'accordo che naturalmente hanno e posso anche portare acqua al suo mulino perché naturalmente ci sono degli esempi naturalmente che sono stati colti e che poi sono stati sviluppati perché fondamentalmente potevano avere un'applicazione più ampia e invece del qualcos'altro che si è fermato perché naturalmente non era conveniente sviluppare naturalmente dicendo questo porta acqua al suo mulino naturalmente per cui a un certo punto quello che non è conveniente sviluppare è un compito etico che può assumersi qualcuno che non è l'industria ma allora è chiaro che a un certo punto lo Stato deve intervenire favorendo evidentemente la crescita di situazioni locali particolari ovvero dove ci sono le competenze per sviluppare situazioni di questo genere siamo partiti dal next generation per arrivare diciamo a quello che succede all'interno del nostro paese e quello che succede all'interno di un'azienda all'interno dell'azienda ospedaliera organizzata che tra le altre robe l'avrete sicuramente detto più volte in questa occasione è diciamo un'azienda leader nel campo diciamo delle malattie rare ma inizio dal next generation EU e next generation EU parla di Europa e di organizzazione di queste cose all'interno dell'Europa e è naturalmente con ricaduta negli Stati membri ma allora la prima cosa che mi viene da dire è naturalmente che cosa fa l'Europa per le malattie rare nell'ambito proprio nel nel segno di cui diciamo disegnato dalla dalla dottoressa naturalmente oltre i programmi europei di supporto alla ricerca attraverso Horizon o e quant'altro esistono gli ERN ne avete già parlato ok che rappresentano per il momento una una rete di flussi di pazienti ma non c'è una politica di ricerca che in qualche maniera li metta insieme o solamente questo avviene in maniera sporadica attraverso qualcosa che naturalmente che raccoglie alcuni di essi per fare diciamo delle application per quanto riguarda l'Horizon è evidente che una politica europea che in qualche maniera possa promuovere la ricerca all'interno di queste reti è un qualcosa importante perché naturalmente sappiamo tutti quanti che per quanto riguarda le malattie rare quelle veramente rare la dimensione di mettere insieme casistica e da cui e il biobanking piuttosto che le repository fenotipico e così via è importante perché poi naturalmente oggi le analizziamo con i mezzi che sono messi a disposizione dai nostri attuali sistemi di analisi che sono quelli che derivano dalla network biology o dalla network medicine e vanno all'analisi delle omics attraverso l'intelligenza però è chiaro che devo avere una certa massa critica e naturalmente questa si fa all'interno di grandi organizzazioni naturalmente la cosa che vorrei sottolineare e su cui naturalmente sono assolutamente d'accordo con la dottoressa è che prima di tutto bisogna creare le competenze creare le competenze le competenze specifiche anche da un punto di vista diciamo di quello che può essere anche il passaggio da quello che è la conoscenza a quello che può essere l'applicazione a quello che può essere diciamo lo sviluppo di un qualcosa che noi riteniamo utile possa essere sviluppato è un qualcosa diciamo di fondamentale però devo dire stiamo osservando oggi in Italia e ne abbiamo parlato stamattina anzi non ne ho parlato io ne ha parlato il professore Rizzuto di un qualcosa che si chiama centro nazionale per il per la gene therapy e il centro nazionale per quanto riguarda la mRNA technology allora questa questa il disegno di questo e naturalmente non voglio rubare diciamo quello che è stretta competenza del professore Rizzuto ma questo disegna di fatto un rapporto virtuoso di collaborazione tra quelli che sono i grandi centri universitari e quello che è la partnership diciamo l'industria farmaceutica che siano essere diciamo istituzioni come Teleton oppure diciamo altre istituzioni che in qualche maniera vogliono diciamo passare dalla dalla discovery alla diciamo produzione di un farmaco grazie prego allora io faccio grazie per la presenza il dottor Paracchi perché arriva un player di cui abbiamo parlato un po' di striscio finora che è il che sono le giovani biotecnologie il la non l'industria farmaceutica consolidata e allora la domanda è abbastanza prevedibile perché non da noi perché da noi così pochi esempi perché non abbiamo tante bionte col quale pensa che siano state le limitazioni sono superabili nel prossimo futuro e Next Generation Europe servirà a far nascere una cultura di sviluppo biotecnologico anche in una o qui c'è un ingegnere gli ingegneri sempre un un confronto impari perché quando noi ne pensiamo una di possibili ricadute loro ne fanno dieci lo chiediamo questo che è accidenti che domandona è una domandona importante non so devo essere completamente onesto sì assolutamente assolutamente non me la sento è stata l'invasione in Rune non me la sento no la domanda è ben messa e soprattutto si parte sempre dalla nostra capacità straordinaria di produrre ricerca spesso ci paragoniamo anche a ragione francesi e tedeschi in quanto a produzione scientifica poi quando guardiamo la capacità di brevettare la capacità di creare imprese c'è un gap straordinario ed enorme questa non è una novità di oggi quindi mi sono occupato prima di venture capital dal 2002 in poi più o meno il tema era sempre questo qua perché io penso che il vero anello mancante di tutto il sistema sia la parte imprenditoriale e manageriale cioè la capacità di trasformare ricerca in prodotto avere la capacità di development cioè di sviluppo e questa è una competenza che in Italia negli anni si è persa perché progressivamente si è persa l'industria farmaceutica in buona parte e soprattutto si è persa l'industria farmaceutica nella parte di ricerca più importante a livello mondiale come ad esempio l'oncologia perché è diventata così competitiva così grande così di grandi dimensioni per cui le società che riescono a fare ricerca oncologica di un certo livello sono società multinazionali con miliardi i sistemi che funzionano bene e che non sono replicabili purtroppo per noi sono i sistemi cluster tipo Boston Cambridge tipo Silicon Valley dove in una stessa area prossima hai accademia forte che possiamo dire di avere e hai venture capital e hai industria farmaceutica il gioco a tre funziona bene per il fatto che la ricerca allora le grandi farm ma anche questo non devo dirlo a voi si sono spostate sempre più in alto nella catena del valore fanno un po' meno ricerca sempre meno ricerca e hanno più in mano il mercato più o meno il 60 o più per cento della pipeline di una società farmaceutica arriva al di fuori della farm quindi le grandi farm che investono miliardi in ricerca se si fanno una domanda ma con tutto quello che investiamo noi più di metà della pipeline me la deve andare a comprare fuori quindi c'è qualcosa che non funziona perché le aziende strutturate che sono a multilivello che hanno tanti personali tra le capacità di decisione di prendere rischio perché innovare vuol dire rischiare si va terribilmente a ridurre per fare un esempio anche se non è farmaceutico che però rende l'idea perché c'è il mito del tavoletto da ping pong in google in facebook in questa società qua perché la paura di queste ex start up che diventano grandi è di perdere la capacità di innovare e quindi chiedono ai propri dipendenti attenzione non sei proprio un mio dipendente sei libero gioca ping pong diverti un giorno la settimana devi te ne creare non voglio andare troppo lontano rispetto alla domanda quindi il cluster 2 funziona la società farmaceutica si è alzata e noi però non ce l'abbiamo più non ne abbiamo più così tanta si è creato un gap che è stato coperto dall'attività di ricerca nonché dall'università ma da un'industria di capitali che sono stati pronti a prendersi quel rischio alto che va dall'università verso la farma ma l'elemento che manca che è quello che mi stava chiedendo è proprio l'aspetto manageriale cioè per riuscire a sviluppare una buona ricerca un prodotto nato in accademia hai bisogno di persone che abbiano lavorato in una grande multinazionale e con i soldi della multinazionale hanno sbagliato quindi valgono molto sul mercato perché hanno bruciato qualche centinaia di milioni e lo sviluppare prodotti di là quindi vengono fuori vengono nella mia start up e mi portano un valore aggiunto tremendo per riuscire a portare quel prodotto al mercato però i capitali sono un elemento essenziale per il fatto che per riuscire ad attirare le persone dalla grande impresa hai sicuramente l'aspetto romantico cioè sei dentro al sistema Novartis probabilmente vedi sempre un pezzettino della ricerca invece vieni una start up vedi il prodotto ritorni a fare la parte romantica del lavoro che avevi scelto però perché contro la finanza uno quel signore lì o quella signora lì non salta fuori dalla farm se tu gli dai gli stessi soldi che prendevano nella farm perché tutti noi facciamo carriera abbiamo non è che possiamo nasconderci da questo aspetto e secondo elemento non basta pagare non riconoscere lo stesso compensa quella persona per riuscire ad attrarre il talento ma devi portarla in un'impresa che abbia così tanti capitali che renda possibile lo sviluppo di quel prodotto altrimenti quella persona non viene perché comunque sia si divertirà forse un po' meno nella grande farma ma è al caldo è al caldo e sta bene quindi questi tre elementi devono funzionare insieme dove funzionano insieme è una bomba atomica il biotech oggi sta accadendo a Boston Cambridge sta accadendo in Silicon Valley e non sta accadendo qua se non per casi sporadici perché ovviamente abbiamo buona ricerca qualcosa c'è e quindi vengono fuori ma non riesce a creare un'industria 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 piena e quindi queste sono le tre cose che devono far funzionare come risolverlo non è facile perché dal momento in cui la parte manageriale non ce l'abbiamo è difficile riuscire ad attirarla in un paese dove hai poche imprese cioè dove il cluster funziona bene se un top manager di una farm salta fuori dalla farm e va in quella start up e non funziona per rapporti per il prodotto che non funziona o rapporti interpersonali sa di poterne avere altri dieci fuori che lo possono accogliere in Italia non è così le start up sono poche per cui se mi prendo il rischio da un paese extra vengo in Italia vado in quella start up lì per mille ragioni non funziona e non è che apro la porta in altre dieci finanziate quindi questo sistema è virtuoso se non lo fai partire se non si sviluppa però ce ne sono già altri nel mondo che già funzionano ed è difficilissimo replicare non so se sono stato chiaro abbastanza grazie tocca a me ed allora adesso è la volta della professoressa Biffi conosciamo tutti la tua competenza la profonda competenza nel settore proprio della terapia genica maturata in Italia all'estero al vostro cinder hospital però secondo me non molti conoscono invece anche la tua passione e anche la competenza nell'ambito proprio del tech transfer del knowledge transfer allora proprio da questo tuo osservatorio privilegiato mi piacerebbe un commento una tua opinione riguarda invece il ruolo dell'accademia quale mediatore con l'industria farmaceutica perché tu conosci bene entrambi i mondi nel favorire l'accesso dei pazienti invece affetti da patologie rare a terapie avanzate o anche sperimentali grazie Fabrizio sì credo che la domanda un po' tocchi alcuni dei temi che abbiamo passato da un interlocutore all'altro e vorrei iniziare da quello che diceva Pierluigi cioè quello che a noi piace fare che è il trasferimento delle terapie avanzate della terapia genica dal laboratorio al letto del malato ma a un letto consistente del malato di tutti i malati non solo dei primi pochi che riusciamo a ruolare in uno studio clinico di fase 1 è molto costoso e questo costo tutti questi soldi questi capitali che servono non servono solo ad attrarre il manager capace che Pierluigi vuole per la nostra start up servono anche per superare tutti quei bottleneck quei colli di bottiglia a cui faceva riferimento Francesca Pasinelli che sono tanti che sono tutti in serie quindi se non superiamo il primo non arriviamo ad affrontare il secondo quindi li dobbiamo saper superare tutti altrimenti è un po' inutile iniziare a fare il percorso se lo vogliamo davvero portare in fondo e questi bottleneck richiedono un enorme investimento di capitali di questi capitali l'Accademia difficilmente riesce a reclutarli tutti da sola ci sono momenti circostanze temporali uniche questa che stiamo vivendo il centro nazionale è un evento credo unico in tutta la nostra carriera di tutti noi indipendentemente della nostra età succede oggi e difficilmente ricapiterà nel nostro aspetto di conoscenza quindi è chiaro che la sostenibilità di quello che vogliamo fare e che anche il centro nazionale farà dipende dal potere continuare a mettere in fila i capitali che devono arrivare in fondo e questi non sono solo nell'Accademia non è fattibile non è sostenibile che siano solo trovati nell'Accademia non ci possono essere soprattutto all'inizio nell'industria che sia una start up o sia un'industria consolidata perché l'industria arriva quasi sempre un po' più avanti quindi una prospettiva di dove trovare i capitali ci deve essere quindi è chiaro che deve essere cercata una soluzione nuova l'innovazione non deve essere solo nello sviluppare una nuova piattaforma di gene editing o una nuova modalità per veicolare l'RNA l'innovazione forse ci deve essere anche nel creare un contesto in cui l'Accademia inizi un percorso che deve incontrare l'industria più avanti ma che deve utilizzare poi delle strutture terze che possono essere sul territorio che possono essere costruite in maniera in maniera un pochino più innovativa rispetto a o l'uno o l'altro e in questo percorso dobbiamo introdurre per forza anche l'ultimo elemento che è chi poi dovrà distribuire il farmaco cioè un'interazione e una negoziazione molto precoce anche del pricing credo che sia fondamentale il pensare a dei sistemi di pricing di quelli che saranno i prodotti che usciranno da questo sforzo grande che Sarino sta costruendo credo che sia fondamentale perché le terapie per le malattie rare non possono seguire le stesse regole del mercato del prezzo delle malattie comuni a fronte del fatto che avranno lo stesso costo di sostenibilità e lo stesso costo di sviluppo quindi mettere in fila da subito tutti questi interlocutori per cercare di costruire un percorso virtuoso quello che sia importante e ve lo dico perché concludo con un esempio che ha seguito un po' la mia crescita in quest'ambito io quando ho affrontato la prima fase di sviluppo clinico del primo prodotto di terapia genica mi sono trovata in un momento un po' critico per la terapia genica volevamo iniziare una serie di studi clinici sponsorizzati dalla fondazione Teleton che Francesca conosce bene ma in quel momento c'è stata una fase veramente difficile le prime neoplasie legate al trasferimento genico per una malattia rara che si chiama maschile X1 per la quale appunto si era iniziato con dei risultati eclatanti un drawback un problema un nuovo vettore dei risultati clinici eclatanti sono stati trattati molti bambini con un vettore di seconda generazione che non ha più dato questa leucemia io ho incontrato questo nuovo vettore e una nuova generazione clinica negli Stati Uniti e la sto cercando di aprire adesso in Italia questa malattia senza la terapia genica non ha una cura valida questi bambini non hanno una prospettiva di trattamento il trattamento c'è lo sviluppa l'Accademia ma questo trattamento dopo vent'anni non ha un padrone non ha un'industria che lo affianca e quindi non ha una sostenibilità nel lungo termine quando l'Accademia l'NIH il GOSH l'Università di Padona non avrà più i fondi per produrre il prodotto e trattare i bambini probabilmente questo sforzo finirà perché dopo vent'anni questo farmaco non ha trovato un'industria non lo troverà più e probabilmente ci sono tanti altri esempi ad Aschid la stessa cosa 60 bambini trattati con un prodotto a base di lentivirus questo prodotto è fermo in un cassetto la talassemia speriamo entri nel centro nazionale sono tantissimi questi esempi che probabilmente riuscirebbero uscire dal cassetto se si costruisse un sistema virtuoso che deve intervenire presso e che deve accompagnare queste possibilità di cura ma non può essere solo da un lato solo dall'altro deve vedere veramente un coinvolgimento di tanti stakeholder incluso lo Stato grazie Alessandra grazie introduciamo il nostro ultimo discassante Fabrizio Figorilli e beh a lui farei quasi la stessa domanda nel senso abbiamo ne ha parlato Alessandra di come è necessario costruire un meccanismo di interazione di attori pubblici dell'accademia la biotech i venture capital bisogna incrociare un farmaco etico che non ha un profitto con invece un valore reale bene in Italia perché quale immagine sia un qualche nodo che si può sciogliere io sono un convinto fautore del fatto che il diritto può essere innovativo perché dovrebbe essere innovativo quindi può risolverci alcuni dei dei temi dei problemi e indirizzare la strada a lei ci siamo visti in crui tre anni di fila adesso mi dai cura del dunque molto brevemente grazie per questo graditissimo invito che mette a prova insomma il leguleio di fronte a una platea ottimamente attrezzata perché tra medici e ingegneri qui si mette malissimo come ex avvocato amministrativista ero solito dire che finché ci saranno i medici e gli ingegneri gli avvocati amministrativisti avranno di che vivere vivere bene però non riapriamo vecchie vecchie questioni il punto di domanda posto nel corso di questa tavola rotonda è già animato in sede di preorganizzazione dove l'atmosfera era sicuramente meno paludata eravamo forse anche più scoppiettanti mi spiace che non abbiate potuto vedere la prima prova prima di questo incontro anche il delegato del rettore ne potrà essere testimone io credo che gli strumenti di cui oggi disponiamo in parte ci sono ma che non vengono assolutamente utilizzati ma guardate su questo io vorrei sgombrare il campo da quella che è la solita lamentela che in Italia non riusciamo a mettere a frutto a sistemi cose che altrove funzionano vi faccio un esempio molto semplice gran parte della disciplina degli appalti limitatamente all'ipotesi in cui noi riusciamo a utilizzare questo strumento che c'è ma non è il più agevole e probabilmente non è il più duttile per le finalità che qui sono state magnificamente esposte che non a ripetere e cioè pensate al partenariato per l'innovazione è l'articolo 65 del codice degli appalti codice degli appalti altro non è se non una forma peggiore più complicata di un mainstream giuridico che è dettato dalle direttive comunitarie quindi noi abbiamo trasposto in Italia quello che l'Unione Europea ha già individuato da tempo ebbene vi dico questo strumento del partenariato dell'innovazione in realtà sconta una difficoltà applicativa da noi forse si può spiegare ma anche altrove ne registriamo 17 dal 2014 a oggi questo vi dà l'idea visto che siete soliti ragionare giustamente con i numeri e il partenariato per l'innovazione non vi fate spaventare dalla parola appalti io non vado sul tecnicismo spinto perché non è questa la sede ma lì si tratta di una modalità di una procedura pubblica ad evidenza pubblica in cui l'amministrazione committente e qui dovremmo capire chi è il committente in relazione alla finalità che intendiamo perseguire individua un obiettivo e dice mettete sul campo le vostre idee non è quella busta chiusa con l'offerta tecnica ed economica su cui poi l'amministrazione appaltante è chiamata a scegliere no una volta individuati i criteri i paletti di partenza sulla base di quello si instaura un'altra novità che da tempo l'Unione Europea ha introdotto che è il dialogo competitivo cioè si va a definire l'oggetto della gara cammin facendo mettendo poi il decisore ultimo nella condizione di scegliere in base a un rapporto qualità prezzo e non più solo il prezzo come purtroppo anche l'articolo 32 della Costituzione è costretto a rispettare e il famigerato diritto fondamentale diventa un interesse giuridico fondamentale compatibile con l'altro valore costituzionale che si chiama equilibrio di bilancio perché anche su qui dovremmo fare chiarezza ma qui apriremo un altro convegno e non mi allargo quindi il partenariato per l'innovazione può essere uno strumento significa mentalità diversa da parte di chi intende partecitare mentalità ancora più diversa da parte della stazione appaltante della parte pubblica che deve avere persone capaci di gestire questo strumento e qui scontiamo un gap drammaticamente di arretratezza di formazione di chi dovrebbe azionare strumenti che sono la nostra portata e questo è uno altro punto non vogliamo andare sulla procedura di gara della parte del partenariato di innovazione allora andiamo sugli appalti precommerciali forse qui si potrebbe trovare una soluzione a mezza strada dove più soggetti pubblici e privati si mettono intorno al tavolo per condividere i rischi d'accordo soprattutto quando la ricerca è costosa e il risultato incerto patti chiari amicizia lunga pacta servanda sund mettetela come vi pare individuiamo i criteri sulla base dei quali ragionare e per obiettivi di largo respiro molto più ampi e qui mi ritrovo in toto nel settore della malattia potrebbero trovare uno strumento su cui far planare e confluire una interazione obbligata perché noi spesso ed è un problema non solo del diritto amministrativo il rapporto pubblico e privato si sta ponendo con sempre maggiore enfasi e importanza perché il diritto pubblico si è fatto carico per oltre un secolo di esigenze che prima venivano lasciate così alla casualità e in materia di salute vi ricordate nel diciannovesimo secolo erano solo gli enti di beneficenza e di assistenza che pensavano alla cura delle persone quindi oggi abbiamo svoltato però il welfare state ha dei costi il sistema di servizio nazionale nostro ne ha di spaventosi avete visto che tipo di evoluzione c'è stata dal 78 al al 99 e successive modificazioni del 2012 e quindi bisogna un pochino fare i conti con ciò che è possibile perché poi nell'ambito di risorse limitate bisogna saper scegliere quindi l'appalto precommerciale ha una durata anche maggiore di un arco temporale lungo richiederebbe tempo applicarsi e spiegare questa cosa la butto lì tanto è vero che nel 2018 la commissione annuo europea ha nuovamente sollecitato questo questo tipo di di leva terzo e ultimo profilo forse per sgombrare il campo visto che l'università da un lato enti pubblici dall'altro non riescono a mettere insieme tutte quelle competenze di cui è stato lamentata la mancanza ma che esulano da quello che è la nostra finalità tipicamente istituzionale allora perché non proviamo a lanciarci su ipotesi di ricerca collaborativa il mercato delle sovvenzioni soprattutto a livello europeo spalanca le porche a questo e sono forme molto più agile allora si tratta di mettere insieme piattaforme tecnologiche partenariati atipici chi più ne ha più ne metta associazioni temporane di imprese che tutti conosciamo e che sperimentiamo finalizzate nel condividere mettere insieme la conoscenza allora l'università visto che ancora come giustamente ha detto il professor Vettor poco fa prima che arrivi a quel tipo di trasformazione e forse avremmo risolto buona parte delle malattie rare e questa è ancora più rara che non di quelle di cui voi vi occupate allora chi ha questo tipo di professionalità la mette insieme alle venture capital evocate poco fa e tutti insieme andire a un tipo di finanziamento pubblico europeo che va in linea anche con la politica degli aiuti di Stato perché in materia di ricerca l'aiuto di Stato non incontra tutti quegli sbarramenti che invece troviamo per la produzione privata e allora ecco che la triangolazione potrebbe funzionare pubblico e per quel che ci riguarda sappiamo bene quali sono le nostre dotazioni la dote che possiamo mettere in questo tipo di combinazione privato il mondo della farmaceutica che può avere il suo tornaconto nella misura in cui è stata ottimamente illustrata il terzo settore terzo settore settore no profit che può anche dare una mano laddove noi non arriviamo con i modestissimi fondi qualcosa nelle malattie rare è un punto di partenza in un certo punto di arrivo lo dicevamo ieri sera a cena con l'amico Macchia e si è cominciato a mettere mano a fondi che comunque potranno essere incrementati ultimo ultimissima battuta sollecitata da chi mi ha preceduto avrei voluto dire altre cose ma quello che è stato detto mi stuzzica come amministrativista ottimamente l'amico Rizzuto ha detto poco fa cambia la farmacologia forse dovremmo andare incontro a forme diverse di procedure amministrative che in termini di autorizzazione permettono un nuovo tipo di azione una nuova azione regolatoria questo è il lavoro degli amministrativisti e del legislatore perché anche lì è una battaglia che merita di essere portata avanti il ruolo dell'agenzia italiana del farmaco deve essere trasformato spero che a breve ci sarà una riforma ma il passo successivo è l'attuazione per far camminare questo nuovo modello con gambe agili in grado di rispondere agli interrogativi per le persone grazie facciamo un secondo giro però tutti vi dovete impegnare ad essere molto sintetici due minuti tre minuti a testa io comincerei allora dalla dottoressa Pasinelli e visto che si è parlato molto del centro nazionale sulla terapia genica mRNA che fa riferimento alla missione 4C2 del piano nazionale di ripresa e resilienza che si intitola lo ricordo a tutti della ricerca all'impresa ecco io chiederei alla dottoressa Pasinelli che cosa può fare lei ha già accennato ad alcune azioni che sono importanti in questo passaggio ma ancora di più che cosa può fare il centro nazionale e lo diciamo direttamente al professore Izzuto che è coordinatore di questo centro nazionale che cosa può fare in modo pratico per arrivare proprio guarda che con Francesca ci sentiamo lo so allora lo dico che cosa può fare in modo pratico per arrivare proprio a colmare questo diario della ricerca all'impresa e direi fino a letto del paziente tre minuti ma quello che abbiamo diciamo il progetto presentato all'interno del centro nazionale va nella direzione di quanto dicevo prima ed è quello di creare delle infrastrutture che abilitino per quanto possibile l'accademia in questa filiera tutte le discussioni che sono state fatte prima e diciamo sottoscriverei qualunque delle cose che è stata sono vere in assoluto per qualunque forma di terapia e qualunque forma di impresa il punto qui sono le malattie molto rare e quindi il problema quando Alessandra Biffi dice ci sono terapie che non trovano un'interlocuzione il discorso fatto ad Alessandra io condivido e sottoscrivo il bisogno di innovare i modelli quindi quello che stiamo proponendo con il centro nazionale è proprio quello di provare a creare un modello innovativo che tra l'altro sviluppi al proprio interno dei sistemi diciamo che abbrevino i tempi e diminuiscono i costi per quanto possibile soprattutto nell'ora della terapia delle malattie ultra rare dopodiché tutti i temi dell'accesso del partnership con l'industria diciamo semplificazione dei contratti e degli accordi sono tutti veri ma la prima fase quella è è una prima fase che non potrà prescindere dall'accademia vista la tipologia di queste malattie e quello che noi stiamo proponendo è esattamente quello prima era stata fatta una domanda cosa viene fatto in Europa adesso purtroppo non è più Europa perché è Gran Bretagna diciamo ma quello che è stato fatto in Gran Bretagna con il progetto Catapult è stato esattamente questo è stato nel momento in cui le terapie geniche le terapie cellulare geniche sono diventate una realtà un'opzione possibile è stato fare un massiccio investimento pubblico che unisse accademia e imprese in una logica di filiera proprio per diciamo l'innovazione e la sostenibilità di queste terapie diciamo mutatis mutandis con le ambizioni che per quale italiana sono sempre un pochino magari diverse il centro nazionale potrebbe essere costituire un primo impulso in quella direzione a Roberto Vettoro che è il direttore del dipartimento che oltre al dipartimento del padrone di casa ha il maggior numero delle ERN di cui siamo tutti molto orgogliosi chiedo una piccola provocazione se università e aziende ospedaliere mettessero come obiettivo strategico quindi vi valutere come cliniche anche per la produzione per lo sviluppo della ricerca applicativa non sarebbe a proprio di Catapulta una spinta molto forte qualche impegno clinico in meno e qualche valutazione anche sul sul risultato di un nuovo farmaco innovativo un argomento quello della valutazione che è un argomento particolarmente diciamo intrigante da un punto di vista anche dell'eccezione è molto sensibile molto sensibile sia in ambito accademico sia in ambito della sanità il problema che nell'ambito della sanità di solito si diciamo giudicano a mala pena gli outcome delle malattie più importanti e viene giudicato fondamentalmente l'istituzione e diciamo il singolo soggetto difficilmente viene giudicato tranne adesso per cui la l'agenas sta in qualche maniera raccogliendo anche i codici fiscali degli operatori per cui a un certo punto alla fine unirà l'azione con quello che è la persona però alla fine non penso che ne avremo dei grandi sconvolgimenti da un punto di vista diciamo degli effetti della valutazione perché resteranno numeri non qualità questa è la mia impressione e anche nell'accademia qualche volta diciamo una valutazione ex post non viene fatta cosa che invece dovrebbe essere fatta in maniera importante l'accademia differisce dall'industria perché l'industria fa delle valutazioni ex post dai propri dipendenti mentre invece diciamo l'accademia delle valutazioni ex post non le fa mai allora detto questo e diciamo che se facessimo questo sarebbe già un grande vantaggio io penso che se avessimo un indirizzo strategico che in qualche maniera dice Padova è un'eccellenza da un punto di vista assistenziale perché è leader a livello europeo Padova è un'eccellenza e il professor Perilongo è l'espressione organizzativa diciamo di quello che sta succedendo all'interno dell'azienda e Padova è un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale dal punto di vista della ricerca e noi vogliamo che questa costituisca una premialità rispetto ai prodotti che io vado a misurare credo che questo sia una grande driving force d'accordo importante però bisogna metterlo in campo e per metterlo in campo ci sono le scelte politiche grazie allora io tornerei adesso a sentire un po' il punto di vista dell'industria o di chi investe in questo settore e con una domanda molto specifica ho sentito parlare di competenze che servono per avere questo passaggio manager allora mi chiedo dobbiamo far diventare anche i nostri ricercatori un po' più manager e quindi che imparino un po' di più anche l'aspetto regolatorio oppure dobbiamo inserire all'interno dei gruppi di ricerca queste figure qual è? non ho capito bene forse è interessante l'angolo secondo me ognuno deve fare il suo mestiere però il tema è del linguaggio cioè riuscire a tradurre il linguaggio una delle difficoltà che spesso ho affrontato come imprenditore come investitore nell'approccio verso l'accademia la ricerca il ricercatore è un limite di linguaggio cioè di comprensione di metriche logiche o funzionamento dell'industria che è sempre più importante rispetto al ricercatore ovvero il finanziamento pubblico in varie forme va sempre a ridursi e quindi è naturale che il ricercatore lo scienziato vada a cercare qualcosa anche oltre quello che è altrimenti più smart perché sono quei capitali che arrivano meglio più velocemente che ti possono portare a realizzare il prodotto che non è detto che il bando nei tempi nei modi ti concede quindi la traduzione e la traduzione del messaggio è fondamentale che vi dico io io mi sono trovato in una situazione sempre di essere un po' in mezzo anche se è una formazione economica il mio mestiere è stato quello di essere un traduttore del messaggio scientifico verso gli investitori quindi io ero a metà come figura imprenditoriale e alla fine questi due mondi che avevano difficoltà di comprensione ma necessità di trovarsi perché i capitali cercano idee cercano innovazione perché poi un ritorno importante ai capitali arriva se tu hai un'innovazione e la scienza la ricerca soprattutto in Italia questa parte del biotecnologico delle scienze della vita è molto più avanti della parte digitale storicamente perché abbiamo avuto sempre investimenti magari non molto efficienti ma molti più investimenti in un sistema sanitario e nella ricerca rispetto a un sistema di difesa di cui ha derivata prima e sono ricadute diciamo nel campo delle tecnologie digitali l'inmezzo figure imprenditoriali e manageriali sono in grado di tradurre però l'aspettativa sul lato della ricerca non è che tanto il ricercatore o scienziato diventi imprenditore sono a facerlo scienziato ma la pretesa che comprenda di più il linguaggio che comprenda di più riesca a parlare meglio e più efficientemente il linguaggio dell'investitore dell'impresa in modo tale da agevolare la costituzione di imprese di spin off ed altro bene ad Alessandra che è il nostro modello di scienziata clinica imprenditrice che vede l'intera filiera e torniamo alle malattie ultra rare quindi quelle per le quali la logica di profitto non ci aiuterà mai perché sarà molto difficile che siano le dietitie per sé ma sono un obiettivo primario tu pensi che lo dico nel centro che stiamo costruendo ma in generale uno sforzo collettivo per cui diversi centri nel paese sviluppano in parallelo le tecnologie ne condividono l'uso in maniera tale che poi il costo effettivo e la capacità di utilizzare la capacità di utilizzare si aumenti ma il costo complessivo si riduca per un'azione che è un'azione disseminata tra centri che però condividono il know-how e questa è una possibile uscita è un po' il concetto dell'ombrello del avere un qualcosa di comune e di condivisibile e questo può valere sia per il corso di manufacturing quindi centralizzare un manufacturing che sia accademico e che diventi poi pubblico chiamiamolo così e che permetta la fattibilità di tutte le nostre singole indicazioni rare e ci permetta di portarle sul mercato ma vale anche poi nella fase regolatoria è quello che dicevi prima costruire dei pacchetti regolatori comuni centralizzare alcune attività la biodistribuzione i controlli di qualità e poi portarli fuori quindi costruire questi elementi di gestione comune di progetti diversificati e distribuiti sul territorio sicuramente ha senso ma credo che la chiave sia costruirli in una maniera che poi siano sostenibili nel tempo per far sì che poi quelle terapie che abbiamo sviluppato e che stiamo cercando di dare ai nostri pazienti a un certo punto non finiscano nel cassetto perché se questo succede è un po' la sconfitta che dobbiamo evitare che accada e quindi creare la sostenibilità di questi elementi di sostegno che permettono di superare appunto i bottlenecks e far sì che siano capaci di autofinanziarsi di trovare una modalità per renderli capaci di sopravvivere alla conclusione naturale di una fase di finanziamento che cercherà di mantenersi ma magari non potrà mantenersi allo stesso livello Allora io mi permetto proprio il professor Figorilli di andare un po' fuori tema e di capire un po' la parte di diritto e sociale cioè spesso chi è portatore di malattia rara ha una limitazione proprio nella propria vita ma limita anche la vita di chi gli sta vicino Allora lo Stato italiano da questo punto di vista cosa sta facendo cosa ha fatto anche in funzione rispetto ad altri paesi europei e non solo europei Ma io su cosa abbiano fatto gli altri paesi europei non so rispondere questo ve lo dico chiaramente la legge che ha sicuramente come dicevano gli addetti ai lavori nel corso del pre-meeting dei limiti comunque ha positivizzato come diciamo noi ha posto all'attenzione sul piano legislativo un problema però guardate anche qui quando parliamo di malattie rare in realtà assistiamo a uno scontro sembrano i polli di Renzo perché poi lo spostare l'attenzione giustamente il magnifico lettore diceva un po' meno di attività clinica e un po' più di applicazione se ho colto bene il messaggio sul piano della malattia rara però vedete è come per il covid alla fine assistiamo ai conflitti tra malattie con il covid al rettor va bene va bene adesso non lo so che c'è l'orticaria va bene va bene d'accordo allora lì c'erano i malati tra virgolette di serie A dettati dall'urgenza e tutti gli altri che sono rimasti indietro cioè alla fine assistiamo anche sul piano giuridico ha una lotta tra due portatori di diritto alla salute di diritti tra loro equi ordinati e fondamentali ecco perché va affrontato questo aspetto perché anche se costoso come hanno detto gli oratori precedenti e dopo in termini di ricaduta sociale la paghiamo forse in termini ancora più difficili dal punto di vista etico e morale ma anche dal punto di vista economico ecco perché la malattia rara deve trovare uno spazio che rimane tale dal punto di vista classificatorio ma che rara non dovrebbe essere e qui c'è la spiegazione del tutto però sono fatiche di sisifo queste veramente perché fan tremare le vene ai polsi a un mondo politico che mi sembra totalmente preso da altro grazie ma il professor Pellongo mi dice di chiudere ma lascerei la parola a te Salino visto che hai raccolto un po' di idee chiudendo spiegandoci un po' se il centro nazionale appunto recepisce tutte queste osservazioni che hai sentito qui oggi il centro nazionale nasce con questo principio nasce con l'idea che se tu non hai seminato e c'è una sola semina che è la scienza se tu non hai un campo ben seminato non raccogli niente se il campo è seminato forse forse può succedere qualcosa io ho cercato di stimolare tutti gli attori per dire che forse è il momento in cui un po' di coraggio e ottimismo dobbiamo averlo coraggio perché significa investire l'investimento che il governo sta facendo che sia un investimento importante coraggioso aver voluto di tutti i temi dell'ambito biometico che potevano essere oggetto di un investimento di sviluppo tecnologico aver scelto la terapia genica e le terapie innovative RNA è un indirizzo coraggioso e credo che noi questo lo dobbiamo raccogliere l'abbiamo voluto raccogliere e l'abbiamo voluto raccogliere perché siamo convinti che il substrato è maturo siamo convinti che ci sia conoscenza ci sia competenza ci sia esperienza anche nello sviluppo sicuramente nel campo della terapia genica questi esempi che già attivi l'eccellenza che l'Italia può vantare in questo ambito è un patrimonio ed è un patrimonio nazionale ma io credo che in quel campo che è più giovane perché è inevitabilmente più giovane ma è più giovane in tutto il mondo come quello delle nuove tecnologie RNA noi abbiamo la competenza scientifica per essere anche in questo competitivi quindi il raccogliamo un ambito e quindi cogliamo un investimento coraggioso col coraggio noi stessi quindi di direzionare a questo punto il nostro impegno l'impegno istituzionale l'impegno di scienziato stuzzicato anche l'impegno clinico verso questo obiettivo quindi verso il fatto di concretizzare di concretizzare avremo gli strumenti ma avremo gli strumenti perché abbiamo la competenza però come ho detto quando abbiamo iniziato questo percorso Roberto se lo ricorda perché c'era il tempo è adesso e nel momento in cui noi accettiamo la sfida mettiamo anche in gioco la nostra reputazione e la nostra credibilità se alla fine di questo percorso non sarà successo quello che abbiamo detto magari avremmo fatto della buona scienza ma non avremmo fatto quello per cui ci siamo impegnati sarà un fallimento per una volta la scienza da sola sarà un fallimento quindi io credo che noi dobbiamo avere coraggio il coraggio su questo tema l'ha mostrato il governo a scegliere di investire in questa direzione il coraggio l'abbiamo avuto noi Francesca se lo ricorda le prime discussioni a dicembre i colleghi pensare di costruire su un tema così innovativo in un tempo oggi lo possiamo dire impossibile perché costruire un progetto così visionario in due mesi coinvolgendo anche le industrie e abbiamo tutte le principali industrie a bordo e non non con un lettera di interessi quella che non si nega praticamente a nessuno ma con un impegno concreto con un investimento che le industrie fanno su questo centro ma io credo che mostri uno sforzo collettivo quindi Next Generation o il centro nazionale di per sé non è un valore è un valore se ci permette di portare a compimento quello che secondo me è maturo e io sono ottimista io credo che noi ce la possiamo fare è stato anche un devo dire un grande piacere io conosco molto bene ovviamente la nostra università conosco anche buona parte della nostra comunità scientifica però vederla rispondere tutta e vedere in tutto il paese un scienziato di grande valore che è un popolo che ha fatto Teleton Teleton è stata secondo me un esempio lo cito sempre quando è nata Teleton ha in qualche modo preso degli scienziati che stavano facendo dell'altro molto spesso e li ha focalizzati ha detto adesso la sfida è questa qui vi daremo la possibilità di fare buona scelta però rilevante a quello che ci interessa e un pochino abbiamo seguito questo modello abbiamo preso scienziati che avevano le competenze che avevano progetti mirati e gli abbiamo chiesto di entrare in un centro che avesse come obiettivo produrre un farco ripeto non fare buona scienza ma costruire farmaci innovativi e credo quindi che adesso bisogna lavorare grazie grazie a tutti allora grazie a tutti